Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. L'Italia negli anni della guerra fredda. In studio, Sergio Romano. Buonasera, parleremo per alcune serate di alcuni fra i principali avvenimenti degli ultimi 50 anni e della parte che l'Italia ha avuto in questi avvenimenti. Cercheremo in altre parole di ripercorrere mezzo secolo della storia del Novecento. E lo faremo partendo da un avvenimento che ha avuto una straordinaria importanza per l'Europa e per la sua ricostruzione economica dopo il conflitto. Parleremo del piano Marshall. Ora, queste parole, piano Marshall, sono diventate nel corso di questi ultimi anni una specie di terapia universale. Capita molto spesso di leggere o di ascoltare che occorre un piano Marshall per un paese distrutto o per un'area in pericolo. Mi ricordo che quando il Presidente del Consiglio d'allora, Ciriaco De Mita, venne a Mosca nell'ottobre del 1988, fece un discorso all'Accademia delle Scienze in cui disse che la Russia, l'Unione Sovietica allora si chiamava così, aveva bisogno di un piano Marshall. Più recentemente abbiamo sentito dire che occorre un piccolo piano Marshall per l'Abania e che ne occorre uno molto più grande per i Balcani. Insomma, si ha l'impressione che quando un uomo politico non sa esattamente che cosa dire di fronte a una grande catastrofe economica, sostiene e tira fuori la terapia universale del piano Marshall. Ebbene, noi questa sera parleremo del vero piano Marshall, di quello che fu proposto e adottato nel 1947. Ma per capire esattamente che cosa il piano Marshall abbia rappresentato nella storia d'Europa degli ultimi 50 anni, occorre fare un passo indietro e ricordarsi che cosa era l'Europa nel 1945, alla fine del conflitto. Era un continente distrutto, liberato ma distrutto. Per due anni era stato chiuso in una sorta di morsa, tra truppe che venivano dal sud, truppe che arrivavano dall'Occidente, dall'Oriente, lo sbarco in Normandia, i bombardamenti di Dresda e di Hamburgo. Chiunque appartenga alla mia generazione ha un ricordo preciso della distruzione delle città italiane in quegli anni. Io ricordo per esempio di essere arrivato a Milano nella primavera del 1944, di esservi tornato per la verità, di avere trovato una città letteralmente distrutta. La Repubblica Fascista faceva uso di queste distruzioni come di propaganda e su ogni casa distrutta, sulle mura delle case distrutte, vi era una scritta distrutta dai liberatori anglosassoni. Certamente Milano era allora in condizioni assolutamente disastrose. Queste condizioni erano in realtà le condizioni dell'intera Europa e che alcuni paesi erano stati letteralmente schiacciati dalle truppe in un senso e nell'altro occorreva ricostruire. Occorreva ricostruire in condizioni in cui i disoccupati erano milioni, in cui i reduci stavano tornando dai campi di concentramento, in cui mancava letteralmente tutto. I primi inverni, dopo la fine della guerra, furono per tutti coloro che abitavano in Europa in quegli anni, quale che fosse il paese di appartenenza, vincitore o vinto, furono letteralmente disastrosi. Noi, in particolare noi italiani, fummo salvati da alcune navi cariche di grano che furono improvvisamente dirottate verso i porti italiani su richiesta del Presidente del Consiglio per venire incontro ad esigenze che stavano diventando assolutamente impellenti. Alcune di queste navi provenivano dall'Argentina e fu proprio in quel momento, credo, che si stabilì un straordinario rapporto di cordialità fra l'Italia e l'Argentina. Di quel rapporto ebbe, tra l'altro, a beneficiare Vita Perón quando qualche anno dopo venne in Italia e fu accolta calorosamente, non soltanto perché era una bella donna, perché aveva un certo fascino, ma anche perché ricordava alla mente di molti italiani gli aiuti che la Repubblica Argentina aveva fornito all'Italia in quel periodo. Occorre ora ricordare quale fosse la situazione politica di quel periodo nell'immediato dopo guerra. La Germania era divisa, era stata in parte occupata dalle truppe sovietiche, in parte occupata dalle truppe occidentali e fu chiaro in quel periodo che l'Unione Sovietica intendeva imporre le sue regole e il suo regime a tutte le aree che erano state occupate dall'armata rossa. In alcuni paesi la situazione era particolarmente delicata. In Grecia, per esempio, vi era una terribile guerra civile, partigiani comunisti contro forze del governo. In Turchia vi era una situazione di forte tensione dovuta al fatto che l'Unione Sovietica pretendeva per sé alcune province turche. La Gran Bretagna, uscita vincitrice dalla guerra, potenza europea vittoriosa, avrebbe avuto l'obbligo in qualche modo di assicurare la stabilità, la sicurezza del continente, soprattutto di quella parte del continente che era stata occupata dalle forze anglo-americane. Ebbene, l'Inghilterra aveva il fiato corto. Nell'estate del 1945 gli inglesi avevano eletto un governo laburista il quale si era proposto di realizzare una vasta campagna, una vasta politica sociale la quale era naturalmente molto costosa. Servizio sanitario nazionale, nazionalizzazioni, tutto questo costava denaro. L'Inghilterra non era più in condizione di mantenere le forze armate necessarie per la garanzia e la sicurezza del continente. Allora il ministro degli esteri inglesi, un vecchio sindacalista, un uomo tozzo, grosso, sanguigno e molto intelligente di nome Bevin, si rivolse agli americani e disse «Tocca a voi occuparvi dell'Europa. Noi non ce la facciamo più, è necessario che voi prendiate sulle vostre spalle la responsabilità del continente». Il presidente degli Stati Uniti era in quel momento Truman, divenuto presidente alla morte di Roosevelt, era stato vicepresidente con Roosevelt. ebbene Truman, l'uomo che veniva dalla provincia americana e non aveva fatto fino a quel momento una particolare impressione sull'opinione pubblica del suo paese, decise di assumersi questa responsabilità. Il 12 marzo 1947 Truman andò alle Camere riunite in seduta comune e chiese 400 milioni di dollari per la Grecia e la Turchia. Le 400 milioni di dollari in quell'epoca erano infinitamente di più di 400 milioni di dollari oggi. Quella che fu annunciata quel giorno fu la dottrina Truman e fu un passo importante perché dimostrò che gli Stati Uniti erano decisi a intervenire attivamente nella politica europea per garantire la sicurezza, la stabilità e la ricostruzione del continente. Infatti fu la ricostruzione del continente, quello che divenne immediatamente dopo il principale punto all'ordine del giorno della vita politica americana. Gli americani ragionavano molto semplicemente in questi termini. Dicevano ci sono i comunisti in gran parte dell'Europa, ci sono dei partiti comunisti nell'Europa occidentale, questi partiti comunisti avranno un successo, cresceranno nella stima della pubblica opinione, soprattutto se potranno sfruttare la povertà e la miseria del continente europeo. Occorre quindi, questo è l'unico modo per combattere la minaccia comunista, dicevano gli americani, occorre quindi fare un forte investimento nella ricostruzione economica dell'Europa. E così il 5 giugno del 1947 il segretario di Stato George Marshall fece un discorso alla Università di Harvard. Disse la situazione mondiale è molto seria, i bisogni dell'Europa sono molto più grandi della sua capacità di pagamento. È necessario prevedere un aiuto supplementare, un aiuto gratuito e importante, altrimenti correremmo il rischio di una perturbazione sociale e politica molto grave. Questo fu il discorso che il generale Marshall fece il 5 giugno del 1947 all'Università di Harvard. Quel discorso segna l'inizio del piano Marshall. Il discorso di Marshall all'Università di Harvard fu certamente la più importante delle decisioni americane dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e segnalò l'intenzione decisa e ferma degli Stati Uniti di intervenire attivamente nella politica europea con un gesto anzitutto di straordinario buonsenso economico, la ricostruzione dell'Europa. E questo fu molto importante, ma fu molto importante anche perché fu, guarda caso, esattamente il contrario di ciò che gli americani avevano fatto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Prima Guerra Mondiale gli americani pretesero il pagamento delle somme di denaro che avevano prestato ai loro alleati nel corso del conflitto. Eravamo stati alleati, avevamo combattuto insieme contro un nemico comune, ma alla fine della guerra l'America preferì comportarsi da banchiere e chiese che tutto il denaro prestato le fosse restituito. E cominciarono allora dei negoziati molto lunghi e faticosi che si conclusero con degli accordi per la restituzione dei denari prestati. Questo fu necessario per l'Italia, per la Gran Bretagna, per la Francia e fu necessario perché il Congresso degli Stati Uniti aveva passato una legge sulla base della quale le banche americane non avrebbero prestato denaro se non ai paesi che avevano concluso un accordo per il pagamento dei debiti di guerra. Questa fu la politica degli Stati Uniti alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ebbene, alla fine della Seconda Guerra Mondiale la cambiarono totalmente. Non soltanto non pretesero denari, ma annunciarono che avrebbero loro stessi dato somme di denaro molto importanti gratuitamente ai paesi dell'Europa, di tutta l'Europa per la loro ricostruzione. Cominciò subito una frenetica attività diplomatica. Il ministro degli esteri francese, il ministro degli esteri inglese consultarono i sovietici, fece l'oppressione sui sovietici perché anche l'Europa centro-orientale occupata dall'armata rossa aderisse alla offerta americana e tutta insieme l'Europa collaborasse a utilizzare al meglio i fondi predisposti dal governo degli Stati Uniti. Ma l'Unione Sovietica vide naturalmente dell'offerta americana il tentativo di interferire nelle vicende politiche dell'Europa e temette che i soldi degli americani non le avrebbero permesso di dominare come desiderava l'Europa centro-orientale quindi non soltanto non volle utilizzare i denari offerti dagli Stati Uniti ma non volle nemmeno che i paesi da lei occupati li utilizzassero. Vi fu per la verità un caso abbastanza interessante quello della Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia avrebbe volentieri aderito al piano Marshall e anzi a un certo punto nominò persino una delegazione per una conferenza che si tenne a Parigi destinata per l'appunto alla ripartizione degli aiuti ma il primo ministro cecoslovacco fu convocato a Mosca e gli fu detto perentoriamente che la Cecoslovacchia non avrebbe potuto e dovuto partecipare al piano Marshall. Un altro paese fu costretto a non accettare fu la Finlandia la quale disse che rifiutava per ragioni politiche e geografiche. ecco questo fu l'inizio del piano Marshall naturalmente la cosa importante era quella di utilizzare bene il denaro di far sì che il denaro diventasse determinante per la ricostruzione economica dell'Europa. Occorreva quindi un'organizzazione una specie di luogo di cassa di compensazione in cui queste somme di denaro fossero non soltanto distribuite equamente ma anche in modo per quanto possibile coordinato. Nacque così a Parigi la prima grande organizzazione internazionale del dopoguerra l'Oece l'organizzazione per la cooperazione economica europea. L'Oece si mise immediatamente al lavoro il denaro cominciò ad affluire quanto denaro? 17 mila milioni di dollari ed erano 17 mila milioni di dollari di allora tutti ebbero somme importanti l'Italia la Francia la Gran Bretagna in parte la Germania occidentale furono certamente i paesi che ne trassero i vantaggi maggiori se noi potremmo ricostruire le nostre fabbriche se noi potremmo ricreare le infrastrutture distrutte dalla guerra le linee ferroviarie i porti gli aeroporti lo dobbiamo per l'appunto a quella provvidenziale offerta di denaro che ci venne in quegli anni lo ECE l'organizzazione economica per la collaborazione europea ebbe una parte fondamentale in questa vicenda perché fu in qualche modo il primo tentativo di creare una collaborazione istituzionale fra i paesi europei molto di ciò che fu fatto negli anni seguenti sulla strada dell'integrazione europea nasce proprio a Parigi in quegli anni e a Parigi che si comincia a delineare un processo di integrazione europea di cui noi abbiamo visto poi le conseguenze in questi ultimi tempi con la nascita del mercato unico e della moneta unica dell'unione economico monetaria ripeto per l'Italia fu una straordinaria manna perché l'Italia aveva in quel periodo una straordinaria voglia di lavorare ancora una volta le persone della mia generazione uomini e donne ricordano con quale entusiasmo gli uomini si misero al lavoro e cercarono non soltanto di ricostruire le loro città distrutte ma anche di mettersi in condizione di vivere degnamente decorosamente e di crescere economicamente credo sia molto opportuno ricordare tutto questo perché questo ci serve a comprendere come le espressioni piano Marshall che vengono così frequentemente utilizzate in questo periodo siano abbastanza tutto sommato inopportune e scorrette il piano Marshall funzionò nel 1947 fra il 1947 e la fine degli anni 40 soprattutto perché cadde su un terreno pronto ad accoglierlo andò a paesi che avevano una straordinaria voglia di ricostruire la loro economia e di camminare sulla strada del progresso civile ed economico e cadde su paesi naturalmente che avevano anche tutte le strutture legali culturali necessarie per ricevere il denaro e fare buon uso di quel denaro quando noi parliamo dell'utilizzo del piano Marshall nell'Europa centro orientale dimentichiamo naturalmente che in quei paesi non vi è stata per molto tempo economia di mercato che i diritti di proprietà il codice civile il codice commerciale sono in gran parte ignoti quantomeno nelle forme che sono conosciute e tradizionali nelle democrazie occidentali quindi attenzione a parlare troppo di piano Marshall ogni qualvolta leggete sui giornali l'espressione piano Marshall pensate piuttosto a quello che fu nel 1947 buonasera ci sentiremo alla prossima puntata alle 8 della sera ovviamente su radio 2 e l'argomento della prossima puntata sarà un avvedimento che si produsse esattamente un anno dopo il piano Marshall la nascita dello Stato di Israele alle 8 della sera 27 dicembre 1999 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Buonasera parleremo oggi di quello che fu certamente negli anni 40 l'avvenimento più importante sul piano simbolico e morale la nascita dello Stato di Israele ma la nascita dello Stato di Israele naturalmente comincia molto tempo prima comincia alla fine dell'ottocento quando un grande intellettuale austriaco di origine ungherese Theodor Herzl fondò un movimento che si definì sionista Herzl era un giornalista un commediografo brillante era stato a Parigi negli anni del caso Dreyfus il capitano francese ebreo accusato di spionaggio ed era stato profondamente scioccato dalla cerimonia in un grande cortile di un palazzo militare di Parigi quando al povero Dreyfus era stata spezzata la lancia in segno di disonore da quel momento Herzl concepì il disegno di uno Stato ebraico in cui gli ebrei soprattutto quelli perseguitati dell'Europa centro-orientale avrebbero potuto trovare una patria fu un disegno nazionale un disegno per certi aspetti ispirato dalle idee di Giuseppe Mazzini ebbene quel tentativo di Herzl procedete all'inizio con grande lentezza furono relativamente pochi gli ebrei che decisero di trasferirsi in Palestina per crearvi delle colonie per diventare il nucleo iniziale di quello che sarebbe stato un giorno lo Stato di Israele un primo progresso accadde durante la prima guerra mondiale quando il governo inglese decise di promettere agli ebrei con una solenne dichiarazione che alla fine del conflitto avrebbero trovato in Palestina un focolare una casa questa era l'espressione usata nella dichiarazione di Balfour la Palestina apparteneva allora all'impero ottomano quando finì la prima guerra mondiale l'impero ottomano si frantumò la Gran Bretagna divenne la potenza mandataria della Palestina e toccò a lei in altre parole cominciare a mantenere la promessa che il suo governo aveva fatto agli ebrei durante il conflitto per la verità la Gran Bretagna non aveva l'intenzione di mantenerla al 100% quella promessa non desiderava fare una politica di amicizia nei confronti degli arabi sapeva che l'arrivo dei coloni ebrei era considerato dagli arabi come un'interferenza nella loro società e allora si barcamenò per molti anni cercando di far qualcosa per gli uni e qualcosa per gli altri fino al 1933 quando l'avvento di Hitler al potere naturalmente scatenò la grande persecuzione ebraica in Germania e in Palestina cominciarono allora ad arrivare a un numero più consistente di rifugiati ebraici ecco nel 1938 vivevano in Palestina 989.500 arabi e 401.000 ebrei nel 1945 alla fine della guerra gli arabi erano diventati 1.240.850 gli ebrei erano di poco superiori a quelli dell'anteguerra 553.600 questo era il rapporto fra arabi ed ebrei alla fine della seconda guerra mondiale ma gli ebrei naturalmente erano ora molto più decisi a reclamare uno stato per se stessi perché avevano sofferto le persecuzioni naziste perché molti di loro circa 6 milioni erano morti nei campi di concentramento della Germania e delle zone occupate dell'Europa centro orientale coloro che erano sopravvissuti naturalmente molti di essi emigrarono verso la Palestina e comunque chiesero chiesero con maggiore fermezza con maggiore decisione che si desse loro ciò che Theodor Herzl aveva chiesto alla fine dell'Ottocento uno stato ebraico uno stato sionista ancora una volta gli inglesi fecero quello che avevano sempre fatto cercarono di barcamenarsi di fronte a queste richieste contraddittorie degli ebrei che volevano lo stato degli arabi che non volevano gli ebrei a casa loro la Gran Bretagna dicevo cercò di barcamenarsi vi fu una commissione di inchiesta anglo-americana la quale propose sì che gli ebrei potessero un giorno emigrare liberamente verso la Palestina ma propose altresì la continuazione del mandato britannico sulla Palestina gli arabi non accettarono questa prospettiva gli ebrei stessi non ne furono soddisfatti insomma gli inglesi cominciarono ad avanzare altre proposte fra cui la divisione della Palestina in quattro distretti insomma vi fu una lunga frenetica attività diplomatica fra il 1945 e il 1947 che non produsse sostanzialmente alcun risultato nel frattempo gli ebrei premivano e non premivano soltanto con le pubbliche dichiarazioni non premivano soltanto con l'azione diplomatica premivano anche con il terrorismo vi fu in quegli anni un terrorismo ebraico uno dei fatti più clamorosi fu la bomba che fece saltare una larga parte del maggiore albergo di Gerusalemme il King David in cui alcune decine di ufficiali e militari britannici perdettero la vita vi fu persino un attentato terroristico a Roma sì anche a Roma vi fu un attentato terroristico di una delle maggiori organizzazioni ebraiche l'Irgon Zvail Eumi diretto contro l'ambasciata di Gran Bretagna a Portapia saltò in aria durante la notte e Pietro Nenni allora ministro degli esteri il leader socialista si precipitò immediatamente sul luogo del disastro era molto preoccupato temeva che gli inglesi attribuissero quella bomba all'Italia a quelle forze politiche della società italiana che erano contrarie al trattato di pace e quindi naturalmente anti-britannica era così preoccupato che si precipitò sul luogo dell'attentato per spiegare subito agli inglesi che non poteva esservi una responsabilità italiana comunque non vi furono dubbi era certamente un attentato dell'organizzazione ebraica ergo insomma dopo tante difficili trattative diplomatiche la questione ebraica e la questione palestinese finirono all'ONU la quale creò un'assemblea come sempre accade in queste circostanze una commissione d'inchiesta e questa commissione d'inchiesta propose la divisione della palestina in due stati uno stato arabo e uno stato ebraico e propose al tempo stesso che Gerusalemme diventasse zona internazionale quanto alla Gran Bretagna avrebbe mantenuto il suo mandato per due anni e poi se ne sarebbe andata il 29 novembre del 1947 questa proposta fu accettata dall'ONU ma gli stati arabi si opposero e ancora una volta si ricominciò da capo non vi era un accordo bisognava cercarne un altro e la questione venne sottomessa all'ONU la quale come sempre accade in queste circostanze costituì una commissione d'inchiesta e questa commissione d'inchiesta propose la divisione della palestina in due stati e la internazionalizzazione di Gerusalemme quanto alla Gran Bretagna avrebbe mantenuto il mandato per altri due anni era il 29 novembre del 1947 quando questa proposta fu finalmente accettata dall'ONU nonostante l'opposizione degli stati arabi comunque i due stati ormai quantomeno sulla carta esistevano e furono riconosciuti dalle Nazioni Unite io ricordo di aver visto una volta al cremlino Gromico che in quegli anni era stato rappresentante dell'Unione Sovietica all'ONU quando lo vedi naturalmente negli anni 80 era presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica vale a dire capo dello Stato e a un certo punto poiché si parlava di Israele Gromico alzò drammaticamente la mano destra e disse a noi che lo stavamo ad ascoltare ecco vedete questa mano disse Gromico con questa mano io ho approvato il piano di spartizione io ho approvato lo Stato di Israele la nascita dello Stato di Israele Gromico voleva in altre parole essere considerato un po' come il padre fondatore dello Stato di Israele ma gli arabi come vi ho detto non erano d'accordo e l'ONU si trovò ancora una volta alle prese con una situazione difficilmente risolvibile sul terreno scoppiò immediatamente la prima guerra arabo-israeliana scesero in campo contro il nuovo Stato di Israele tutti gli arabi della regione tutte le forze arabe della regione si coalizzarono per distruggere sul nascere lo Stato appena approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite gli israeliani non avevano un esercito non lo avevano ancora avevano tuttavia un'organizzazione militare che avevano costituito nel corso degli anni precedenti e che si chiamava Agana e questa organizzazione militare era armata con materiale soprattutto americano e ciecoslovacco sì proprio ciecoslovacco questo vi dà la misura dell'appoggio di cui lo Stato di Israele godette all'inizio sia in America sia nei paesi cosiddetti socialisti comunisti perché perché l'Unione sovietica considerava che la nascita dello Stato di Israele fosse tutto sommato una buona cosa sarebbe stata una spina nel fianco dell'impero britannico un intralcio alla sua politica filoaraba quindi molte delle armi di cui si servirono per combattere gli arabi gli israeliani nel 1948 furono armi provenienti dalla cecoslovacchia un professore israeliano allora semplice ufficiale dell'esercito israeliano di origine italiana Vittorio Dan Segre racconta di essere stato con alcuni suoi uomini in cecoslovacchia in quei mesi proprio per ricevere le armi e addestrare i suoi uomini all'uso di queste nuove armi insomma gli israeliani partirono con una forza minore per numero ma certamente ben attrezzata molto disciplinata e ben decisa a difendere il territorio nazionale appena conquistato e la guerra volse rapidamente in loro favore nel giro di qualche mese si constatò che gli arabi benché numerosi per forze erano inadatti a fronteggiare un piccolo popolo bene armato e deciso a difendere la propria patria fu così che gli israeliani riuscirono a cacciare gli arabi da buona parte del territorio che era stato assegnato originalmente allo stato arabo e riuscirono ad allargare i confini del territorio che era stato assegnato allo stato israeliano purtroppo nel corso delle operazioni militari accade che gran parte delle popolazioni circa 800.000 si calcola dovettero abbandonare i loro territori vi fu una sorta di esodo umano rappresentato per l'appunto da quegli arabi che di fronte alla guerra abbandonarono il territorio e gli israeliani naturalmente favorirono quella partenza perché credettero che sarebbe stato più facile governare uno stato in cui il numero degli arabi fosse minore e rifiutarono da allora di accogliere di ritorno i rifugiati se non in una misura strettamente limitata si calcola per l'appunto che i rifugiati complessivamente si aggirino fra il 500.000 e un milione fra il maggio del 1948 e il 1950 lo stato di israele raddoppiò la sua popolazione passò da 650.000 abitanti a 1.200.000 aveva fatto il suo primo passo decisivo nella vita internazionale nella nascita dello stato di israele l'italia non ebbe una grande parte non facevamo parte dell'onu avevamo da poco firmato il trattato di pace eravamo ancora considerati un paese in libertà vigilata sottoposto alla sorveglianza dei vincitori non avevamo certo il peso il prestigio l'autorità per poter influire su avvenimenti che pure erano mediterranei quindi di diretto interesse per la nostra vita e per il nostro futuro però per certi aspetti l'Italia ebbe una parte fu il terreno di transito per molti ebrei che fra il 1945 e il 1947 spesso sfidando il blocco inglese raggiunsero la Palestina erano ebrei che provenivano dall'Europa centroorientale che provenivano dai campi di concentramento quelli che erano sopravvissuti ai campi quelli che si erano nascosti ebrei che emergevano da anni di sofferenze che tornavano alla luce dopo aver passato la guerra in nascondigli segreti o peggio ancora naturalmente nei campi di concentramento ebbene io quegli ebrei li ho visti ne ho un ricordo personale io ero in quegli anni facevo l'ultimo anno di liceo al liceo Beccaria di Milano in piazza Missori e nella piazza di dietro in piazza Santa Alessandro vi era un ufficio un ufficio di passaggio un ufficio per gli ebrei che venivano dal nord ed erano raccolti a Milano e poi smistati verso i porti dell'Italia del sud per passare in Palestina cominciai a capire che qualche cosa stava succedendo in quella piazza queste persone spesso diverse per gli abiti che indossavano per le espressioni del volto che si erano sempre più numerose evocarono le immagini di un mondo che io non conoscevo e di cui avevo scarsissime conoscenze ebbene chiesi mi spiegarono mi dissero che erano ebrei che provenivano dalla Germania centro orientale mi dissero che era loro intenzione andare in Palestina li vidi ogni volta che andavo a scuola per alcuni mesi poi non li vidi più erano partiti molti di essi erano certamente giunti molti di essi i più giovani hanno combattuto tutte le guerre arabo-israeliane da allora e sono cittadini di un grande stato ebraico lo stato di Israele ci sentiremo la prossima puntata alle 8 della sera come sempre su Radio 2 e il prossimo argomento sarà la nascita del patto atlantico vale a dire della Nato alle 8 della sera 28 dicembre 1999 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Buonasera parleremo questa sera della nascita dell'alleanza atlantica del patto atlantico di quello che viene normalmente definito anche se impropriamente la Nato e ancora una volta naturalmente occorre cercare di ritornare con il pensiero e con il ricordo a quegli anni nell'immediato dopoguerra in cui la situazione fu sul piano politico e politico-militare estremamente tesa qualche volta pericolosa e rischiosa ne abbiamo già parlato quando abbiamo trattato il tema del piano Marshall l'Europa era divisa in due ormai l'armata rossa aveva occupato larghe zone dell'Europa centro-orientale gli inglesi e gli americani erano presenti con le loro truppe d'occupazione nell'Europa meridionale e centro-occidentale poi a un certo punto gli americani se ne andarono pur rimanendo naturalmente in Germania se ne andarono tra l'altro dall'Italia ma la situazione col passare del tempo divenne sempre più tesa e cominciò quello che venne definito una guerra fredda si parlò di un sipario di ferro fu Winston Churchill in un discorso in un'università americana disse un sipario di ferro è calato sull'Europa e intendeva per l'appunto dire quella divisione che si era ormai manifestata visibile tangibile fra il blocco occidentale delle democrazie occidentali e il blocco dell'Unione Sovietica e dei paesi conquistati dall'armata rossa nel corso del conflitto nella Germania orientale in particolare l'Unione Sovietica non esitò a instaurare molto rapidamente un regime per quanto possibile simile al regime sovietico in questa situazione i rapporti divennero sempre più tesi sempre più difficili uno dei punti più caldi fu per alcuni mesi la Cecoslovacchia dove nel febbraio marzo del 1948 i comunisti conquistarono il potere con un colpo di mano un colpo di stato fu così definito ottennero il potere si occuparono i ministeri più delicati più cruciali fra cui il ministero dell'interno e gradualmente stromessero i loro avversari qualcosa del genere i sovietici cercarono di fare a Berlino nella tarda primavera del 1948 la Germania vi ho detto era divisa in quattro settori un settore sovietico un settore americano un settore inglese un settore francese Berlino capitale della Germania era a sua volta divisa in quattro settori sovietico americano inglese e francese ma Berlino era collocata all'interno del settore sovietico in altre parole gli occidentali presenti nei settori occidentali di Berlino per comunicare con i settori occidentali della Germania dovevano necessariamente attraversare una parte di territorio tedesco controllato dall'unione sovietica e su questo problema delle comunicazioni sorse la prima grande crisi di Berlino quella del 1948 la crisi scoppiò nel momento in cui gli occidentali cercarono di dare una sistemazione all'economia dei loro settori tedeschi introducendo una nuova moneta il marco per l'appunto il marco tedesco qualche cosa del genere fecero quasi subito dopo i sovietici nella loro zona fu chiaro ormai che la Germania occidentale e la Germania orientale stavano rapidamente progredendo verso una separazione totale e fu in quel momento che i sovietici improvvisamente bloccarono chiusero la comandantura che cos'era la comandantura era il palazzo dove si riunivano i rappresentanti delle quattro potenze occupanti e gestivano insieme i problemi della città occupata chiudere la comandantura significava semplicemente che i sovietici da quel momento avrebbero rifiutato di collaborare con gli occidentali e avrebbero mantenuto nei confronti delle forze occidentali un atteggiamento di ostilità immediatamente dopo bloccarono gli accessi a Berlino in altre parole nessuno occidentale avrebbe più potuto lasciare la città senza il permesso delle autorità sovietiche fu quello il momento più delicato e più critico qualcuno allora pensò che ci fosse nuovamente alle soglie di un conflitto qualcuno forse addirittura lo sperò perché credete che in quel modo si sarebbe risolto una volta per tutte il conflitto con l'unione sovietica prevalse una politica più accorta più cauta più moderata ma altrettanto ferma e altrettanto decisa gli occidentali rifiutarono di accettare il blocco di Berlino rifiutarono soprattutto di sottoporsi alle nuove regole che i sovietici avrebbero potuto voluto imporre per la comunicazione con i settori occidentali della Germania e fecero l'unica cosa che fosse in loro potere fare crearono un ponte aereo decisero di rifornire i settori occidentali della città con un ponte aereo gli aerei cominciarono a giungere a Berlino e toccarono molto rapidamente il tasso di un aereo ogni tre minuti io ero a Londra in quel periodo ricordo bene quando un giornalista della BBC ero anch'io alla BBC in quel periodo fu invitato a andare a Berlino con uno di quegli aerei e raccontò a tutti noi al suo ritorno quale straordinaria esperienza avesse avuto volando su un aereo che era preceduto da un altro e seguito da un altro in una continua sequenza di aerei che atterravano sui vari aeroporti della città il primo di quegli aerei si è detto tra parentesi trasportava guarda caso dell'uva passa uva passa in tedesco si dice rosinen e allora i berlinesi che hanno un forte senso dell'umorismo e che hanno sempre dimostrato di saper vivere anche nelle peggiori strettezze e nelle situazioni più complicate definirono quegli aerei gli aerei delle rosinen gli aerei dell'uva passa il costo di questo ponte aereo fu notevolissimo 300 milioni di dollari l'anno anche se pur sempre soltanto meno dell'1% meno della metà dell'1% del bilancio americano ma in un mese potevano viaggiare 5.000 tonnellate raddoppiabili fino a 10.000 tonnellate insomma quello del ponte aereo fu una straordinaria dimostrazione di solidarietà e di forza grazie al ponte aereo l'occidente vinse in quel periodo una grande battaglia morale conquistò la simpatia l'ammirazione dell'intera città di Berlino e di una larga parte dell'opinione pubblica del mondo occidentale insomma il ponte aereo di Berlino fu una battaglia della guerra fredda la prima grande battaglia della guerra fredda e certamente una vittoria dell'occidente a quel punto tuttavia occorreva in qualche modo organizzare l'occidente anche politicamente anche militarmente subito dopo la guerra erano stati firmati una serie di patti militari era stato firmato il patto franco-inglese di Dunkirk e nel marzo del 1948 gli inglesi e i francesi avevano cooptato all'interno di un nuovo patto anche i belgi gli olandesi e i lussemburghesi questi patti militari erano teoricamente rivolti contro la Germania contro la possibilità di un riarmo tedesco in realtà erano indirizzati contro l'Unione Sovietica ma dopo il blocco di Berlino e i sovietici a un certo punto ammisero che non potevano più mantenere il blocco di Berlino e quindi sospesero le loro misure dopo la vittoria dell'Occidente nel blocco aereo di Berlino fu deciso che questi patti militari non erano più sufficienti che occorreva fare qualche cosa di più impegnativo che occorreva soprattutto coinvolgere gli Stati Uniti nella difesa dell'Europa occidentale e ancora una volta furono gli inglesi a intervenire presso gli Stati Uniti come all'epoca della dottrina Truman nel 1947 perché gli Stati Uniti si addossassero questa responsabilità europea l'uomo che era allora ministro degli esteri era Bevin questo uomo grosso sanguigno grande sindacalista nel corso degli anni venti e trenta reduce da epiche battaglie sindacali il quale nel corso della guerra aveva fatto parte del governo Churchill ed era allora ministro degli esteri nel governo laburista ebbene Etli cominciò a esercitare un'opera di persuasione e di pressione sugli americani affinché si assumessero la responsabilità di un'alleanza politico-militare in cui gli Stati Uniti fossero impegnati per la difesa e la sicurezza dell'Europa occidentale gli americani compresero che non potevano rifiutarsi e cominciarono così i negoziati a Washington per la creazione di quello che fu poi definito il patto atlantico con il patto atlantico firmato nell'aprile del 1949 a Washington nasce un'alleanza in cui gli americani sono naturalmente la parte dominante e in cui gli americani assumono un impegno in tempo di pace che mai prima di allora avevano assunto nel corso della loro storia il patto atlantico è da questo punto di vista una straordinaria novità è la rinuncia a quel tradizionale isolazionismo che aveva caratterizzato nei decenni precedenti la politica estera degli Stati Uniti di fronte alle minacce della guerra fredda gli americani rovesciano la loro posizione e diventano politicamente e militarmente impegnati sin dal tempo di pace nel continente europeo e ancora una volta l'uomo che ne è politicamente responsabile è Harry Truman il successore di Roosevelt l'uomo che era apparso alla vita politica americana un grigio personaggio dell'America provinciale addirittura di lui circolava la fotografia degli anni in cui era semplicemente impiegato in un negozio di articoli di articoli domestici se non sbaglio di camice mi pare che fossero quelle il settore in cui lui era attivo in quel periodo ebbene Truman divenne un uomo politico di straordinaria levatura e di grandi prospettive il patto atlantico è in gran parte la sua creazione resta da dire quale fosse la posizione dell'Italia in questi frangenti in queste vicende in Italia si votò nell'aprile del 1948 il presidente del consiglio era Cide De Gasperi il ministro degli esteri era Carlos Forza in quel periodo alla vigilia delle elezioni del 1948 molte pressioni furono fatte soprattutto da parte americana perché il governo italiano si schierasse chiaramente su un piano politico a fianco delle democrazie occidentali ma Cide De Gasperi preferì tergiversare preferì rinviare una decisione a un periodo successivo temeva che la campagna elettorale se fosse stata combattuta su temi di politica internazionale sarebbe diventata incandescente e avrebbe reso la vittoria della democrazia cristiana molto più difficile si comportò quindi con grande prudenza e evitò che di quei temi si parlasse alla vigilia delle elezioni e durante la campagna elettorale la campagna elettorale si concluse con le elezioni del 18 aprile 1948 che dettero come noto la maggioranza assoluta alla democrazia cristiana terminate le elezioni De Gasperi riprese in mano il filo della politica estera e giunse con Carlo sforza alla conclusione che l'Italia non poteva difendersi da sola non ne aveva la possibilità non aveva i mezzi non aveva le forze armate e la presenza di un forte partito comunista all'interno della società italiana rendeva la posizione italiana particolarmente delicata e particolarmente vulnerabile occorreva quindi contare sulla protezione di paesi più forti fu in questo spirito che De Gasperi decise la candidatura dell'Italia al patto atlantico ma la situazione nel frattempo era cambiata l'aspetto paradossale dell'intera vicenda fu che gli Stati Uniti dopo avere in una prima fase corteggiato l'Italia cominciarono ad esprimere parecchie riserve sulla possibilità di una candidatura italiana erano preoccupati perché temevano di dover estendere troppo l'area delle garanzie militari che l'America avrebbe dato ai paesi associati nel patto atlantico perché temettero che l'Italia fosse in altre parole anche se non lo dissero esplicitamente una palla al piede quindi dopo avere lungamente tergiversato e poi desiderato l'adesione al patto atlantico il governo italiano si trovò improvvisamente una porta se non chiusa certamente socchiusa e allora che cosa accadde? accadde per fortuna che venne in nostro aiuto la Francia la Francia decise che aveva bisogno dell'Italia perché aveva bisogno di un paese mediterraneo desiderava che gli americani assumessero delle responsabilità anche nei confronti del Mediterraneo e se l'Italia avesse fatto parte del Mediterraneo questo avrebbe garantito alla Francia proprio quell'impegno americano nel Mediterraneo che essa desiderava e fu così che grazie all'intervento della Francia noi riuscimmo ad ottenere l'adesione al patto atlantico ma non tutti i problemi erano risolti i problemi grossi furono ancora una volta in Italia dove fu necessario De Gasperi e Sforza dovettero affrontare il problema in Parlamento dove si scontrarono con una fortissima opposizione del partito comunista del partito socialista e anche di una parte della democrazia cristiana la democrazia cristiana di sinistra che era profondamente ostile ad un impegno politico militare soprattutto con gli Stati Uniti fu una lunga e difficile battaglia il dibattito in Parlamento si protrasse per molte ore in una situazione di grande tensione politica Nenni scrisse e pronunciò in quella in quell'occasione parole di fuoco contro quello che egli definiva il cappio delle alleanze finalmente il Parlamento votò votò per la ratifica del patto atlantico l'Italia divenne da quel momento membro dell'alleanza e non divenne soltanto membro dell'alleanza ma uscì in quel modo anche da quella specie di limbo in cui si era lungamente trovata dopo la fine della guerra paese non del tutto sconfitto certamente non vincitore considerato dagli alleati occidentali con un certo riserbo con una certa reticenza finalmente divenne a tutti gli effetti un paese alleato per noi l'alleanza atlantica fu una specie di esame di passaggio un esame di maturità buonasera ci sentiremo alla prossima puntata alle 8 della sera ovviamente su radio 2 e il tema della prossima puntata sarà la nascita di un altro stato nel secondo dopoguerra molto più grande dello stato di israele la repubblica popolare cinese alle 8 della sera 29 dicembre 1999 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di sergio romano regia di giancarlo simoncelli a cura di angela zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it fabio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano buonasera parleremo questa sera della nascita di un grande stato nel mondo del secondo dopoguerra la repubblica popolare cinese che nacque per l'appunto a Pechino il primo ottobre 1949 ma anche la storia della nascita dello stato comunista cinese è una storia lunga che comincia molti anni prima comincia molto probabilmente a Shanghai nel 1927 quando i comunisti dopo avere lungamente collaborato con i nazionalisti i nazionalisti del partito detto Kuomintang diretto da Chiang Kai-shek avevano cercato di impadronirsi della città per creare a Shanghai una sorta di piccola repubblica comunista il loro tentativo fallì e quella storia per gli ascoltatori che vogliono un libro in cui essa sia raccontata in modo straordinariamente attraente sul piano letterario possono leggere un romanzo di André Malraux che si intitola La condizione umana Shanghai quindi per i comunisti cinesi fu una battaglia perduta dovettero rinunciare alla nascita della piccola repubblica comunista di Shanghai furono sconfitti in altre città in cui avevano cercato di impadronirsi del potere dovettero fuggire si riunirono insieme a nord della provincia di Fukien dove crearono un piccolo stato comunista governato dal loro partito e dall'esercito quindi ebbero sì un piccolo territorio su cui piantare la loro bandiera ma le loro maggiori aspirazioni andarono deluse e frustrate i comunisti rimasero in quel territorio del Fukien fino all'ottobre del 1934 quando si misero in cammino per una lunga marcia così fu definita in diagonale verso Yenang nella parte nord-occidentale del paese fu quello il momento in cui riapparsero sulla scena politica nazionale e dimostrarono di essere ancora una forza importante per il destino del paese e così continuò fino al momento del 1937 quando i giapponesi invasero la Cina l'invasione giapponese della Cina fu un avvenimento straordinariamente traumatico per il paese il comportamento delle truppe giapponesi a Nanchino fu certamente condannabile esecrabile un libro recente il Ratto di Nanchino racconta storie orribili sull'invasione giapponese della Cina e in particolare sull'occupazione della città di Nanchino di fronte a un tale trauma di fronte a una tale minaccia all'identità nazionale cinese i comunisti e i nazionalisti di Chiang Kai-shek decisero di allearsi nuovamente di collaborare insieme contro il nemico comune fu tuttavia un matrimonio di convenienza ciascuno dei due combatteva per proprio conto senza rinunciare al controllo del proprio territorio e soprattutto con la intenzione di riprendere le armi non appena avesse avuto l'occasione di perseguire i propri fini e i propri obiettivi ma chi erano questi comunisti cinesi chi erano le persone che in quegli anni si stavano per così dire preparando alla conquista del potere e a esercitare l'autorità sul più vasto paese del mondo chi erano dunque i comunisti cinesi ecco la domanda a cui dovremmo cercare di rispondere erano persone che provenivano dalle più diverse classi sociali contadini piccoli borghesi medio borghesi alcuni di essi erano stati borsisti in Europa nel periodo precedente la prima guerra mondiale e successivo alla prima guerra mondiale altri attratti dal modello sovietico erano stati in unione sovietica negli anni venti e lì si erano addestrati alle scuole di partito o sei militari avevano fatto il loro apprendistato nelle accademi militari dell'unione sovietica Mao Tse Tung il loro leader era figlio di un contadino della provincia di Hunan a un giornalista americano che lo intervistò durante la lunga marcia disse che aveva scoperto il comunismo quando era bibliotecario dell'università nazionale di Pechino nel 1920 un anno prima della fondazione del partito il partito comunista cinese fu fondato nel 1921 esattamente come il partito comunista italiano altri ripeto si erano convertiti al marxismo o in Europa o addirittura in Cina nelle istituzioni del vecchio regime un grande comunista Chu Enlai poi ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare Cinese fino alla morte era stato a Parigi aveva lavorato in una fabbrica di automobili la Renault Deng Xiaoping il grande riformatore che nel 1978 lanciò la politica delle quattro modernizzazioni e che divenne per così dire il padre della Cina moderna di quella che cresce oggi economicamente ha una media del 9% l'anno Deng Xiaoping aveva fatto studi universitari in Francia a Lione Lin Piao invece comandante d'armata più tardi ministro della difesa si era diplomato in un'accademia militare cinese Liu Shaoqi vicepresidente del partito poi presidente della Repubblica Popolare Cinese era stato studente a Mosca insomma avevano una formazione internazionale erano diventati marxisti vuoi studiando vuoi lavorando nelle fabbriche erano tuttavia prevalentemente degli intellettuali e dei militari di estrazione contadina e borghese in quella piccola repubblica sovietica del Fukien avevano fatto pratica di amministrazione politica e militare si erano in qualche modo addestrati al compito di uomo di stato quello che aveva maggior fascino quello che certamente esercitava sui suoi compagni una sorta di straordinaria attrazione intellettuale era Mao Mao si era imposto su tutti per il suo fascino per la sua durezza per i suoi gusti letterari per le sue personali teorie rivoluzionarie addirittura per le poesie che scriveva ma quello dello scrivere poesie è una tradizione molto fortemente radicata nella storia della classe politica e della classe dirigente cinese pochi uomini politici hanno resistito alla tentazione di esprimere in versi le loro opinioni e emozioni conviene dire tuttavia che Mao fra tutti non era il peggiore dei poeti di estrazione politica comunque Mao fu certamente quello che capì il problema cinese sapeva che la rivoluzione comunista in Cina avrebbe dovuto tener conto principalmente del fatto che la Cina aveva poche industrie poche commercio e una straordinaria enorme classe contadina la rivoluzione cinese disse un giorno non sarà proletaria sarà contadina in questo modo i comunisti cinesi riuscirono a conquistare la simpatia e il consenso di una parte delle popolazioni dei territori da loro occupati e questa simpatia e questo consenso furono rafforzati dal modo in cui si condussero durante la guerra combatterono con fermezza con decisione ispirarono ripeto grande simpatia quando terminò la guerra quando il Giappone fu sconfitto scoppiò inevitabilmente la guerra civile fra comunisti e nazionalisti o piuttosto riscopiò quella guerra che aveva sempre covato come braccio sotto la cenere comunisti e nazionalisti erano divisi sin dagli anni 20 avevano diverse concezioni della società volevano costruire stati completamente diversi e quella guerra civile durò dal 1945 al 1949 per noi europei allora preoccupati da altre cose allora occupati a ricostruire i nostri paesi quegli avvenimenti parvero lontani e poco importanti non così negli Stati Uniti gli Stati Uniti capirono immediatamente che ciò che stava accadendo in Cina avrebbe avuto un'influenza considerevole sulla storia e sul futuro del mondo e fecero del loro meglio per evitare che la guerra terminasse con la vittoria dei comunisti cercarono in altre parole di recitare la parte del mediatore e uno dei mediatori americani fu per l'appunto quel generale Marshall che nel 1947 all'università di Harvard pronunciò un famoso discorso il discorso per lanciare il piano Marshall ma anche le arti diplomatiche del generale Marshall non servirono a nulla dovette abbassare le braccia e tornare in patria con un nulla di fatto la guerra naturalmente a quel punto obbedì alla sua logica vinsero i comunisti alla fine dopo quattro anni i nazionalisti di Chianghai-Shek cominciarono a ritirarsi progressivamente verso le coste meridionali del paese fino a che non decisero di trasferirsi nell'isola di Formosa in francese Taiwan dove costituirono un governo cinese in esilio e partirono con gran parte dei quadri delle forze armate e dei quadri amministrativi partirono altresì con buona parte delle collezioni d'arte dei musei di Pechino per un singolare paradosso Taipei la capitale della repubblica di Taiwan è più ricca di oggetti d'arte della grande storia culturale cinese di quanto non sia la stessa città di Pechino non appena arrivati al potere i comunisti cinesi si comportarono con grande tolleranza promulgarono leggi che apparivano addirittura quasi liberali riconoscevano la libertà di pensiero incoraggiavano le cooperative riconoscevano il diritto di residenza e di culto sembrò persino che i comunisti fossero disposti ad accettare una specie di società se non liberale socialdemocratica partì tuttavia nel corso dei mesi immediatamente successivi una grande campagna di educazione una campagna catechistica di apostolato del comunismo furono create organizzazioni per la discussione dei problemi politici e teorici nelle masse furono indette delle grandi riunioni nel corso delle quali i manifestanti erano stati indottrinati ed esprimevano concetti semplici grandi slogan comincia a nascere così la più totalitaria delle esperienze che siano mai state realizzate del mondo prima dell'incubo cambociano di Pol Pot il vero punto di svolta si realizzò nel febbraio del 1951 quando i comunisti per così dire gettarono la maschera e passarono all'indottrinamento totalitario della popolazione e alla persecuzione esplicita di tutti quei gruppi sociali che potevano essere virtualmente contrari all'instaurazione di un regime comunista vi furono processi di massa nel corso dei quali migliaia di giurati vocianti condannavano a morte gli imputati e le esecuzioni avevano luogo lì sul posto immediatamente dopo la sentenza la rivoluzione aveva detto Mao sarebbe stata una rivoluzione contadina in Cina e così progressivamente in quegli anni si procedette all'occupazione delle campagne al frazionamento delle campagne in piccole proprietà si dette si ebbe una certa considerazione per qualche contadino ricco per evitare naturalmente che questo coincidesse con un crollo della produzione agricola a partire dal 1952 il regime ha le sue caratteristiche totalitari e l'Italia? l'Italia fece esattamente quello che fecero le altre democrazie occidentali con l'eccezione della Gran Bretagna i suoi rappresentanti diplomatici erano accreditati presso il governo nazionalista quindi seguirono il governo nazionalista nel corso della sua ritirata fino al momento in cui per l'appunto Chiang Kai-shek abbandonò la Cina continentale e passò a Taiwan in quel momento cessarono le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Cina continentale le relazioni diplomatiche furono riprese molto più tardi soltanto alla fine degli anni 60 cominciò un negoziato a Parigi fra italiani e cinesi per lo stabilimento dei rapporti diplomatici fra i due paesi i negoziati durarono alcuni mesi e si conclusero felicemente all'inizio degli anni 70 fu così che l'Italia non ebbe rapporti diplomatici con la Cina durante gran parte della rivoluzione culturale li ebbe nell'ultima fase del periodo maoista li ebbe soprattutto nella fase in cui la Cina fece una straordinaria svolta riformista con Deng Xiaoping io ricordo un viaggio a Pechino nel 1978 immediatamente dopo il proclama delle quattro modernizzazioni con cui Deng Xiaoping aveva indicato alla Cina il cammino da percorrere per raggiungere il progresso civile il progresso economico e la prosperità mi ricordo anche che in quell'occasione molti occidentali diffidavano di queste promesse non avevano ben capito quali fossero le intenzioni di Deng si chiedevano se effettivamente quest'uomo politico di vecchia formazione comunista potesse essere considerato un riformatore ebbene qualche anno dopo fumo tutti felicemente sorpresi dalla piega degli avvenimenti e ci rendemmo conto che la Cina comunista era ben decisa a diventare uno dei paesi più prosperi e più dinamici dell'economia mondiale non è un caso dopo tutto che queste celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese coincidano proprio con una fase in cui la Cina sta per diventare membro dell'organizzazione per il commercio mondiale vale a dire di una organizzazione la cui filosofia è quella dell'economia di mercato tale tanta è stata la trasformazione della Cina negli anni di Deng Xiaoping basta ricordare che l'economia cinese in questi anni è cresciuta mediamente del 9% ogni anno ecco quindi quali progressi sono stati fatti dalla Cina dopo la fondazione dello Stato il merito di chi è dei comunisti o soprattutto del modo in cui alcuni comunisti dopo aver imparato la lezione dei fallimenti della politica maoista decisero di cambiare strada credo che sia piuttosto la seconda la versione corretta degli avvenimenti termina così la nostra trasmissione sulla Repubblica Popolare Cinese ci sentiremo ancora una volta alle 8 della sera come sempre su Radio 2 e il tema della prossima trasmissione sarà anch'esso un tema asiatico la guerra di Corea alle 8 della sera 30 dicembre 1999 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano buonasera parleremo questa sera della prima guerra combattuta dopo la fine della seconda guerra mondiale la guerra di Corea ma occorre anzitutto parlare della Corea raccontare brevemente quale sia stata la storia di questa penisola asiatica nel corso dei secoli per molto tempo la Corea fu una tributaria dell'impero cinese divenne indipendente soltanto a partire dal 1895 ma in una situazione in cui la sua economia i suoi porti le sue linee di comunicazione erano fortemente contese dalle due grandi potenze del momento la Russia e il Giappone e questo andò avanti sino alla guerra russo-giaponese del 1904 1905 al partire dal 1905 la Corea divenne di fatto un protettorato giapponese e tale rimase per molti anni tale rimase fino alla fine della seconda guerra mondiale di Corea gli alleati cominciarono ad occuparsi presto si parlò di Corea nel 1944 se ne parlò soprattutto alla conferenza di Yalta a quella conferenza che venne convocata in Crimea nel febbraio del 1945 e a cui parteciparono come noto Stalin il presidente americano Roosevelt e il primo ministro britannico Churchill a Yalta fu deciso che la Corea sarebbe stata occupata dai sovietici e dagli americani i sovietici avrebbero occupato la parte settentrionale gli americani avrebbero occupato la parte meridionale l'obiettivo era ben inteso quello di una Corea unificata vi è a questo proposito una straordinaria analogia con il problema tedesco anche la Germania era stata occupata dagli occidentali e dai sovietici anche la Germania avrebbe dovuto essere riunificata l'occupazione in realtà finì per creare per un lungo periodo due stati tedeschi e la stessa cosa accade nella Repubblica di Corea nacque una Repubblica comunista al nord e una Repubblica democratica al sud il leader della Repubblica comunista al nord è un personaggio che diverrà negli anni seguenti un personaggio carismatico del mondo comunista Kim Il-sung già capitano dell'armata rossa cioè dell'esercito sovietico divenuto generale dell'esercito coreano al sud invece l'uomo eminente fu Sing Man-ri il quale divenne il primo presidente della Repubblica coreana i sovietici e gli americani si riterarono dalle rispettive zone di occupazione nel 1949 la Corea era o piuttosto le due Coree era ormai libera dall'occupazione militare e i due stati convivevano precariamente lungo una linea di demarcazione che era ormai diventata una frontiera fra due repubbliche fu questo il momento in cui il nord decise di fare lui l'unificazione del paese con i suoi mezzi invase il sud nel giugno del 1950 con un'azione militare così decisa e così bene organizzata che nel giro di qualche settimana gran parte della Corea meridionale cadde nelle mani dei comunisti gli americani reagirono molto rapidamente e portarono il problema al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il presidente era Truman Harry Truman il vicepresidente all'epoca di Roosevelt successore di Roosevelt è eletto lui stesso alla presidenza degli Stati Uniti nel 1948 uomo che veniva dalla provincia americana e non era particolarmente noto come uomo di Stato ma che dimostrò in quegli anni di avere il temperamento e il coraggio per affrontare le più delicate situazioni della guerra fredda e quindi dicevo Truman decise di portare il problema al consiglio di sicurezza e qui comincia una delle più singolari tragico medie della storia della guerra fredda perché i sovietici avrebbero potuto facilmente al consiglio di sicurezza bloccare con il loro veito qualsiasi iniziativa americana per liberare la Corea del Sud dall'invasore comunista sarebbe bastato che il rappresentante comunista al consiglio di sicurezza alzasse la mano e dicesse mi oppongo ma quel giorno il rappresentante sovietico al consiglio di sicurezza non c'era l'ambasciatore Malik così si chiamava il rappresentante sovietico era assente ed era assente perché il suo governo da qualche tempo aveva deciso di praticare la politica della sedia vuota e perché? ma perché l'unione sovietica non tollerava che il rappresentante cinese al consiglio di sicurezza fosse il rappresentante della Cina nazionalista siamo ricordate nel 1950 esiste ormai da quasi un anno la Repubblica popolare di Pechino l'unione sovietica pretendeva che il rappresentante cinese fosse il rappresentante della Repubblica popolare cinese e invece il rappresentante della Cina era quello della Cina nazionalista e allora per protestare l'ambasciatore Malik su istruzioni del suo governo aveva disertato il consiglio di sicurezza e lasciata vuota la sedia dell'unione sovietica e accade così che allora l'America poté fare proposte per la creazione di una forza delle Nazioni Unite destinata a ricacciare l'invasore comunista e queste proposte furono accolte in assenza di un veto comunista naturalmente l'America assunse subito le sue responsabilità e di quella forza delle Nazioni Unite divenne inevitabilmente la componente più importante la componente decisiva ma alla forza delle Nazioni Unite parteciparono molti paesi paesi del Commonwealth britannico anzitutto e poi anche paesi come ad esempio la Turchia e fu persino un piccolo contingente dell'Etiopia l'Italia non era in quel momento membro delle Nazioni Unite non aveva quindi titolo per partecipare non sappiamo se il governo italiano avrebbe desiderato a parteciparvi nell'eventualità che l'Italia fosse stata membro delle Nazioni Unite ma comunque non aveva motivo di parteciparvi fu presente soltanto con un ospedale da campo la guerra ebbe fasi alterne il corpo delle Nazioni Unite composto prevalentemente da soldati americani si battè nel corso delle settimane successive e riuscì a recuperare gran parte del terreno perduto fu un'avanzata trionfale verso i confini fra la Corea e la Cina fino al momento in cui uno straordinario colpo di scena rovesciò ancora una volta le sorti del conflitto i volontari cinesi entrarono in battaglia nel novembre del 1950 da poco costituita compiva in quel momento un anno la Repubblica Popolare Cinese intervenne a fianco dei Correani contro si sarebbe detto nelle manifestazioni di Pechino contro l'imperialismo americano comincia da quella fase una guerra difficile una guerra di movimento in cui avanza il nord e indietreggia poi dopo qualche mese il sud avanza e indietreggia il comandante delle truppe americane è un generale noto famoso per il modo in cui ha condotto la guerra del Pacifico il generale MacArthur MacArthur è un uomo rigido particolarmente deciso deciso soprattutto a usare nella guerra i mezzi estremi pur di vincerla ed è così che dal generale MacArthur a partire dal 1950 51 parte una proposta di utilizzazione della bomba atomica se la Cina è entrata in guerra contro di noi dice il generale MacArthur il mezzo migliore per far fronte alla minaccia di questa potenza continentale è quella di utilizzare l'arma atomica la proposta del generale MacArthur suscita forti reazioni a Washington qualcuno è d'accordo ma la maggioranza del governo Truman dell'amministrazione Truman è in profondo disaccordo con il generale MacArthur è un braccio di ferro che si protrae per alcuni mesi nel corso dei quali MacArthur insiste e le sue proposte sono note ormai alla pubblica opinione ma il governo americano riafferma il primato della politica sui militari e non soltanto rifiuta di utilizzare l'arma nucleare ma decide di eliminare MacArthur ecco questo è una guerra nella guerra un interessante conflitto politico-istituzionale che si consuma fra il 1950 e il 1951 all'interno della vita politica americana non stiamo soltanto combattendo la guerra di Corea stiamo altresì combattendo un conflitto tra due concezioni diverse di condurre l'amministrazione e la democrazia americana ed è naturalmente Truman che prevale la decisione di eliminare il generale MacArthur viene presa dal presidente Truman con grande dignità con grande nobiltà al generale MacArthur viene concesso il diritto di esprimersi pubblicamente di fronte al paese e lo fa con grande spirito civico ricordando come altre volte nella sua vita che i generali non muoiono si dissolvano per così dire nella storia uscito di scena il generale MacArthur rimane pur sempre tuttavia il problema fondamentale che è quello di vincere la guerra e la guerra ormai è diventata una sanguinosa difficile guerra di posizione l'esercito delle Nazioni Unite si batte contro un esercito nordcoreano sempre meglio addestrato e agguerrito e si batte contro un forte consistente corpo di spedizione della Repubblica Popolare Cinese e questa situazione che gli americani cominciano a considerare sempre più intollerabile il numero delle vittime suscita ormai all'interno della società americana delle razioni che precedono e anticipano per certi aspetti quelle che caratterizzeranno la guerra del Vietnam è in queste condizioni che si combatte la grande campagna elettorale del 1952 il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 1952 era un generale il generale Eisenhower ma molto diverso dal generale MacArthur mentre il generale MacArthur avrebbe certamente fatto uso della bomba atomica Eisenhower aveva alle spalle una guerra combattuta in Europa vinta in Europa ma in condizioni in cui occorreva dare prova al tempo stesso di fermezza e di prudenza e questa fu la caratteristica del generale Eisenhower nel corso della campagna elettorale e quando poi divenne presidente dentro alla Casa Bianca io ero allora degli Stati Uniti e ricordo che a Chicago dove abitavo in quel momento non vi era film nelle sale cinematografiche che non fosse preceduto da attualità cinematografiche sulla guerra di Corea la guerra di Corea era ormai la televisione non era ancora così diffusa nelle case dei cittadini americani ne leggevano ogni giorno sui giornali la vedevano al cinema nelle attualità cinematografiche Eisenhower non aveva una ricetta per la soluzione del conflitto però disse ai cittadini americani andrò in Corea in altre parole è detto la sensazione che si sarebbe personalmente impegnato per ottenere una risoluzione del conflitto e quella promessa ebbe probabilmente una straordinaria efficacia sulle opinioni pubbliche americane concorse alla vittoria del generale Eisenhower nelle presidenziali del 1952 la guerra durò ancora un poco finalmente fu deciso che l'unico modo di chiuderla era con un armistizio che avrebbe lasciato ciascuna delle due forze armate sulle proprie posizioni il caso volle che l'armistizio divenesse possibile proprio nel momento in cui le due forze armate si confrontavano lungo la vecchia frontiera fra la Repubblica del Nord la Repubblica comunista del Nord e la Repubblica democratica del Sud in altre parole una guerra che era durata più di due anni finì esattamente là dove era cominciata tuttavia molti morirono 142 mila soldati americani furono uccisi altri 17 mila furono uccisi fra gli appartenenti agli altri contingenti del corpo di spedizione dell'ONU ma molto più elevate furono le vittime coreane dei due eserciti e delle popolazioni civili si calcola che nella prima guerra importante combattuta dopo la fine della seconda guerra mondiale siano morti fra i 3 milioni e mezzo e i 4 milioni di persone e da allora che cosa è accaduto da allora è accaduto che le due coree hanno percorso strade completamente diverse la corea meridionale dopo anni di turbolenza politica e sociale è diventata una delle più dinamiche fra le potenze economiche del mondo e nonostante la crisi finanziaria del 1997 sta ora recuperando il terreno perduto e sta risanando la sua economia e la sua finanza sta dimostrando in altre parole di essere una potenza economica di tutto rispetto non altrettanto purtroppo può dirsi della corea settentrionale della corea comunista dove si è instaurata una sorta di dinastia l'uomo al potere è il figlio di Kim Il Sung e lo stato della popolazione civile è pressoché disastroso carestia privazioni penuria e esercito soltanto esercito soltanto armi buonasera l'appuntamento alla prossima trasmissione alle 8 della sera ovviamente su radio 2 alle 8 della sera 3 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Buonasera nelle scorse trasmissioni abbiamo parlato del piano Marshall della nascita dello Stato di Israele della nascita della Nato della nascita della Repubblica Popolare Cinese e della guerra di Corea con una eccezione la nascita dello Stato di Israele abbiamo parlato principalmente di guerra fredda e seguendo la logica della guerra fredda abbiamo trascurato un avvenimento che si colloca nel 1947 ed ebbe nella storia del secondo dopoguerra una straordinaria importanza mi riferisco alla nascita dell'India vale a dire all'inizio di quel processo che fu definito della decolonizzazione di tutte le colonie l'India era nel mondo la più importante la più demograficamente importante era stata britannica per circa due secoli il dominio della Gran Bretagna si era progressivamente esteso attraverso la penisola la penisola stessa era una sorta di mosaico composto da stati semisovrani e da territori amministrati direttamente dall'impero britannico il movimento per l'indipendenza dell'India si fece particolarmente visibile nel periodo fra le due guerre fu soprattutto un uomo che ne assunse la responsabilità e finì per diventarne il simbolo era il Mahatma Gandhi un uomo piccolo magro ascetico capace di emozionare e convincere le folle aveva fatto il suo apprendistato in un ufficio legale del Sudafrica negli anni precedenti era ritornato in India aveva intrattenuto tra l'altro una corrispondenza con Tal Stoy era divenuto gradualmente il teorico della non violenza della resistenza pacifica e il teorico del ritorno dell'India alle sue grandi tradizioni culturali era noto ad esempio che gli passava una parte della giornata a tessere lui stesso sul suo telaio la stoffa con cui sarebbero stati confezionati i suoi modesti abiti accanto a lui stava crescendo un giovane promettente un avvocato che aveva fatto i suoi studi in Gran Bretagna in Eru un partito venne creato il partito del congresso che divenne per l'appunto il principale motore politico dell'indipendenza dell'India quando scoppiò la guerra nel 1939 il problema che gli indiani cominciarono a discutere all'interno del partito del congresso era sostanzialmente questo dobbiamo combattere con la Gran Bretagna ed acquistare in tal modo una sorta di credito che spenderemo nell'immediato dopoguerra per ottenere l'indipendenza o dobbiamo invece pretendere l'indipendenza subito il partito del congresso era piuttosto favorevole alla seconda ipotesi a quella dell'indipendenza subito il giovane Nehru era piuttosto favorevole alla prima ma Gandhi non era il solo leader indiano che chiedesse l'indipendenza venera un altro di nome Chandra Bose molto più nazionalista molto più fieramente anti-britannico che aveva avuto negli anni precedenti contatti con la Germania nazista e con l'Italia nel corso di alcune visite a Roma era stato ricevuto ad esempio anche da Mussolini il fattore che influì maggiormente sul desiderio indiano di indipendenza nel periodo fra le due guerre fu quello della occupazione giapponese dell'Asia i giapponesi suscitarono un sentimento anti-europeo nei paesi da essi occupati e quindi rafforzarono le tendenze anticoloniali già fortemente presenti nella opinione pubblica delle colonie e fu così deciso a un certo punto che sarebbe nato sotto legida dei giapponesi un esercito indiano anti-britannico questo esercito composto da circa 30.000 uomini fu costituito a Singapore e ne prese la direzione per l'appunto il leader nazionalista amico dei regimi fascisti Chandrabose Chandrabose morirà poi nel corso di un incidente aereo nell'agosto del 1945 ma a noi interessa soprattutto osservare che finì per prevalere all'interno dell'opinione politica indiana e dello stesso partito del congresso la convenzione che tutto sommato ciò che maggiormente contava in quel momento era acquistare un forte credito a Londra nei confronti dell'impero britannico per poterlo poi spendere alla fine della guerra e ottenere la tanto desiderata indipendenza fu a questa linea che i leader politici indiani finirono per adattarsi nel corso del conflitto una delle persone che era molto favorevole in quel periodo all'indipendenza dell'India subito fu il presidente degli Stati Uniti Roosevelt Roosevelt fortemente influenzato naturalmente dalla storia americana dal modo in cui le colonie americane avevano conquistato l'indipendenza dalla Gran Bretagna disse più volte a Churchill che la strada giusta la strada corretta per l'impero britannico era quello di dare l'indipendenza all'India sin dalla guerra Churchill rifiutò e rifiutò con un argomento che dovette convincere alla fine anche Roosevelt e l'argomento era sostanzialmente questo se diamo l'indipendenza all'India rischiamo di creare una situazione politicamente turbolenta e di provocare in altre parole il dissesto politico economico dell'intero subcontinente indiano cioè ci si riferiva al fatto che accanto alla maggioranza hindù in India vi era pur sempre una importante minoranza musulmana e che al momento dell'indipendenza come effettivamente poi accadde hindù e musulmani si sarebbero fortemente combattuti per il controllo dei loro rispettivi territori ma io non credo che l'opinione di Churchill fosse esclusivamente motivata da queste sia pure importanti considerazioni io credo che Churchill non potesse accettare ammettere l'ipotesi della rinuncia al gioiello della corona britannica disse una volta io non voglio passare alla storia come il becchino dell'impero britannico e qui per comprendere con quale atteggiamento gli inglesi resistettero moralmente e psicologicamente all'ipotesi dell'indipendenza dell'India occorre cercare di comprendere quale parte l'India aveva avuto nella sua storia non soltanto la regina vittoria era stata proclamata imperatrice delle Indie e quindi il concetto stesso di impero era collegato all'esistenza della colonia indiana ma in India si erano formate alcune classi amministrative dell'impero all'India erano collegati i ricordi personali di uomini e donne che vi erano vissute che vi avevano lavorato che avevano portato in patria il ricordo di questa esaltante esperienza io ricordo ancora nell'immediato dopoguerra alcuni piccoli alberghi di Londra a Bayswater per esempio dove al pranzo domenicale o all'ora del tè il sabato pomeriggio si vedevano delle coppie anziane con punte sedute al tavolo e tutti li indicavano e dicevano sono gli indiani e intendevano con questo che erano funzionari dell'amministrazione britannica in India ritornati in patria e ancora in qualche modo pervasi dal ricordo di un'esperienza che gli aveva fortemente segnati un grande poeta dell'imperialismo britannico Kipling era nato per l'appunto in India questa fu una delle ragioni per cui l'Inghilterra resistette resistette tenacemente fino a quando naturalmente non fu necessario cedere occorre ricordare che già nel periodo fra le due guerre il partito laborista britannico e quella parte degli intellettuali che per così dire potevano definirsi genericamente progressisti e anticolonizzatori si erano fortemente battuti perché all'India venisse conciugliossare l'indipendenza si ricorda una famosa visita di Gandhi a Londra nel corso della quale il leader del partito del congresso fu entusiasticamente accolto per l'appunto da quegli ambienti dell'opinione pubblica britannica insomma esistevano ormai le condizioni perché all'India venisse concessa l'indipendenza ma il fattore che maggiormente concorse all'indipendenza dell'India fu la straordinaria partecipazione degli indiani alla seconda guerra mondiale si calcola che gli indiani presenti nell'esercito britannico fossero due milioni e mezzo e che tutti abbiano combattuto a fianco degli alleati in qualità di volontari forse qualcuno ricorderà un film inglese intitolato per l'appunto il paziente inglese in questo film vi è la figura di uno sminatore un giovane indiano anzi Sikh i Sikh sono una casta guerriera hanno la lunga barba avvolta all'interno del turbante e la tradizione vuole che vadano in giro per il mondo con un pettine per la lunga barba e un pugnale perché sono una razza combattente quindi due milioni e mezzo di indiani combatterono per le democrazie occidentali ed è evidente che a questo punto acquistarono nei confronti della Gran Bretagna un straordinario credito questo credito piuttosto la riscossione del credito fu facilitata dal fatto che nell'estate del 1945 pochi mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale le elezioni britanniche mandarono a casa il vincitore Winston Churchill e mandarono al potere il partito laborista andarono al potere quindi esattamente coloro che nel corso degli anni precedenti avevano cominciato a disegnare l'obiettivo di un impero decolonizzato trasformato ormai in commonwealth britannico in cui ogni vecchia colonia avrebbe gradualmente assunto la sua indipendenza e non vedo dubbio che in questa prospettiva quella che a cui maggiormente spettava raggiungere l'obiettivo per primo fosse per l'appunto la Gran Bretagna fu mandato un vice re a New Delhi nella persona di Mountbatten un parente del principe consorte Filippo di quello che sarà poi il principe consorte Filippo di Edimburgo e Mountbatten partì con lo scopo preciso di preparare l'India all'indipendenza ormai sul piano politico la questione era stata definitivamente risolta restava da decidere come le cose sarebbero state organizzate sul terreno i dettagli si dice sono sempre là dove si annida il diavolo gli indù rappresentavano la enorme maggioranza di questo sterminato subcontinente ma i musulmani erano pur sempre circa 100 milioni ed era ormai evidente che musulmani e indiani non avrebbero desiderato convivere sullo stesso territorio nel momento stesso quindi in cui fu concessa dal parlamento britannico l'indipendenza all'India con la legge del luglio 1947 sorsero di fatto due stati separati l'India e il Pakistan questo purtroppo non accade pacificamente accade con massacri accade con esodi di popolazione i musulmani abbandonarono i territori prevalentemente abitati dagli Hindu per andare là dove i loro correligionari rappresentavano la maggioranza e l'opposto accade naturalmente per gli Hindu insomma ogni Maharaja perché gli stati erano pur sempre gli stati indiani erano pur sempre presenti dovete fare una scelta ebbene questa scelta fu qualche volta dettata anche da considerazioni personali per esempio il Maharaja del Kashmir nonostante governasse un paese prevalentemente musulmano decise l'India e lì nel Kashmir si annida da allora una delle peggiori fonti di conflitto dell'Asia dopo la fine del periodo coloniale India e Pakistan cominciarono a detestarsi sin dal primo giorno dopo la decolonizzazione di guerre fra India e Pakistan ve ne furono due molto importanti una nel 1965 l'altra nel 1971 ve ne è stata una guerricciola più che guerra nel corso dell'estate del 1999 allorché le forze pakistane sembra si intromisero nelle vicende del Kashmir provocando forti reazioni dell'India comunque ciò che conta in questo momento sottolineare è che dal 1947 comincia il grande processo della decolonizzazione ed è soprattutto in Asia che la decolonizzazione dette i suoi risultati più rapidi e tutto sommato più vantaggiosi nel giro di pochi anni tutti i territori asiatici che avevano fatto parte di grandi imperi coloniali europei acquistarono l'indipendenza abbiamo parlato dell'India e del Pakistan con verrebbe ricordare Ceylon l'isola di Ceylon oggi Sri Lanka occorrerebbe ricordare la Birmania già colonia britannica l'Indocina francese composta da tre stati l'Indonesia di cui tanto si è parlato a proposito della vicenda di Timor-Est Timor-Est era portoghese ma il resto del grande arcipelago indonesiano apparteneva ai Paesi Bassi e poi occorrerebbe ricordare naturalmente le Filippine a cui gli americani dettero l'indipendenza immediatamente dopo la fine del conflitto e la Malesia che fu dichiarata indipendente dell'impero britannico nel 1957 e in Asia quindi che le cose andarono tutto sommato abbastanza bene certo nei primi anni vi furono i conflitti quelli fra l'India e il Pakistan a cui abbiamo fatto 100 più sopra e ve ne furono altri molto sanguinosi ma complessivamente se ci voltiamo indietro e guardiamo dall'alto le vicende asiatiche degli ultimi 40 anni dobbiamo constatare che i progressi realizzati da quel continente sono stati complessivamente straordinari milioni e milioni di persone sono entrati nella vita economica del mondo sono riusciti a sollevarsi dallo stato di sottosviluppo in cui avevano lungamente vissuto e sono attualmente soggetti attivi di un grande processo di sviluppo economico e sociale l'Italia in tutto questo non ebbe una grande parte noi non avevamo particolari interessi nell'Asia soltanto qualche concessione in Cina la nostra economia non era allora sufficientemente dinamica per poter giungere su quei mercati e d'altro canto occorre pur ricordare che quei mercati allora erano particolarmente poveri ma dal momento in cui l'Asia cominciò a diventare economicamente significativa l'Italia vi mise piede e fu subito fin dall'inizio uno dei paesi più dinamici e più intraprendenti osservo per concludere che una delle ragioni per cui oggi stiamo parlando di mondializzazione è proprio l'emergenza economica dell'Asia l'Asia ha reso il mondo più piccolo l'Asia ormai è vicina a noi e alle porte di casa nostra buonasera ci ritroveremo alla prossima puntata ancora una volta alle 8 della sera come sempre su Radio 2 alle 8 della sera 4 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera a chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano abbiamo parlato alcune sere fa del piano Marshall e della parte che questo straordinario progetto americano ebbe nella ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale ma anche l'Europa si dedicò alla propria ricostruzione con progetti e iniziative di grande importanza una di queste forse la maggiore nel periodo immediatamente successivo alla fine del conflitto fu la CECA la comunità europea per il carbone e per l'acciaio il concetto della CECA nasce nella mente di un francese Jean Monnet di cui forse conviene ricordare la personalità Monnet era nato nella Francia sud-occidentale era figlio di un produttore di cognac il padre lo aveva mandato a Londra perché si impratichisse del mercato britannico dove per l'appunto il cognac di famiglia veniva venduto a Londra durante la prima guerra mondiale Jean Monnet era diventato membro di un comitato fra gli alleati di cui faceva parte anche l'Italia per la ridistribuzione delle materie prime ai paesi combattenti nel corso del conflitto e aveva imparato qualche cosa che non dimenticherà mai nel corso della sua vita aveva imparato a lavorare con rappresentanti di altri paesi e aveva imparato in altre parole quello che verrà poi definita la diplomazia multilaterale Monnet sapeva perfettamente che Francia e Germania e non soltanto Francia e Germania avrebbero avuto bisogno per la loro ricostruzione di molto carbone e molto acciaio e sapeva che il carbone e l'acciaio erano collocati prevalentemente in una zona europea a cavallo del Reno e nella Rur che prima o dopo come già era accaduto in passato Francia e Germania avrebbero litigato per il carbone e per l'acciaio di cui ciascuna dei due aveva bisogno per la propria ricostruzione e allora pensò Jean Monnet perché questi due paesi non dovrebbero accordarsi su un sindora sull'uso migliore e sulla migliore distribuzione di queste risorse fondamentali per il loro futuro anziché litigare come hanno fatto tante volte in passato meglio accordarsi subito presentò un progetto a un uomo Robert Schumann ministro degli esteri francesi il quale era nato in Lorena e conosceva bene quindi il mondo tedesco del quale era confinante Schumann capì l'importanza del progetto di Jean Monnet e nel maggio del 1950 annunciò nella sala dell'orologio del ministero degli esteri francesi la grande sala in cui si erano riuniti i plenipotenziari dopo la fine della prima guerra mondiale annunciò quello che fu noto al mondo come il piano Schumann cominciarono subito i negoziati che si conclusero il 18 aprile del 1951 con il trattato di Parigi per la costituzione della comunità europea del carbone e dell'acciaio Jean Monnet fu l'ispiratore di quel progetto ma quel progetto non avrebbe mai visto la luce se non vi fosse stata in quegli anni una straordinaria collaborazione una sorta di sodalizio fraterno tra tre uomini di Stato europei che avevano caratteristiche comuni erano Konrad Adenauer cancelliere della nuova Germania Alcide De Gasperi presidente del consiglio italiano e Robert Schumann ministro degli esteri francesi tre persone che erano nate e cresciute in zone di confine che parlavano tedesco che appartenevano alle democrazie cristiane dei loro paesi e che stabilirono uno straordinario collegamento morale umano psicologico da questo nacque per l'appunto la ceca la ceca fu indubbiamente un'organizzazione economica motivata da considerazioni prevalentemente economiche la ricostruzione dell'Europa dopo la guerra ma fu un'organizzazione economica al servizio di un disegno politico non bisogna dimenticare che sin dal periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale si era andata facendo strada nella intelligenza europea nei migliori circoli intellettuali e politici del continente l'idea che l'Europa dovesse organizzarsi in funzione della sua unità dovesse in altre parole percorrere una strada analoga a quella che gli Stati Uniti avevano fatto all'inizio della loro storia nazionale è questa idea d'Europa che diviene così importante fra le due guerre anche se indubbiamente minoritaria a alcuni suoi apostoli un po' retoricamente si potrebbe dire alcuni Giovanni Battista uno di essi fu un intellettuale austriaco un nobile austriaco Cudenov Calergi un altro fu un uomo politico francese Aristide Briand ministro degli esteri del suo paese fa autore della riconciliazione con la Germania autore di un progetto europeo che ebbe per qualche tempo fra le due guerre una certa popolarità l'Italia dette un contributo intellettuale all'idea dell'Europa unita attraverso alcune delle sue persone migliori e dei suoi intellettuali più attivi e dinamici uno di questi fu indubbiamente Luigi Einaudi importante particolarmente importante il cosiddetto manifesto di Ventotene dall'isola in cui era in cui fu redatto il manifesto di Ventotene fu scritto da tre antifascisti che in quell'isola erano per appunto confinati Altiero Spinelli Ernesto Rossi e Eugenio Colorni negli anni del loro confino avevano mantenuto i contatti con alcuni intellettuali italiani fra cui prevalentemente Einaudi che aveva fornito loro libri documentazione testi importanti sulle prospettive economiche dell'unità europea e avevano scritto fu Altiero Spinelli in particolare che se ne assunse la responsabilità questo manifesto di Ventotene che fu per molti italiani per molti europei e per molti anni una specie di carta fondante dell'unità europea dell'idea di Europa il grande tema dominante di tutti questi tentativi che cominciarono a emergere nell'immediato dopoguerra fu l'idea della riconciliazione franco-tiedesca tutti partivano dalla convinzione che le due grandi guerre mondiali della prima metà del secolo fossero state due guerre civili fra europei e soprattutto due guerre civili fra due grandi popoli il popolo francese e il popolo tedesco avevano combattuto l'uno contro l'altro nel 1870 nel 1914 nel 1939 ecco era giunto il momento di creare fra questi due popoli una solidarietà di destino e una solidarietà di obiettivi comuni fu la riconciliazione franco-tiedesca il motivo determinante delle iniziative europeiste di molti uomini politici del secondo dopoguerra e accanto alla riconciliazione franco-tiedesca il desiderio di far fare all'Europa una strada simile a quella degli Stati Uniti in altre parole occorreva andare verso gli Stati Uniti d'Europa una delle persone che ebbe una parte considerevole nella vicenda fu il ministro degli esteri italiano Carlo Sforza Sforza era un diplomatico fino alla prima guerra mondiale poi nel corso della guerra era stato sottosegretario agli esteri nel governo Nitti ministro degli esteri nel governo Giolitti come tale si era prodigato in particolare per i rapporti italo-jugoslavi era il negoziatore di quel trattato che fu firmato a Rapallo alla fine del 1920 e che cercò di creare le condizioni per un buon rapporto fra Italia e Jugoslavia Sforza era un uomo intelligente forse vanitoso forse qualche volta i suoi critici osservavano un po' troppo consapevole della sua intelligenza della sua superiorità intellettuale qualche volta anche vanitoso per le sue origini nobiliari si diceva di lui che portava la testa come uno stensorio e certamente non era un uomo facile con cui andare d'accordo in determinate circostanze ma ebbe la straordinaria intuizione di capire che l'Europa sarebbe stata non soltanto utile all'Italia per la sua ricostruzione per la sua collocazione nel continente europeo ma l'Europa avrebbe dato all'Italia la possibilità di riscattarsi dalla sconfitta di diventare ancora una volta paese guida di un grande processo politico e sociale in altre parole dal risorgimento italiano dell'ottocento al risorgimento europeo del ventesimo secolo questo era il tragitto che Sforza immaginava per l'Italia Sforza era repubblicano e mazziniano quindi il ricordo di Mazzini dovete avere su di lui certamente una particolare importanza l'Italia quindi ebbe nella vicenda europea subito fin dall'inizio una parte considerevole De Gasperi fu l'uomo che tenne il contatto con gli abietti delle democrazie cristiane europee in Francia e in Germania Adenauer in Germania Schumann e Bidot in Francia Sforza invece fu l'uomo politico che inserì nella vicenda europea per così dire una forte componente risorgimentale in un suo discorso a Perugia lanciò l'idea d'Europa e soprattutto dette agli italiani il sentimento che potevano ancora essere utili a se stessi e ai loro compagni europei nella prospettiva della creazione di qualcosa di veramente nuovo e di veramente significativo Sforza è certamente da questo punto di vista uno dei padri dell'unità d'Europa La cieca ebbe un grande successo subito fin dall'inizio fu chiaro che questo piano di Jean Monnet per una buona distribuzione del carbone e dell'acciaio era di grande utilità a tutti quanti anche chi temeva che i suoi interessi e le sue esigenze non sarebbero state tenute in sufficiente considerazione dovette rapidamente constatare che grazie alla cieca tutto andava molto meglio di quanto non sarebbe potuto andare ma come ho detto la cieca non era soltanto un progetto economico era un progetto economico al servizio di un grande disegno politico l'obiettivo restava pur sempre quello degli Stati Uniti d'Europa e l'obiettivo degli Stati Uniti d'Europa si ripropose in termini estremamente attuali quando fu necessario prendere in considerazione il problema del riarmo tedesco l'evoluzione della guerra fredda la minaccia sovietica i colpi di Stato a Praga per esempio nel febbraio marzo del 1948 tutto questo aveva suscitato in Europa e negli Stati Uniti una forte preoccupazione sappiamo perché ne abbiamo lungamente parlato che questo è per l'appunto all'origine della nascita dell'alleanza atlantica a Washington nell'aprile del 1949 ma gli Stati Uniti a un certo punto dissero che una vera e propria difesa del continente europeo contro la minaccia dell'Unione sovietica sarebbe stata efficace credibile e convincente soltanto con la partecipazione della Germania riarmare la Germania naturalmente fu percepito da molti in Europa come uno shock inaccettabile non era forse la Germania il nemico di ieri e di avantieri era troppo diffusa in molti la convinzione che tra Germania e nazismo vi fosse una specie di legame indissolubile per non parlare poi del fatto che molti tedeschi erano loro stessi profondamente ostili all'idea del riarmo tedesco lo slogan più diffuso in Germania nel corso di quegli anni era onemich senza di me questo si vedeva sui manifesti affissi nei muri di Francoforte ricordo un viaggio a Francoforte a Berlino nel 1952 ricordo che i muri di Francoforte in particolare proclamavano la forte opposizione di una parte dell'opinione pubblica tedesca all'idea del riarmo ma gli Stati Uniti continuavano a insistere senza il riarmo tedesco sostenevano non sarebbe stato possibile difendere efficacemente il continente fu così che ai francesi venne l'idea di creare una grande organizzazione una nuova organizzazione modellata sulla cieca ma con un forte contenuto politico-militare la comunità europea di difesa vi sarebbero state forze armate europee composte da cittadini soldati di tutti i paesi membri e insieme gli europei avrebbero imparato a difendere se stessi e quindi a creare le condizioni per la loro unità sfortunatamente il progetto per la comunità europea di difesa fallì al Parlamento francese nel 1954 e fu di conseguenza accantonato a partire da quel momento lo vedremo nel corso di un'altra trasmissione fu deciso che l'unica prospettiva concreta fosse quella di continuare sulla strada della comunità europea del carbone e dell'acciaio ma allargando progressivamente l'integrazione economica ai settori di tutta l'economia in prospettiva in altre parole comincia a intravedersi il mercato comune buonasera ci sentiremo nel corso della prossima trasmissione alle 8 della sera ovviamente su radio 2 alle 8 della sera 5 gennaio 2000 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di sergio romano regia di giancarlo simoncelli a cura di angela zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano uno degli anni più difficili dell'immediato dopoguerra fu il 1956 un anno contraddistinto da due crisi la crisi di Suez e la rivoluzione ungherese questi due avvenimenti rispondono a due situazioni completamente diverse e il primo in un certo senso rappresenta il declino del colonialismo occidentale il secondo è la manifestazione del disagio che comincia a manifestarsi in Unione Sovietica e nei paesi occupati dall'Unione Sovietica potrebbe definirsi in altre parole una prima crisi del colonialismo sovietico cominciamo da Suez in Egitto alcuni ufficiali avevano conquistato il potere nel luglio del 1952 e avevano cacciato re Farouk gli ufficiali erano guidati e comandati da due colonnelli intelligenti molto dinamici Nasser e Sadat i quali per il momento non assunsero le responsabilità del potere preferirono affidare il potere a un vecchio generale ma uno di questi due colonnelli Nasser si rivelò molto rapidamente uno straordinario leader carismatico per la sua capacità di entusiasmare le folle e per la sua capacità soprattutto di fare leva sui sentimenti anticoloniali e nazionalisti dei paesi arabi e dei paesi in via di sviluppo come altri leader del mondo musulmano e arabo si presentò immediatamente come un grande modernizzatore come colui che prometteva ai suoi connazionali la prosperità il progresso civile tutto ciò che non avevano ottenuto nel corso delle generazioni precedenti e naturalmente uno dei suoi principali progetti fu una grande opera pubblica che avrebbe risanato l'agricoltura egiziana questa opera pubblica fu l'enorme diga di assuan naturalmente la diga di assuan comportava somme importanti finanziamenti ingenti Nasser non era in condizione di finanziare la diga con le magre risorse del bilancio egiziano cominciò a chiedere denari alle grandi potenze li chiese in particolare agli Stati Uniti gli Stati Uniti diffidavano di Nasser e preferirono dirgli di no il no degli Stati Uniti ebbe un effetto sulla psicologia di Nasser non soltanto lo irritò profondamente ma lo indusse a un gesto anticoloniale particolarmente clamoroso la nazionalizzazione del canale di Suez il canale di Suez era gestito da una società anglo-francese in cui gli inglesi erano maggioritari ed era naturalmente uno strumento della politica europea in Medio Oriente e più generalmente nei confronti dell'Africa e dell'Asia la nazionalizzazione del canale di Suez fu percepita come una inammissibile violenza dell'ordine internazionale e fu deciso che no non si poteva accettare occorreva resistere alla prospettiva della nazionalizzazione perché se fosse stata accettata inevitabilmente avrebbe comportato tutta una serie di conseguenze negative anche in altri paesi questo fu naturalmente l'atteggiamento di due paesi che erano maggiormente coinvolti la Francia e la Gran Bretagna altri paesi non si comportarono allo stesso modo furono prese tutta una serie di iniziative diplomatiche vi furono gli uni a Londra in particolare fra i paesi utenti del canale nella speranza di giungere a una soluzione di comune beneficio per tutti ma Nasser resistette tenacemente all'idea di ritornare sui suoi passi e la situazione con il passare dei mesi divenne sempre più difficile ci si avvicinava in altre parole alla crisi per avere una migliore idea del quadro occorre ora spostare l'attenzione sullo stato di Israele il quale negli anni precedenti si era andato consolidando arrivando al potere Nasser aveva fatto una forte politica anti-israeliana anche perché era convinto che i sentimenti anti-israeliani potessero come dire rappresentare un collante un cemento per l'unità nazionale dei popoli arabi e per il loro sentimento nazionalista quindi nel praticare una politica anti-israeliana Nasser tra l'altro aveva bloccato il golfo di Aqaba e il porto israeliano di Eilat minacciando così tra l'altro l'economia dello stato di Israele dopo avere lungamente riflettuto gli israeliani avevano deciso di passare all'attacco con un'azione preventiva occorre ricordare che l'esercito israeliano era ormai composto da giovani ufficiali giovani generali i quali avevano fatto il loro apprendistato militare sia durante la seconda guerra mondiale combattendo con l'esercito britannico sia nella prima guerra arabo-israeliana quella del 1948 erano generali dinamici molto coraggiosi uno in particolare Moshe Dayan aveva assunto un ruolo eminente per la sua spregiudicatezza e anche per la sua immagine una benda nera li copriva un occhio ferito gli solcava il volto fu così che Israele decise di passare all'azione i francesi e gli inglesi capirono che Israele si sta muovendo e decisero di accordarsi segretamente con Israele per una specie di piano politico diplomatico e militare che avrebbe permesso loro di rientrare in possesso del canale di Suez fu deciso in altre parole che le parti sarebbero state divise più o meno in questo modo Israele avrebbe attaccato l'Egitto la Francia e l'Inghilterra si sarebbero atteggiati a Paceri avrebbero lanciato ultimatum sia agli uni che agli altri ma in particolare all'Egitto dopodiché per garantire la pace diciamo così si sarebbero impadroniti del canale dei Suez e così effettivamente accadde la vicenda sembrò svolgersi nel senso più favorevole alla Francia e alla Gran Bretagna anche perché disponevano naturalmente delle forze militari necessarie per vincere la partita tutto sarebbe andato nel migliore dei modi se non vi fossero state fiere reazioni da due grandi potenze dall'Unione Sovietica ma soprattutto dagli Stati Uniti che l'Unione Sovietica fosse contraria al colonialismo britannico e al colonialismo francese era facilmente immaginabile che gli Stati Uniti reagissero nel modo in cui reagirono dopo l'azione anglo-francese a Suez non era invece immaginabile e invece negli Stati Uniti prevalse il convincimento che un'azione così smaccatamente colonialista avrebbe messo l'Occidente in difficoltà di fronte ai paesi in via di sviluppo del terzo mondo e gli Stati Uniti per meglio convincere la Gran Bretagna che occorreva abbandonare la presa e ritirarsi dall'operazione minacciarono di non più sostenere la Gran Bretagna e soprattutto la sterlina alla borsa di New York fu così che gli inglesi ridotti in ginocchio dovettero rinunciare a Suez i francesi sarebbero rimasti un po' più a lungo nella partita ma anche loro dovettero dopo qualche giorno abbandonare la presa passiamo ora all'altra crisi alla crisi ungherese e tutto comincia con la morte di Stalin nel 1953 gli ultimi anni della vita di Stalin erano stati per così dire dominati dalla preoccupazione ossessiva che qualcuno nell'ombra tramasse contro di lui che i suoi nemici fossero pronti ad etronizzarlo aveva visto nemici dappertutto e aveva negli ultimi mesi della sua vita in particolare messo in scena uno straordinario pogrom contro gli ebrei sovietici diffondendo la voce che i medici sovietici del Tremlino in gran parte ebrei avessero come obiettivo la distruzione fisica della classe dirigente sovietica ma non si era limitato soltanto a combattere gli ebrei aveva combattuto il regime di Tito aveva perseguitato i titoisti in alcuni paesi del blocco sovietico qualificandoli tra l'altro di sionisti insomma la morte di Stalin nel 1953 fu percepita come una liberazione e non soltanto del resto dalle classi dirigenti dei paesi satelliti ma anche paradossalmente all'interno dell'unione sovietica dove quasi tutti i compagni del presidium del partito furono ben felici che Stalin non fosse più con loro a partire dalla morte di Stalin tuttavia cominciano una serie di ripercussioni politiche all'interno del blocco sovietico che producono risultati impreveduti imprevisti dalla classe dirigente sovietica in Polonia e in Germania i primi moti moti antisovietici che vengono naturalmente repressi ma forse l'avvenimento che maggiormente suscitò nell'opinione pubblica dei paesi satelliti la speranza di una svolta e quindi di una liberazione fu il ventesimo congresso del partito comunista dell'unione sovietica nel febbraio del 1956 a Mosca in quel congresso Khrushchev con un rapporto segreto denunciò i crimini di Stalin denunciò il culto della personalità disse ad alta voce tutto ciò che molti sapevano e che non osavano dire e fu per l'appunto questa rivelazione straordinaria di cui si ebbe notizia nelle settimane successive sui giornali di tutto il mondo che creò sentimenti di indipendenza nazionale di rivolta speranza di libertà in alcuni paesi del blocco sovietico in particolare l'Ungheria fu l'Ungheria che esplose con la maggiore rivoluzione con la maggiore protesta antisovietica scesi in piazza gli studenti e gli operai si impadronirono del potere cacciarono i vecchi dirigenti in alcuni casi li uccisero uccisero soprattutto i rappresentanti dei servizi segreti quelli che si erano materialmente adoperati negli anni precedenti per la repressione e emerse dalla classe dirigente ungherese un uomo Imre Nagy che divenne presidente del consiglio questo naturalmente fu un motivo di straordinarie preoccupazioni a Mosca l'unione sovietica temette che l'Ungheria avrebbe abbandonato il blocco sarebbe passata all'occidente e questa preoccupazione divenne particolarmente evidente quando il governo ungherese annunciò l'uscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia fu in quel momento che l'unione sovietica decise di intervenire militarmente e di reprimere con la forza la rivoluzione ungherese Suez e Budapest i due avvenimenti ebbero tutta una serie di conseguenze internazionali e di ricadute l'Inghilterra fu costretta a rinunciare al canale e a quel punto con la chiarezza che caratterizza molto spesso la politica britannica giunse alle conclusioni che se non avesse avuto il canale non avrebbe potuto neppure mantenere l'impero e allora la classe dirigente britannica non soltanto abbandonò il canale di Suez ma decise di mettere in opera negli anni successivi una rapida e progressiva decolonizzazione di quella parte dell'Africa che controllava e di cui avrebbe voluto tutto sommato negli anni precedenti conservare il possesso a partire dagli anni 50 comincia la decolonizzazione dell'Africa che procede a ritmo di grande velocità fino all'intera uscita della Gran Bretagna dal continente africano questo fu il modo in cui la Gran Bretagna reagì a Suez la Francia invece reagì in modo completamente diverso una delle ragioni per cui il governo francese aveva deciso di intervenire militarmente in Egitto era stata la convinzione che Nasser il lidare egiziano fomentasse la guerra degli algerini contro la Francia in Algeria quindi i francesi avevano deciso di colpire l'Egitto per poter meglio combattere in Algeria e meglio conservare un territorio in cui tra l'altro abitava un milione di europei la Francia non rinunciò al progetto della guerra d'Algeria ne parleremo in una prossima circostanza e continuò a combattere anche se la guerra divenne col passare del tempo sempre più difficile alla fine di questo processo di di guerra algerina appare all'orizzonte il generale de Gaulle vale a dire l'uomo che aveva governato la Francia nell'immediato dopoguerra e che aveva incarnato durante il conflitto i sentimenti nazionali e la volontà di resistere quindi mentre l'Inghilterra decolonizza la Francia invece come conseguenza di Suez richiama De Gaulle al potere l'Ungheria anche ebbe tutta una serie di straordinarie ricadute sulla vita politica e sociale dei paesi soprattutto dell'Europa occidentale l'Unione sovietica riaffermò sì il controllo degli stati governati da partiti comunisti ma non poté impedire che nelle società politiche dei paesi occidentali i fatti ungheresi producessero uno shock alquanto duraturo quasi tutti i partiti comunisti principalmente il partito comunista italiano e il partito comunista francese subirono questo shock al punto che alcuni intellettuali alcuni uomini politici decisero di abbandonare il partito il partito comunista italiano approvò la repressione ma non poté impedire che alcuni suoi autorevoli membri se ne andassero i due casi forse più interessanti per quello che riguarda l'Italia sono i casi di Antonio Giolitti un uomo politico che ebbe poi una parte importante sia nei governi italiani sia nella commissione di Bruxelles quella della comunità economica europea e Italo Calvino ambedue lasciarono per l'appunto insieme ad altri il partito comunista italiano nel 1956 dopo i fatti d'Ungheria ecco perché il 1956 rappresenta nella storia d'Europa una grande svolta politica intellettuale e morale buonasera ci sentiremo in occasione di un prossimo ascolto alle 8 della sera come sempre su radio 2 alle 8 della sera 6 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai punto it per riascoltarci www.radio2.rai punto it radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Buonasera parleremo questa sera di uno dei più grandi avvenimenti della storia italiana europea e forse mondiale degli ultimi 50 anni parleremo della nascita del mercato comune per ricordare il modo in cui il mercato comune nacque occorre tornare indietro naturalmente occorre tornare a un avvenimento di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni il fallimento della comunità europea di difesa nel 1954 di fronte all'assemblea nazionale francese la comunità europea di difesa fallì non venne ratificata e il risultato fu che per il momento qualsiasi possibilità di progresso verso l'unione politico monetaria apparve impossibile e allora fu deciso che l'unica cosa fattibile in quel particolare momento era quella di tornare alla cieca vale a dire al processo di integrazione economica la cieca ricordo era la comunità europea per il carbone e per l'acciaio e fu deciso che per andare oltre la cieca bisognasse integrare i mercati dei sei paesi membri della comunità per il carbone e per l'acciaio i sei paesi ricordo erano Francia Germania Italia Belgio Olanda e Lussemburgo e allora fu deciso che occorresse mettere all'ordine del giorno la creazione di un mercato comune noi avevamo allora un ministro degli esteri liberale Gaetano Martino messinese già professore all'università di fisiologia se non sbaglio all'università di Messina rettore di quella università per un certo periodo persino ministro della pubblica istruzione uomo intelligente di grandi conoscenze europee un vecchio liberale il quale ebbe l'idea di portare i suoi colleghi a Messina per una conferenza europea li portò a Messina naturalmente perché era la sua città e perché è sempre bene coltivare se possibile il proprio collegio elettorale ma la conferenza di Messina questa volta si passò alla storia come una delle più importanti conferenze degli ultimi 50 anni perché fu lì che venne deciso come procedere verso il mercato comune il ministro degli esteri belga si chiamava Paul-Henri Spack un signore grasso e gioviale anche lui molto europeista lui venne dato l'incarico di mettere all'ordine del giorno il problema si creò una commissione che Spack presiedette a cui parteciparono tra l'altro molti diplomatici italiani di valore e in quella commissione fu redatto il trattato di Roma perché a Roma venne firmato il 25 marzo del 1957 in Campidoglio un trattato con cui venivano fissate le regole del prossimo mercato comune e soprattutto i tempi le scadenze necessarie per arrivarci quel giorno il trattato venne firmato in Campidoglio di fronte a una platea di personalità che ebbero certamente io credo la sensazione di assistere ad un avvenimento storico di grande importanza io ricordo perfettamente il grande ricevimento che si tenne a Palazzo Venezia la sera della firma del trattato ricordo Adenauer Spack De Gasperi allineati l'uno accanto all'altro nel grande salone di Palazzo Venezia mentre ricevevano gli ospiti e stringevano le mani di tutti e avevano l'aria molto sorridente e compiaciuta avevano veramente l'impressione di aver realizzato qualche cosa di straordinariamente utile e importante per l'Europa e credo avessero perfettamente ragione nacque così la comunità economica europea con un consiglio dei ministri una commissione un'assemblea di 142 parlamentari una corte di giustizia una banca europea degli investimenti nacque anche una comunità europea per l'energia atomica più o meno composta delle stesse istituzioni quello fu il primo giorno della nuova Europa da quel momento dicendo le conseguenze che sono ancora oggi con noi ho detto che non nacque a Roma nel marzo del 57 soltanto il mercato comune nacque anche l'Euratom cioè la comunità europea per l'energia atomica e qui occorre cercare di comprenderne le ragioni Jean Monnet lo abbiamo detto nel corso di una trasmissione precedente era convinto che molte delle tensioni dei conflitti che erano sorti fra i paesi europei fossero dovuti alla scarsità delle risorse o quantomeno alla loro competizione per le stesse risorse carbone acciaio in particolare lui aveva concepito la comunità europea del carbone dell'acciaio proprio nella convinzione che se i paesi europei si fossero messi d'accordo per un loro utilizzo pacifico avrebbero evitato tutta una serie di conflitti possibili ebbene Jean Monnet diceva l'atomo è il carbone di domani noi dobbiamo subito oggi fare la stessa cosa che abbiamo fatto per il carbone dobbiamo farla per l'atomo fu questa la intuizione di Monnet e lì devo dire che la la fantasia la competenza la scienza per così dire lo tradirono perché Monnet giustamente pensava che l'atomo avrebbe avuto un'importanza fondamentale nel futuro dell'umanità e che l'energia nucleare prima o dopo avrebbe sostituito le altre energie ma si ingannò sui tempi credette che l'atomo fosse a portata di mano che l'energia nucleare fosse dietro l'angolo e invece cominciò proprio in quegli anni l'era del petrolio a buon mercato per cui l'euratomo non ebbe la fortuna che ebbe invece il mercato comune occorre ricordare che il mercato comune aveva anche molti avversari non era soltanto una buona idea sostenuta dalla grande maggioranza delle casse politiche aveva anche avversari annidati all'interno dei sistemi economici nazionali e anche alcuni avversari politici di grande rilievo un avversario politico di grande rilievo era il generale De Gaulle l'uomo che aveva salvato la Francia durante la seconda guerra mondiale che aveva incarnato lo spirito di resistenza che aveva governato il paese nei primi mesi dopo la fine del conflitto e che si era orgogliosamente fatto da parte quando la Francia aveva rifiutato un progetto di costituzione che lui riteneva necessario per il futuro della nazione ritornato al potere dopo la guerra d'Algeria nel 1958 il generale De Gaulle divenne prima presidente del consiglio poi presidente della repubblica e tutti sapevano naturalmente che negli anni precedenti il generale De Gaulle aveva molto spesso criticato il mercato comune come formula che avrebbe diluito la sovranità nazionale che avrebbe impedito alla Francia di essere se stessa con le sue tradizioni i suoi sentimenti il suo orgoglio tutti quindi temevano che al momento in cui De Gaulle avesse ritrovato il potere una delle sue prime decisioni sarebbe stata quella di bloccare il processo di integrazione economica del continente e intralciare il mercato comune ebbene De Gaulle dimostrò di essere infinitamente più realista di quanto non pensassero i suoi avversari si rese conto che il mercato comune garantiva prosperità e prometteva progresso a tutti i paesi del continente che era necessario anche per la Francia e tornato al potere non fece nulla che potesse intralciare il processo di graduale smantellamento delle tariffe doganali che permise di creare in un periodo di quasi dieci anni un vero mercato comune qualche altro nemico dicevo si annidava soprattutto negli ambienti economici non dimentichiamo che molti industriali molti industriali italiani per esempio erano contrari al mercato comune perché temevano che avrebbero perduto possibilità di lavoro accade esattamente il contrario l'avversario internazionale più deciso più fermo più risoluto a impedire il mercato comune era indubbiamente la Gran Bretagna la quale temeva che il continente si rafforzasse che in questo modo lei la Gran Bretagna avrebbe avuto una parte minore negli affari europei la Gran Bretagna allora come oggi tutto sommato voleva tenere un piede nell'Atlantico e un piede in Europa e quando vide che il mercato comune stava prendendo corpo ne fu indubbiamente preoccupata ma non poteva o non voleva farne parte perché temeva che questo avrebbe limitato la sua autonomia e la sua libertà di manovra e allora creò per così dire una specie di contro mercato comune e questo contro mercato comune si chiamò EFTA era una zona di libero scambio di cui facevano parte tutti i paesi europei che nel mercato comune per una ragione o per l'altra non avevano voluto o potuto entrare fu questa la carta che gli inglesi giocarono immediatamente dopo la firma dei trattati di Roma nel marzo del 1957 ma in realtà accade esattamente il contrario di ciò che gli inglesi avevano sperato il mercato comune divenne immediatamente un fattore di progresso di economia crescente dinamica e invece l'EFTA non in realtà dette una risposta all'esigenza dei paesi che avevano sottoscritto l'accordo quindi di fronte a un mercato comune che cresceva si sviluppava e marciava verso strade sempre più promettenti sempre più aperte l'EFTA per così dire diventava un organismo sempre più sterile e allora con grande realismo gli inglesi decisero che era aggiunto il tempo di entrare nel mercato comune capirono in altre parole che non avevano scelta questa è una caratteristica della diplomazia inglese e della politica estera inglese molto ferma su certi principi molto pragmatica quando si rende conto che quei principi non possono essere più rispettati o comunque debbono essere adattati alla realtà e così la Gran Bretagna nell'agosto del 1961 chiese di entrare nel mercato comune ma non fece i conti con il generale de Gaulle il quale era favorevole sia al mercato comune ma non voleva la Gran Bretagna nell'organizzazione e non la voleva anche probabilmente perché pensava che in questo modo l'importanza della Francia ne sarebbe stata diminuita riteneva forse con ragione che la Gran Bretagna fosse troppo legata agli Stati Uniti troppo atlantica per essere veramente europea troppo insulare una volta disse nel corso di una conferenza stampa con l'aria di dire una banalità espresse tuttavia un concetto politico importante disse la Gran Bretagna è un'isola e allora nel 1963 si oppose all'ingresso della Gran Bretagna nel mercato comune manifestò espresse in altre parole un vero e proprio veto questo suscitò nei paesi del mercato comune in alcuni paesi del mercato comune dei sentimenti di profonda irritazione per la cosiddetta arroganza con cui il generale de Gaulle aveva imposto la sua volontà io ricordo per esempio un viaggio di Ugo Lamalfa leader del partito repubblicano a Londra nel 1963 in cui Lamalfa a un certo punto con una reazione per così dire indispettita lanciò la proposta di umasse italo-inglese che rappresentasse per così dire una specie di alternativa e di opposizione alla politica del generale de Gaulle in Europa occorre ricordare che in quegli anni il generale de Gaulle a torto non godeva di buona reputazione presso i partiti democratici italiani i quali avevano tendenza a vedere in lui un generale con la sciabola al fianco e non quell'uomo politico democratico e nazionale che effettivamente il generale fu comunque la Germania era troppo interessata ai buoni rapporti di amicizia con la Francia Adenauer aveva rapporti molto cordiali con de Gaulle e quindi il veto di de Gaulle alla fine venne digerito la Gran Bretagna entrò poi nel mercato comune ma entrò soltanto dopo la morte del generale de Gaulle quando il successore del generale de Gaulle Pompidou capì che lui non aveva le spalle sufficientemente larghe per fare la politica che il generale aveva fatto Pompidou aprì la porta alla Gran Bretagna la Gran Bretagna entrò con l'ingresso della Gran Bretagna naturalmente si crearono le condizioni perché il mercato comune si allargasse anche ad altri paesi con la Gran Bretagna entrarono l'Irlanda la Dalimarca la Norvegia la quale peraltro nel corso di un referendum modificò la propria posizione e rifiutò di aderire in altre parole il piccolo nucleo iniziale dei sei paesi originali cominciò progressivamente ad allargarsi e dopo Gran Bretagna Irlanda e Danimarca arrivarono la Grecia la Spagna il Portogallo più recentemente l'Austria la Svezia la Finlandia continua a restare fuori la Norvegia comunque il mercato comune è ormai una cosa completamente diversa da quella che fu in origine ma non ha perduto le sue caratteristiche iniziali e rappresenta pur sempre il più decisivo passo verso l'unità europea compiuto nel corso degli ultimi 50 anni la vera il vero momento cruciale il vero giorno del giudizio per così dire per il futuro del mercato comune o se preferite dell'integrazione europea arriva quando crolla il muro di Berlino quando muore il comunismo e nel giro di poche settimane scompare l'intero impero sovietico in Europa centro-orientale questo significò che molti paesi riacquistarono la libertà Polonia Cecoslovacchia Ungheria in particolare ma altri paesi ancora nella penisola balcanica e che molti di questi paesi per la verità tutti o quasi tutti chiesero fin dall'inizio l'adesione al mercato comune in questo modo il mercato comune dovete porsi il problema della sua identità quanti possono essere i membri del vecchio mercato comune adesso definito unione europea possiamo diventare 20 25 o addirittura 30 comprendendo per esempio le repubbliche del Baltico tutti i paesi della penisola balcanica e poi forse altri compresa la Turchia che da qualche tempo a questa parte ha manifestato la ferma intenzione di far parte anch'essa del mercato comune un allargamento così importante non è forse destinato a snaturare la organizzazione originale a renderla completamente diversa da ciò che era le sue caratteristiche la sua identità non è destinata non sono forse destinate a scomparire ebbene forse sì forse no ma comunque la storia ha messo all'ordine del giorno il problema dell'allargamento del mercato comune ed è molto difficile moralmente psicologicamente e politicamente dire di no a paesi che vogliono conformarsi ai principi dell'organizzazione originale che vogliono farne parte perché ritengono di essere componenti della famiglia europea e sono pronti a fare i sacrifici economici e finanziari necessari per conformarsi interamente alle regole della vecchia Europa nata a Roma nel marzo del 1957 ecco queste sono le sfide che dovremmo affrontare nel corso dei prossimi anni e da cui speriamo l'Europa uscirà non soltanto indenne ma rafforzata ci sentiremo alla prossima trasmissione alle 8 della sera naturalmente su Radio 2 alle 8 della sera 7 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Fabio Ture alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano parleremo questa sera della guerra d'Algeria vale a dire di un capitolo importante nella storia della decolonizzazione dopo la fine della seconda guerra mondiale per certi aspetti l'Algeria rappresentava per la Francia ciò che l'India rappresentava per la Gran Bretagna ricorderete che quando abbiamo parlato della decolonizzazione dell'India abbiamo dovuto mettere l'accento sull'importanza che l'imperio indiano aveva per la cultura per la psicologia di grandi ceti sociali della Gran Bretagna ebbene qualche cosa del genere naturalmente era rappresentato anche dall'Algeria l'Algeria era uno delle tre territori che la Francia controllava nell'Africa settentrionale Marocco Tunisia e Algeria ma vi sono quantomeno delle differenze la Tunisia e il Marocco erano dei protettorati mentre l'Algeria era parte integrante del territorio nazionale francese perché era abitata da circa un milione di europei prevalentemente di origine francese e spagnola accanto a 8 milioni di musulmani un milione non è molto se i musulmani rappresentano pur sempre la maggioranza ma potete immaginare quali fossero le radici i collegamenti familiari di quel milione di europei che abitavano in Algeria quale importanza quale udienza essi avessero all'interno della società nazionale francese comunque il problema della decolonizzazione dei possedimenti francesi nell'Africa del Nord si pose immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale in modo particolarmente visibile con l'inizio degli anni 50 si pose anzitutto il problema della Tunisia il primo ministro francese di allora Mandes France fece un viaggio in Tunisia nel luglio del 1954 dette l'avvio ai negoziati e nel 1956 Francia e Tunisia si accordarono per l'indipendenza un po' più complicata fu la storia del Marocco il quale ottenne l'indipendenza qualche mese prima nel novembre del 1955 ma dopo una serie di intrighi e di imbrogli diplomatici particolarmente difficili e qualche volta addirittura minacciosi in Algeria il governo francese rifiutò di prendere in considerazione l'ipotesi dell'indipendenza ciò che era possibile per il Marocco e la Tunisia non era agli occhi dei francesi possibile per un paese che era parte integrante del territorio nazionale in cui tanti francesi avevano creato la loro vita trasportandovi consuetudini che erano proprie della madre patria insomma il problema dell'indipendenza i francesi ripeto rifiutarono di metterlo all'ordine del giorno e allora di fronte ad una preclusione così evidente del governo francese gli elementi nazionalisti all'interno della società algerina decisero di passare all'uso delle armi la rivolta scoppiò il primo novembre del 1954 e fu detto nel linguaggio politico francese il complotto di ogni santi comincia in quel momento la guerra d'Algeria i francesi trovano di fronte a sé un'organizzazione nuova si chiama fronte di liberazione nazionale il suo leader è un giovane agitatore ben bella non dimenticate che gli algerini parlavano perfettamente francese gli esponenti della loro società politica nella misura in cui si può dire che una società politica esistesse avevano fatto i loro studi a Parigi ebbene ben bella era per l'appunto il rappresentante della migliore società politica algerina perfettamente francofono combattivo intelligente leader di un'organizzazione che da quel momento si configurò come un esercito clandestino pronto a combattere il tempo necessario per la conquista del potere il governo francese reagì naturalmente con grande durezza ma negli anni successivi dette prova di una serie di tentennamenti e di esitazioni esistevano all'interno del governo francese come sempre in queste circostanze due fazioni due partiti il partito degli intransigenti e il partito dei moderati tutti negavano all'Algeria la prospettiva dell'indipendenza tutti desideravano che l'Algeria continuasse a far parte del territorio francese ma vi era chi era maggiormente pronto a fare qualche concessione alle popolazioni musulmane chi invece riteneva che ogni attenzione dovesse essere riservata per i coloni europei comunque occorre dividere la guerra in due tempi dal 1954 anno in cui scoppiò la rivolta di Onissanti al 1958 anno in cui il generale de Gaulle tornò al potere e dal 1958 al 1962 anno in cui furono conclusi gli accordi che dettero all'Algeria l'indipendenza nella prima parte della guerra dal 1954 al 1958 si colloca la crisi di Suez di cui abbiamo parlato nel corso di una trasmissione precedente e io credo che fra le ragioni che indussero il governo francese a partecipare con la Gran Bretagna alla spedizione di Suez vi fu anche il convincimento che al Cairo si nascondesse per così dire il partito pro-algerino che eliminando un avversario come Nasser la Francia avrebbe più facilmente vinto la sua guerra in Algeria la spedizione franco-inglese a Suez terminò nel modo che sappiamo vale a dire con una sconfitta e la guerra continuò sempre più sanguinosa sempre più dura sempre più tragica 400.000 francesi erano ormai impegnati nel conflitto in una continua guerra di guerriglia e terrorismo e contro il terrorismo degli algerini la risposta dei francesi fu molto spesso la tortura un film in particolare raccontò quegli anni con molta crudezza e con molto realismo è il film di un regista italiano si intitola La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo questo film ebbe un considerevole successo in Europa fu bandito in Francia per molti anni e io ricordo ancora la fine degli anni 60 inizio degli anni 70 quando il film non poteva essere visto a Parigi se qualche distributore cercava di presentarlo immediatamente scattavano manifestazioni contrarie boicottaggio del cinematografo tale era la sensibilità ancora dei francesi per il problema algerino aggiungete che nel corso di quegli anni tra l'altro venne scoperto il petrolio in Algeria e anche questo finì per complicare la situazione per rendere naturalmente l'ageria ancora più preziosa ancora più appetibile per i francesi e poi scoppiò uno scandalo che nocque considerevolmente alla Francia Tunisia e Marocco avevano cercato di presentarsi come conciliatori come moderatori come mediatori e avevano stabilito dei rapporti con Bembella a un certo punto Bembella per andare a uno di questi incontri programmati dai marocchini e dai tunisini salì su un aereo che era pilotato da piloti francesi e questi piloti francesi rispondendo evidentemente a ordini che venivano dai servizi francesi rapirono Bembella e lo portarono ad Algeri dove venne incarcerato e anche questo naturalmente suscitò grande indignazione la situazione cambiò radicalmente nel momento in cui i militari francesi stanchi di combattere una guerra senza prospettive sbatterono un pugno sul tavolo e con una sorta di colpo di stato militare cercarono di ottenere che a Parigi andasse al potere un governo più deciso a fare la guerra fu il Pogge del maggio del 1958 quello che dette il via alla trasformazione costituzionale della Francia al ritorno di De Gaulle al potere chiamato a gran voce dalla classe politica francese De Gaulle ritornò al potere dopo il maggio del 1958 e dette l'impressione di essere con i militari vale a dire con quei generali che ad Algeria avevano protestato contro l'inettitudine l'impotenza le esitazioni le debolezze del governo francese dette l'impressione in altre parole di essere esattamente l'uomo forte che i militari desideravano in quella particolare circostanza dette questa impressione anche ai coloni in uno dei suoi viaggi ad Algeria in un grande adunata di folla nella piazza maggiore della città De Gaulle disse alle persone che lo ascoltavano e lo applaudivano disse vi ho capiti e tutti credettero di capire che De Gaulle avrebbe corrisposto alle loro intenzioni alle loro esigenze in realtà in quella frase di De Gaulle vi ho capiti era un forte margine di ambiguità De Gaulle non aveva ancora veramente deciso quale politica perseguire è molto probabile che all'inizio sperassi di vincerla la guerra d'Algeria questo dopo tutto era il desiderio di una gran parte dell'opinione pubblica francese in quel momento e certamente dei militari impegnati nel conflitto ma quando si rese conto che la guerra era molto difficile che il fronte di liberazione nazionale era particolarmente agguerrito che godeva delle simpatie di una larga parte della popolazione algerina che la repressione e la tortura avevano suscitato indignazione non soltanto in Algeria ma anche in Europa e persino in settori molto importanti dell'opinione pubblica francese cominciò progressivamente a modificare il suo atteggiamento alla sua linea politica dopo tutto ciò che interessava De Gaulle era sbarazzarsi di un problema che gli stava come dire precludendo la possibilità di fare altre cose che lui considerava molto più importanti per la grandezza del suo paese per la politica della Francia nel mondo quindi dal momento in cui si accorse che il problema algerino non poteva essere risolto con la forza delle armi cominciò a entrare nell'ordine di idee che occorreva ricorrere alla diplomazia cominciano così dei negoziati dei contatti prima dei negoziati dopo che si concludono nella cittadina francese di Evian con un accordo destinato a concedere all'Algeria l'indipendenza questo accordo fu poi ratificato dall'elettorato francese nel corso di un referendum quindi si può effettivamente sostenere che la politica di De Gaulle fu saggia e lungimirante ma nel momento in cui De Gaulle dimostrò che era l'accordo l'obiettivo verso cui lui tendeva gli si rivoltarono addosso tutti quelli che nel 1958 lo avevano chiamato a gran voce al potere e soprattutto molti dei militari e generali che avevano combattuto ad Algeri in quegli anni fra cui in particolare uno il generale Salon che divenne il capo di un'organizzazione militare segreta definita OAS organizzazione dell'esercito segreto dell'armata segreta De Gaulle fu bersaglio di una serie di attentati il più drammatico fu quello del marzo del 1962 in cui per un pelo non ci rimise la vita riuscì ad eliminare l'OAS nella primavera del 1963 riuscì ad arrestare e a far condannare Salon il quale verrà liberato qualche anno dopo nel maggio del 1968 quando il generale De Gaulle assediato per così dire dalla rivoluzione studentesca di Parigi riterrà avere ancora bisogno del consenso dei militari e farà un gesto di conciliante nei confronti dell'uomo che aveva messo in prigione qualche anno prima nella storia della guerra d'Algeria vi è un capitolo italiano abbastanza interessante credo occorra ricordare anzitutto che la spedizione anglo-francese a Suez piuttosto il fallimento della spedizione anglo-francese a Suez nel 1956 aveva suscitato in alcuni ambienti politici italiani la convenzione che l'Italia potesse recitare nel mondo arabo nel mondo islamico nel Mediterraneo un ruolo che le maggiori potenze coloniali non potevano più esercitare dopo tutto l'Italia aveva avuto una storia coloniale più breve dopo tutto l'Italia aveva dimostrato soprattutto negli anni successivi alla fine del conflitto sensibilità per i paesi emergenti del mondo arabo e del Medio Oriente quindi in una situazione in cui Gran Bretagna e Francia erano stati sconfitti nelle loro ambizioni neo-imperiali l'Italia in altre parole secondo alcuni uomini politici poteva sostituirle questa fu tra l'altro l'idea di uomini come Gronchi forse lo stesso Fanfani la Pira ebbe un disegno analogo anche se più spirituale e culturale e uno degli uomini che incarnò quel disegno sul piano economico fu Enrico Mattei il fondatore della una delle maggiori aziende petrolifere del mondo Lenin ebbene Mattei era certamente un uomo di grandi risorse intellettuali e di grande spregiudicatezza e non appena scoppiò la guerra d'Algeria o piuttosto non appena si scoprì il petrolio in Algeria Mattei cominciò a fare programmi per il futuro cominciò a stabilire rapporti con i rappresentanti della resistenza algerina cominciò a creare una rete di collegamenti nella prospettiva di ciò che sarebbe accaduto alla fine del conflitto il giornalista che meglio conosce queste situazioni che meglio le ricorda e che ne parla spesso con particolari molto interessanti e Mario Pirani questo naturalmente suscitò la diffidenza e il sospetto dei francesi i quali videro in Mattei un alleato del fronte di liberazione nazionale e quindi obiettivamente un nemico ma Mattei continuò per la sua strada e non c'è dubbio che qualche cosa sarebbe stato probabilmente realizzato da Mattei se le circostanze alla fine non avessero giocato contro di lui tra l'altro il fatto che i francesi si misero pur sempre d'accordo con la Francia di De Gaulle ed ebbero quindi un certo interesse a mantenere con la vecchia metropoli un rapporto tutto sommato privilegiato anche se peraltro l'azienda petrolifera italiana è presente in Algeria sin dal momento dell'indipendenza l'Italia ebbe una parte delle vicende algerine anche perché finì per essere per così dire la terra di rimbalzo dei conflitti che ebbero luogo soprattutto fra il 1962 e il 1963 tra i servizi francesi e l'OAS voglio dire l'organizzazione per l'esercito segreto quella del generale Salin corremmo il rischio in altre parole di diventare il terreno neutro su cui i due contendenti francesi della vicenda algerina cercavano di eliminarsi a vicenda e questo indubbiamente non fu comodo devo dire che la storia di Mattei ebbe anche un seguito quando al momento della sua morte qualcuno immaginò che la morte la caduta dell'aereo potesse essere collegata al ruolo che lui aveva avuto nella vicenda algerina in altre parole si cominciò a diffondere il sospetto che di quella morte potessero essere responsabili i servizi francesi a mio avviso si tratta di una delle tante leggende che ancora circolano sulla morte di Mattei ma su questo indubbiamente gli storici avranno occasione di lavorare per parecchio tempo ci sentiremo alla prossima trasmissione alle 8 della sera e come sempre su radio 2 alle 8 della sera 10 gennaio 2000 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano going up 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 going down 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 the sea split with bars of grain parliamo questa sera della costruzione del muro di Berlino nel 1961 cerchiamo di ricordare quali furono i rapporti fra le due germani dopo la nascita dei due stati tedeschi nel 1949 le due germani erano divise dal sipario di ferro una frontiera sigillata che nessuno poteva attraversare se non assoggettandosi a molti controlli e a molte verifiche ma questa lunga frontiera aveva un buco un varco e questo buco era a Berlino la città era divisa in quattro settori un settore sovietico uno inglese uno americano e uno francese e era però congiunta dai mezzi di comunicazione della vecchia Berlino fra cui tra l'altro da una metropolitana quindi per passare dall'est all'ovest bastava in altre parole salire su un treno e dopo tre o quattro stazioni uno si sarebbe ritrovato dall'altra parte che cosa significava questo significava che il sipario di ferro era in realtà a Berlino stracciato e questo ebbe col passare del tempo straordinarie conseguenze perché le differenze fra lo sviluppo dei due paesi e le loro condizioni politiche divennero col passare del tempo sempre più visibili e sempre più tangibili mentre la Germania occidentale cresceva economicamente e si rafforzava come una delle maggiori democrazie europee la Repubblica Democratica tedesca languiva in una sorta di stagnazione economica le sue condizioni erano certamente pesanti soprattutto per le classi lavoratrici e di democrazia non se ne parlava quindi era evidente che i tedeschi dell'est sapessero perfettamente che cosa accadeva dall'altra parte ed era evidente che molti cercassero semplicemente di passare attraverso quel barco nel sipario di Ferro dal 1952 al 1961 2 milioni 245 mila rifugiati lasciarono l'est per l'ovest tenete presente che questi erano soprattutto tecnici erano persone con specifiche competenze medici scienziati in altre parole una vera e propria emorragia una intollerabile emorragia per la Repubblica Democratica tedesca che in questo vedeva un doppio inconveniente da un lato ogni persona che attraversava la frontiera per andare all'ovest esprimeva con ciò un sentimento di sfiducia per la Repubblica Democratica tedesca e dall'altro lato la Repubblica Democratica tedesca veniva progressivamente privata delle competenze e dei talenti di cui aveva bisogno di fronte a una situazione di questo genere il leader della Repubblica Democratica tedesca sin dall'ottobre del 1958 prese un'iniziativa politica diplomatica denunciò l'Occidente per il riarmo tedesco chiese che gli occidentali se ne andassero da Berlino disse che l'Occidente riarmando la Germania aveva violato tutti gli accordi possibili e immaginabili e che quindi occorreva che gli occidentali se ne andassero era una posizione naturalmente molto forzata che non teneva conto delle responsabilità dell'Est ma comunque era una posizione dettata dalla esigenza per la Repubblica Democratica tedesca molto forte di mettere fine a questa pericolosa emorragia il leader sovietico Nikita Khrushchev lo appoggiò sin dal novembre del 1958 fu chiaro allora che vi sarebbe stata una nuova calda questione di Berlino a poco più di dieci anni di distanza da quel ponte aereo di cui abbiamo parlato in una precedente trasmissione e fu chiaro che questa nuova questione di Berlino sarebbe stata forse ancora più pericolosa della questione precedente nei mesi seguenti il leader sovietico Nikita Khrushchev portò avanti l'iniziativa di Ulbricht con nuove minacce minacciò di trasferire i poteri sovietici alla Repubblica Democratica tedesca vale a dire a uno stato che le democrazie occidentali si erano sistematicamente rifiutate di riconoscere per non mettere in discussione il principio della unità della nazione tedesca addirittura in alcune dichiarazioni l'unione sovietica lasciò persino intravedere le possibilità di un conflitto e questo suscitò in campo alleato una serie di dibattiti e anche di divisioni e divergenze come sempre in queste circostanze questa è una regola fondamentale della storia della politica internazionale vi fu il campo dei moderati e il campo degli intransigenti nel campo dei moderati vi erano soprattutto gli inglesi convinti che forse qualche concessione ai sovietici potesse essere fatta nel campo degli intransigenti via re generale de Gaulle e buona parte della classe politica americana ai quali ammonivano che qualsiasi concessione venisse fatta in quelle circostanze sarebbe stata inevitabilmente interpretata come una manifestazione di debolezza e avrebbe quindi pregiudicato la posizione dell'occidente anche in futuro nel frattempo tuttavia e questo è uno degli aspetti paradossali della politica internazionale di quegli anni i rapporti fra Stati Uniti e Unione Sovietica non erano poi così cattivi tanto che Khrushchev nel settembre del 1959 fece una sua famosa visita degli Stati Uniti fu persino portato a Hollywood dove si arrabbiò per un balletto del Cancan di un film che si stava girando in quel momento e che lui considerò una manifestazione di decadenza morale dell'occidente e comunque il viaggio andò piuttosto bene anche perché Khrushchev giunse negli Stati Uniti poco dopo l'arrivo del primo missile sovietico nella luna e poté quindi in qualche modo incassare il beneficio di pubblicità di immagine che derivava da questa straordinaria impresa spaziale in quell'occasione Khrushchev disse qualche cosa che potrebbe essere interpretato come un gesto di conciliazione disse noi riteniamo che il nostro sistema sia migliore e voi pensate che il vostro sistema sia migliore ma naturalmente non dobbiamo trasformare questa divergenza in lotta aperta se litighiamo non soltanto i nostri paesi subiranno perdite colossali ma gli altri paesi saranno trascinati nell'annientamento del mondo ecco quindi il paradosso mentre a Berlino Khrushchev appoggiava una politica particolarmente dura e con prospettive di conflitto altrove il leader sovietico dava prova di grande buonsenso di grande ragionevolezza così era questa era la sua natura questo era il suo carattere era un contadino intelligente una specie di Bertoldo con improvvisi lampi di saggezza e di buonsenso capace di sbattere la scarpa sul tavolo come fece una volta alle Nazioni Unite ma anche capace di capire che il futuro dell'umanità era troppo importante per giocarselo con le aggressive dichiarazioni diplomatiche certamente in quegli anni Khrushchev nonostante tutto ebbe un ruolo positivo il viaggio negli Stati Uniti dimostrò che con Khrushchev si poteva parlare quella fase della vita politica internazionale fu definita disgelo questo è il titolo tra l'altro di un romanzo di uno scrittore sovietico allora molto noto Ilia Ehrenburg si parlò di distensione si parlò cioè della possibile fine della guerra fredda circostanze dimostrarono che non era così che la guerra fredda sarebbe continuata ma certamente dimostrarono che anche all'interno della guerra fredda potevano essere di tanto in tanto sprazzi di cielo sereno in un momento di distensione e disgelo fu deciso che vi sarebbe stata una conferenza fra i grandi a Parigi nel maggio del 1960 io ricordo perfettamente quel periodo perché quella conferenza parve a una larga parte dell'opinione politica d'Europa ed America come il possibile inizio di una fase nuova ma il primo maggio 15 giorni prima dell'inizio della conferenza un aereo americano un aereo U2 era stato abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica questo era un aereo di ricognizione guidato da un solo pilota il quale viaggiava ad una alta altitudine ed era dotato di apparecchi fotografici quelli che poi verranno perfezionati e utilizzati per i satelliti che permettevano di fotografare il territorio sovietico e quindi di verificare lo stato della preparazione militare di certe installazioni ebbene quell'aereo fu abbattuto il pilota si chiamava Powers venne preso vivo venne successivamente processato e poi alla fine restituito agli Stati Uniti qualche tempo dopo naturalmente questo episodio finì per rendere il clima della guerra fredda ancora più più caldo più teso Khrushchev arrivò a Parigi nel maggio del 1960 ma non appena arrivato a Parigi pretese le scuse degli Stati Uniti chi disse che la conferenza avrebbe avuto luogo e sarebbe stata utile soltanto se il generale Eisenhower allora presidente degli Stati Uniti avesse riconosciuto le colpe del suo paese e avesse in altre parole chiesto formalmente scusa il generale Eisenhower tergiversò disse che avrebbe interrotto i voli sino alla fine della sua presidenza che era comunque molto vicina ma non poté non volle prendere impegni era molto diffusa nell'opinione politica americana la convinzione che finché l'Unione Sovietica fosse stato un sistema chiuso al controllo delle democrazie sarebbe stato lecito servirsi per verificare i suoi piani militari anche di sistemi come per l'appunto gli aerei U2 in altre parole la conferenza fallì a New York un altro episodio di guerra fredda occorse nell'ottobre dello stesso anno un episodio a cui ho fatto riferimento poco fa il delegato filippino dichiarò che occorreva liberare tutti i popoli anche quelli che vivevano dietro il separio di ferro l'allusione allo stato di servitù delle opinioni pubbliche dei paesi del sistema sovietico era per Khrushchev evidentemente intollerabile Khrushchev per protestare si tolse la scarpa la sbatté più volte sul tavolo ma dichiarò contemporaneamente di non volere la guerra ecco ancora una volta Khrushchev ambiguo e ambivalente riesce ad essere al tempo stesso duro ma conciliante queste due caratteristiche facevano evidentemente parte non soltanto della sua perizia diplomatica ma anche della sua natura di essere umano disse in quella occasione Khrushchev che la competizione sarebbe stata risolta tra i due blocchi non con la guerra ma su un altro piano secondo i nostri calcoli disse allora Khrushchev supereremo gli Stati Uniti nella produzione per abitante nel 1970 secondo i calcoli dei nostri economisti nel 1980 produrremo per abitante molto più degli Stati Uniti nel 1965 continua Khrushchev produrremo per abitanti quanto e persino più articoli di consumo dei paesi europei questa dichiarazione ebbe certamente un grande merito quello di spostare il terreno della competizione dalle armi all'economia naturalmente i fatti dimostrarono che era completamente sbagliata che l'Unione Sovietica non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi dichiarati da Khrushchev ma in quel momento ripeto tutti registrarono il fatto che l'Unione Sovietica non voleva fare la guerra voleva semplicemente competere sul piano economico e sociale anche l'Italia ebbe una sua parte nella storia di quegli anni il presidente della Repubblica era Giovanni Gronchi ed era molto preoccupato dal desiderio di esercitare un ruolo di mediazione fra i due blocchi di dare un personale contributo alla soluzione del problema di Berlino con alcune iniziative diplomatiche che lasciarono perplessi anche i ministri dei governi italiani oltre che alcuni alleati in particolare gli Stati Uniti Gronchi si dette per lo punto da fare cercando di trovare una soluzione una soluzione che potesse piacere agli uni e agli altri con questo spirito andò a Mosca nel febbraio del 1960 non vè dubbio che nelle intenzioni di Giovanni Gronchi il viaggio a Mosca rappresentasse per l'appunto un tassello importante nella sua diplomazia della mediazione e della conciliazione ma all'ambasciata d'Italia dove Khrushchev venne per un ricevimento offerto dal presidente della Repubblica italiana vi fu un battibecco un battibecco nel corso del quale come qualche volta accadeva Khrushchev dette il peggio di sé perché non si rese conto che tutto sommato la diplomazia italiana in quel particolare momento poteva anche giovarli e invece impegnò una specie di duello sulle prospettive dei due sistemi economici e sociali in cui naturalmente pronunciò una serie di slogan comunisti ai quali inevitabilmente gronchi dovette reagire anche un altro uomo politico italiano sperò in quegli anni di esercitare un ruolo di conciliazione e di mediazione e quest'uomo politico fu Fanfani il quale giunse a Mosca ai primi di agosto del 1961 in altre parole proprio alla vigilia ne parleremo fra un istante dell'avvenimento che in qualche modo dà il titolo alla nostra trasmissione la costruzione del muro di Berlino Fanfani giunse a Mosca all'inizio dell'agosto del 1961 rientrò in Italia ebbene nella notte fra il 12 e il 13 agosto del 1961 comincia la costruzione del muro da quel momento i sovietici rinunciano a chiedere la partenza degli alleati dai settori occidentali della città e abbandonano quindi di fatto l'intenzione di stipulare una pace separata con la Repubblica Democratica tedesca ma un muro costruito fra i settori occidentali e i settori orientali ricucirà d'ora in poi lo strappo che si era aperto nel sipario di ferro al momento della costituzione dei due stati tedeschi Fanfani credo ne fu molto indispettito vide in questo l'impossibilità per sé e per l'Italia di svolgere un qualsiasi ruolo e reagì con un comunicato che lì per lì parve manifestare soprattutto disappunto il peggioramento della situazione dice il comunicato avrebbe potuto essere evitato se gli alleati avessero dato ascolto alle raccomandazioni dell'onorevole Fanfani ma può davvero sostenersi che la situazione con la costruzione del muro era peggiorata io credo che guardati in prospettiva quegli avvenimenti dicano esattamente il contrario perché con la costruzione del muro in realtà venne messo fine al contenzioso ricordate negli anni precedenti i sovietici avevano chiesto agli alleati di andarsene dalla città con la costruzione del muro non lo chiesero più perché a quel punto il muro rendeva ormai il problema di fatto risolto il problema dell'emorragia a cui ho fatto riferimento in altre parole il muro apparentemente un pugno sul tavolo una manifestazione di politica aggressiva e certamente inumana si dimostrò tuttavia come si usa dire politicamente stabilizzante da quel momento la guerra fredda non diventò certamente una pace ma il processo di conflittualità fu in qualche modo frenato e attenuato in questo occorre riconoscerlo il muro paradossalmente ebbe una parte positiva alla prossima trasmissione ancora una volta su Radio 2 alle 8 della sera alle 8 della sera 11 gennaio 2000 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano parleremo questa sera di un altro avvenimento drammatico nella storia della guerra fredda forse dell'avvenimento che ci dette maggiormente la sensazione della possibilità di un conflitto mi riferisco alla crisi dei missili cubani nell'ottobre del 1962 anche in questo caso occorre tornare indietro nel tempo e cercare di comprendere quale fosse l'antefatto della crisi l'antefatto della crisi è nei rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti nel 1898 gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Spagna allora potenza titolare dell'isola di Cuba e con la vittoria americana Cuba divenne indipendente divenne veramente indipendente? No in realtà di fatto Cuba divenne una sorta di protettorato degli Stati Uniti i quali conservarono e iscrissero nella Costituzione di Cuba il diritto all'intervento militare e in alcune circostanze effettivamente intervennero più tardi negli anni 30 di questo secolo rinunciarono a quella clausola della Costituzione cubana rinunciarono quindi al diritto di intervento ma installarono nell'isola una base militare la base di Guantanamo che tuttora esiste per molto tempo Cuba fu in realtà una sorta di dipendenza turistica ed economica degli Stati Uniti una specie di Monte Carlo dei Caraibi vi erano molte industrie americane a Cuba indubbiamente gli americani avevano grosso modo il 50% delle azioni delle ferrovie delle telecomunicazioni una parte dell'agricoltura cubana era controllata da una grande società la United Fruit Company i governi cubani erano molto spesso tenuti a render conto di ciò che facevano a una sorta di pro console americano che era per l'appunto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Lavana negli anni 50 l'uomo al potere a Cuba era Battista Fulgenfio Battista un sergente il quale aveva conquistato il potere con un colpo di Stato era stato eletto presidente nel 1939 se ne era andato di sua volontà nel 1944 ma era tornato con un altro colpo di Stato nel 1952 e negli anni del potere di Battista l'isola era stata amministrata con le regole di ferro della corruzione personale del leader politico in altre parole le condizioni politiche economiche e sociali dell'isola erano andate progressivamente deteriorandosi al punto che gli stessi americani avevano cominciato a manifestare nei confronti di Battista una certa stanchezza l'uomo non riscuoteva più l'appoggio di Washington anche se all'interno del Dipartimento di Stato e all'ambasciata degli Stati Uniti a Lavana vi era pur sempre chi riteneva che valesse la pena di appoggiare lui piuttosto che di aprire la strada ad una trasformazione del regime ma il malumore il malcontento all'interno dell'isola cresceva di questo non vi era alcun dubbio le manifestazioni di resistenza al regime di Battista si fecero durante la fine la seconda metà degli anni 50 sempre più evidenti sempre più tangibili l'uomo che assunse la guida del movimento di resistenza era un giovane avvocato Fidel Castro era nato nella famiglia di un agricoltore aveva studiato legge aveva sin dall'inizio sin da giovane manifestato sentimenti di rivolta e nel luglio del 1953 aveva guidato un assalto alle caserme di Moncada questo gli aveva procurato due anni di prigione dopo la prigione era partito dall'isola si era rifugiato in Messico era tornato a Cuba nel dicembre del 1956 con uno yacht chiamato Gramma vi ricordo che Gramma è il titolo del maggiore quotidiano cubano ed è per l'appunto il ricordo della piccola nave della piccolo vascello su cui Castro era ritornato a Cuba subito dopo il suo ritorno aveva organizzato i guerrieri della Sierra Maestra i cosiddetti Barbudos si era dimostrato anche un leader militare oltre che politico piuttosto efficace nel marzo del 1958 aveva chiamato i cubani alla guerra totale contro il regime di Battista l'insurrezione aveva cominciato a registrare i suoi primi successi era evidente ormai che Castro rappresentava una forza politica di cui era impossibile non riconoscere l'importanza Battista fu progressivamente abbandonato da persone che avevano fatto su di lui un investimento di opportunismo dovette alla fine abbandonare il paese precipitosamente per rifugiarsi a Lavana e i Barbudos fecero il loro ingresso a Lavana nel dicembre del 1958 qualche giorno dopo arrivò Fede il Castro la posizione dell'America fu di fronte a questi avvenimenti piuttosto incerta esitante si direbbe persino in alcune circostanze ambigua molti americani erano contrarli da tempo a Battista qualcuno probabilmente manifestava una certa simpatia per Castro che in quel momento non era certamente un uomo politico comunista dopotutto di cambiamenti venerano stati altri nell'isola perché non sarebbe stato possibile mettersi d'accordo con Castro che oltretutto sembrava rappresentare maggiormente il sentimento nazionale i consensi della pubblica opinione ripeto Castro non era allora comunista era un giovane avvocato liberale di sinistra il quale si era battuto contro il sergente Battista con gli unici mezzi possibili in una dittatura come quella nulla in altre parole nel 1959 era ancora pregiudicato nei rapporti fra gli Stati Uniti e la nuova dirigenza politica dell'isola di Cuba la situazione cominciò a cambiare nel corso del 1960 e cominciò a cambiare per una serie di circostanze Castro anzitutto prese delle decisioni economiche che parvero agli Stati Uniti lesive dei loro interessi la sua riforma agricola colpì soprattutto la United Fruit Company e colpendo la United Fruit Company colpì probabilmente una delle lobby che potevano far pervenire al governo di Washington delle pressioni importanti questo fu una delle ragioni un'altra ragione fu il fatto che Castro si considerò per così dire vulnerabile nei rapporti con gli Stati Uniti qual era la maggiore produzione economica dell'isola era lo zucchero lo zucchero rappresentava l'80% delle esportazioni cubane lo zucchero di canna per quanto pregiato era battuto sul piano internazionale dalla concorrenza di altri prodotti ecco sulla questione dello zucchero si andò a giocare per molti aspetti il rapporto tra Cuba e gli Stati Uniti perché lo zucchero fu così importante semplicemente perché Cuba aveva bisogno che qualcuno comprasse lo zucchero e lo comprasse a un prezzo politicamente vantaggioso ripeto sul mercato internazionale lo zucchero era battuto dalla concorrenza dello zucchero di barbabietola e di altri prodotti risultato nel momento in cui l'America cessò di comprare lo zucchero cubano a prezzi politici e Castro cominciò a rivolgersi altrove in quel periodo fece la sua visita nell'isola il ministro del commercio estero sovietico un armeno intelligente grande seduttore sul piano politico il suo nome era Mikoyan ebbene cominciarono ad avviarsi delle conversazioni fra i cubani e i sovietici e l'Unione Sovietica promise che avrebbe comperato lo zucchero di canna di Cuba ad un prezzo vantaggioso per l'economia cubana questo naturalmente indusse Castro a rafforzare i suoi legami con l'Unione Sovietica probabilmente accadde nel suo pensiero qualche cosa d'altro probabilmente lui stesso per altre ragioni caratteriali psicologiche cominciò a subire l'influenza la seduzione del sistema comunista cominciò davvero a credere che il destino dell'isola potesse essere risolto con una rivoluzione di tipo comunista e progressivamente cominciò ad affermare che la sua teoria era quella del leninismo del marxismo leninismo che avrebbe guidato l'isola secondo i criteri della rivoluzione comunista naturalmente tutto questo suscitò all'interno della società politica americana un profondo sospetto una grande diffidenza non bisogna dimenticare che erano pur sempre anni di guerra fredda non bisogna dimenticare che il comunismo nei Caraibi era percepito a torto o ragione dalla società degli Stati Uniti come una minaccia infinitamente più grave del comunismo a Praga o del comunismo a Budapest avrebbe potuto infettare contaminare l'intera società dell'America centrale e dell'America latina insomma era per gli Stati Uniti intollerabile e inammissibile quindi nell'ottobre del 1960 il governo americano durante la campagna elettorale proclamò l'embargo totale sul commercio con Cuba la rottura delle relazioni diplomatiche seguì e da allora da quel momento il governo americano cominciò a fare una politica di sostegno sostegno clandestino a quegli elementi della società cubana che avevano abbandonato l'isola e si erano rifugiati negli Stati Uniti cominciò in altre parole a preparare la guerriglia anticastrista del futuro guerriglieri cubani anticomunisti furono addestrati nelle basi americane e venne addirittura preparato un progetto di invasione dell'isola che gli americani avrebbero sostenuto con i loro aerei è l'invasione della Baia dei Porci il 15 aprile del 1961 preceduti da una una serie di bombardamenti un certo numero di cubani sbarcò nell'isola nella convinzione di poter rapidamente travolgere le resistenze dell'esercito castrista questo non accadde furono sconfitti furono imprigionati il presidente allora non era più Eisenhower il presidente era un nuovo giovane dinamico capo dello Stato Kennedy il quale non aveva preparato quella invasione probabilmente non ne condivideva necessariamente la strategia ma ebbe subito il coraggio di proclamare che se ne sarebbe addossato le responsabilità la crisi dei missili scoppia pochi mesi dopo ancora una volta è un aereo U2 quello che era stato abbattuto nel cielo dell'Unione Sovietica il quale scopre con le sue fotografie che si stanno costruendo nell'isola delle rampe missilistiche siamo nell'ottobre del 1962 Kennedy reagisce immediatamente con fermezza rampe missilistiche potevano essere soltanto rampe sovietiche destinate a ospitare missili i quali avrebbero all'occorrenza colpito il territorio degli Stati Uniti furono prese in considerazione allora a Washington tutte le possibilità fra cui anche la distruzione delle rampe fu deciso di adottare per il momento una strategia più moderata fu deciso il blocco dell'isola per impedire alle navi sovietiche di arrivare a Cuba naturalmente non era la guerra ma era pur sempre una manifestazione di forza che avrebbe potuto provocare in ultima analisi un conflitto cominciarono tuttavia contemporaneamente le trattative ancora una volta siamo di fronte ad una di quelle situazioni ambigue che caratterizzano gli anni 50 e 60 in cui la fermezza delle parole e la come dire la moderazione degli atteggiamenti vanno a braccetto queste trattative cominciarono per lettera per lettere trasmesse fra Khrushchev e Kennedy e pian piano nel corso di questi accordi punteggiati da dichiarazioni pubbliche quasi sempre intransigenti comincia a formarsi a prendere corpo la possibilità di un accordo l'accordo prevedeva alcune clausole i sovietici avrebbero sì ritirato i missili da Cuba ma gli americani si sarebbero impegnati a non invadere l'isola in altre parole gli americani avrebbero accettato un regime comunista nei caraibi senza tentare di destabilizzarlo se non con le armi dell'economia Cuba avrebbe voluto molto di più Castro avrebbe voluto il ritiro degli americani dalla base di Guantanamo ma quello non riuscì ad ottenerlo perché Khrushchev si rese conto di avere spinto il gioco fino alle ultime possibilità e capì che spingerlo ulteriormente sarebbe stato troppo pericoloso devo dire che tutta questa vicenda ebbe anche qualche ripercussione sull'Italia nel corso delle trattative con Kennedy Khrushchev aveva chiesto che gli Stati Uniti non si limitassero a promettere che non avrebbero più invaso Cuba avrebbero dovuto a suo avviso anche ritirare i missili dall'Italia e dalla Turchia i missili si chiamavano Jupiter i missili americani in altre parole se noi ritiriamo i missili da Cuba voi dovete ritirare i missili dall'Italia e dalla Turchia che dopo tutto non sono poi così più lontani dal territorio sovietico di quanto siano i missili cubani dal territorio degli Stati Uniti Kennedy rifiutò di accettare questa clausola ma qualche mese dopo fece o finì per fare esattamente ciò che Khrushchev gli aveva chiesto cioè ritirò effettivamente i missili dalla Turchia e dall'Italia fu così che venne sventata la possibilità di una terza guerra mondiale vi fu davvero il rischio? posso soltanto ricordarvi quello che disse un uomo politico americano un collaboratore di Kennedy McNamara in quei giorni nelle sue memorie scrisse sono andato a casa questa sera e tornando in famiglia lungo la strada mi sono chiesto se non sarebbe stato quello l'ultimo giorno in cui li avrei visti buonasera ci sentiremo alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su Radio 2 alle 8 della sera 12 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera a chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano parleremo questa sera della guerra del Vietnam vale a dire della guerra che impegnò per alcuni anni negli Stati Uniti in una lontana regione asiatica e che ebbe ripercussioni durevoli psicologiche culturali morali sulla società americana l'Indocina perché di questo stiamo parlando alla fine della seconda guerra mondiale era ancora una colonia francese ma al nord nel Vietnam settentrionale una fazione comunista guidata da Ho Chi Minh si era progressivamente affermata diventando per i francesi sempre di più una spina nel fianco una sfida di difficile eliminazione ecco quindi che si apre il primo conflitto della seconda guerra mondiale ancora prima della guerra di Corea i francesi cominciano a combattere l'Indocina e cominciano a combattere con i comunisti subiscono poi una dura sconfitta a Dien Bien Phu da parte di Ho Chi Minh e sono costretti a venire a patti è lo stesso Man des France il primo ministro francese che aveva concluso gli accordi per la Tunisia e per il Marocco il quale si rende conto della necessità di arrivare a patti anche per l'Indocina e al momento degli accordi nascono così quattro stati due Vietnam un Laos e una Cambogia i due Vietnam sono uno comunista al nord e uno democratico comunque di obbedienza occidentale al sud gli americani a mano a mano che i francesi sono costretti a uscire dalla penisola indocinese e si sentono per così dire impegnati ad assumere la loro eredità per la verità gli americani in una prima fase avevano rifiutato di sostenere di appoggiare i francesi nella loro guerra contro i comunisti ma ripeto con il passare del tempo si resero conto che le responsabilità nella regione erano ormai loro se ne resero conto anche perché il generale Eisenhower pronunciò in quegli anni un famoso discorso in cui enunciò spiegò la teoria del domino secondo Eisenhower bisognava evitare che un tassello o una scheda del domino asiatico divenisse comunista perché se questo fosse accaduto inevitabilmente le schede e i tasselli più vicini avrebbero progressivamente assunto lo stesso colore questa teoria del domino influì molto fortemente sulla politica estera americana in quegli anni e giustificò per così dire la decisione degli Stati Uniti di appoggiare il regime democratico o supposto democratico del Vietnam meridionale che era guidato in quel momento da un uomo chiamato Ngo Den Diem Diem era un cattolico nel quale in quegli anni ebbe la cattiva abitudine di farsi molti nemici i comunisti naturalmente ma questo era piuttosto prevedibile ma anche i buddhisti e anche quella componente liberale della società vietnamita che nei modi despotici di Diem evidentemente non si riconosceva ma gli americani lo appoggiarono ugualmente lo appoggiarono perché erano convinti che la Cina comunista sostenesse il nord e che l'unica possibilità per far fronte a un Vietnam comunista dietro il quale si profilava la minaccia cinese fosse quello di sostenere a Saigon capitale del Vietnam meridionale il regime di Dien fu il generale Eisenhower indubbiamente la persona che gettò le basi creò le condizioni per questo progressivo e crescente intervento della politica americana nella Vietnam ma occorre riconoscere che il presidente Kennedy suo successore finì per fare esattamente la stessa cosa e sempre in misura crescente fu lui che aumentò molto il numero dei consiglieri americani più recentemente vi è stato un film di Oliver Stone in cui si sostiene sostanzialmente che il presidente Kennedy fu ucciso da coloro che volevano sbarazzarsi di lui perché lo consideravano un ostacolo alla politica di impegno militare che intendevano perseguire in Vietnam temo che anche questo faccia parte delle leggende un po' letterarie che vengono diffuse nel mondo sulla base di convinzioni difficili da sradicare e il presidente Kennedy in realtà continuò la politica di Eisenhower aumentò la presenza americana in Vietnam alla morte di Kennedy la presidenza passò a Lyndon Johnson il vicepresidente Johnson fu un uomo politico bizzarro per molti aspetti fu lui che realizzò una politica sociale di largo respiro erede in questo della politica del presidente Roosevelt ma nel Vietnam fu infinitamente più bellicoso e aggressivo di quanto non fossero stati i suoi due predecessori Eisenhower e Kennedy nell'agosto del 1964 il 7 agosto fece approvare dal congresso una risoluzione con cui ottenne di fatto una delega in bianco una procura un mandato a fare la guerra comincia da quel momento un intervento sempre più decisivo sempre più impegnativo si arriverà al livello di 500.000 uomini presenti nel Vietnam 500.000 americani nel 1968 questo significa molto probabilmente che dati gli avvicendamenti del personale militare sono passati dal Vietnam in quegli anni per fare la guerra probabilmente più di 2 milioni 2 milioni e mezzo di persone se calcolate i loro legami familiari vi rendete conto dell'importanza che la guerra ha avuto per la società americana e vi rendete conto quindi delle ragioni per cui a partire dal 1966 la guerra cominciò a suscitare nella società degli Stati Uniti sentimenti di malumore di dissenso il dissenso scoppiò nelle università fu naturalmente particolarmente visibile nei giovani in quei giovani che avrebbero dovuto fare il servizio militare esisteva ancora allora il servizio militare obbligatorio in America e partire per il Vietnam vi ricordo che una delle polemiche che sorsero al momento della campagna elettorale per la elezione di Clinton alla Casa Bianca fu proprio quella suscitata dal fatto che Clinton era riuscito a non partire per il Vietnam a molti veterani questo parve una intollerabile violazione del codice morale di un uomo politico degli Stati Uniti credo che l'atteggiamento di Clinton fosse molto rappresentativo di un sentimento allora particolarmente diffuso fra i giovani e nelle università americane come nella guerra d'Algeria gli americani ricorsero in alcune circostanze a mezzi e strumenti particolarmente duri un massacro nel villaggio di Mai Lin suscitò l'indignazione dell'opinione pubblica internazionale ma soprattutto l'indignazione dell'opinione pubblica americana insomma fu chiaro a un certo punto che la guerra non sarebbe stata vinta per due ragioni anzitutto perché i vietnamiti erano agguerriti e stavano combattendo con molta fermezza ma anche perché dietro le spalle dei combattenti americani si apriva per così dire un fronte del dissenso che rendeva il conflitto sempre più difficile e fu in queste circostanze che Lyndon Johnson decise di aprire i negoziati con i vietnamiti a Parigi nel maggio del 1968 si dà il caso per una di quelle coincidenze storiche che l'incontro fra vietnamiti e americani a Parigi nel maggio del 1968 coincise con la rivoluzione studentesca la cosiddetta rivoluzione studentesca il maggio francese e si dà il caso che gli slogan dei dimostranti e degli studenti dimostranti fossero molto spesso per l'appunto slogan anti-americani per la guerra del Vietnam Johnson decise di non candidarsi alle elezioni capì che la sua persona ormai era diventato un elemento di conflitto all'interno della società americana si fece da parte e la sua successione fu presa da un presidente repubblicano Nixon sempre nel 1972 l'anno della visita di Nixon a Pechino cominciarono i negoziati segrechi di Kissinger a Parigi con Leduc To ecco ricordiamo questi due nomi Kissinger e Leduc To ambe due ricevettero il premio Nobel per la pace negli anni seguenti l'accordo fu concluso il 27 gennaio del 1973 e gli americani ebbero la sensazione di avere finalmente risolto nel modo migliore il problema del Vietnam pensarono che la transizione sarebbe stata relativamente pacifica e poterono in questo modo andarsene dal dal paese con la coscienza tutto sommato di avere salvato il salvabile le cose non andarono esattamente a quel modo continuò la guerra il nord continuò a registrare importanti successi militari il sud abbandonò progressivamente il suo territorio il governo sud vietnamita si andò progressivamente indebolendo fino all'aprile del 1975 quando le truppe del nord fecero l'indoro ingresso a Saigon e ribattezzarono la città con il nome di Ho Chi Minh City la occupazione di Saigon fu drammatica soprattutto per gli americani gli americani dell'ambasciata dovettero abbandonarla rapidamente fuggendo dal tetto dell'ambasciata con un elicottero la guerra il bilancio della guerra fu gravissimo per gli Stati Uniti gravissimo in termini di vite umane perdute sul terreno in termini di prestigio politico perduto sulla scena internazionale in termini di ferite inflitte alla società degli Stati Uniti e ancora oggi alcune delle cicatrici che si sono aperte all'epoca della guerra del Vietnam non si sono ancora richiuse vi sono tragedie che non sono state dimenticate la ricerca dei cadaveri dei prigionieri per esempio ha assunto una proporzione per molti aspetti simile a quella che ebbe nella società politica italiana alla fine della seconda guerra mondiale per molti anni la ricerca dei prigionieri italiani in Unione Sovietica le ripercussioni furono gravi anche in Europa dove temo che gli americani abbiano perduto in quel momento una parte del smalto del lustro del prestigio che avevano conquistato agli occhi di una parte larga della società europea degli anni precedenti forse occorre ricordare che gli Stati Uniti erano stati molto critici del colonialismo europeo e avevano in molte circostanze criticato e condannato gli imperi coloniali europei e il desiderio europeo nell'immediato dopoguerra di mantenere le colonie del passato a Suez nel 1956 gli americani erano stati particolarmente severi nei confronti della Gran Bretagna ed ecco che ora gli americani si rendevano colpevoli così almeno appariva agli occhi europei delle stesse colpe facevano esattamente ciò che avevano loro americani precedentemente rimproverato agli europei naturalmente fu negli ambienti della sinistra che la guerra del Vietnam suscitò maggiori opposizioni per molto tempo divenne il tema delle grandi campagne delle grandi manifestazioni soprattutto studentesche e giovanili organizzate dai partiti della sinistra quanti proclami di amministrazioni municipali governate dalla sinistra ebbero in quegli anni per tema il Vietnam ma valeva davvero la pena di mobilitarsi per il Vietnam comunista la domanda se valesse davvero la pena di mobilitarsi per il Vietnam comunista è giustificata dal fatto che qualche anno dopo nel giorno di Natale del 1978 il Vietnam invase un paese comunista la Cambogia allora Campucea governata dai comunisti di Pol Pot e dal fatto che nel febbraio del 1979 fu la Cina la Cina comunista a invadere il Vietnam capimmo allora capimmo tutti allora che in realtà i rapporti tra Cina comunista e Vietnam non erano così amichevoli come qualcuno aveva pensato negli anni precedenti e per la verità chi conosceva l'Asia lo sapeva da un pezzo che il Vietnam era pronto a sostenere e a difendere la propria indipendenza non soltanto contro il nemico americano ma contro quello che aveva considerato sempre il suo nemico tradizionale vale a dire l'imperialismo aggressivo e arrogante della potenza cinese fu comunque chiaro a tutti in quegli anni che potevano esservi fra le potenze comuniste dissidi non meno gravi di quelli che esistevano fra le democrazie e le potenze comuniste fu chiaro allora anche un'altra cosa cioè che il generale Eisenhower con il suo famoso discorso sulla teoria del domino aveva in realtà commesso un errore ricordate il generale Eisenhower aveva sostenuto che occorreva evitare che un tassello importante dell'Asia meridionale divenisse comunista perché come nel domino un tassello avrebbe finito per contaminare e contagiare gli altri l'intera area sarebbe divenuta comunista ebbene è accaduto per molti aspetti esattamente il contrario non soltanto l'intera area non è divenuta comunista dispetto della conquista del potere dell'intero Vietnam da parte dei comunisti ma ogni paese anche i paesi comunisti hanno finito in ultima analisi per seguire strade nazionali e di sviluppo economico molto più conformi alle teorie occidentali ciò a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi vent'anni e in realtà alla nascita di una nuova economia asiatica aggressiva dinamica fondata sulle regole del mercato e sull'imprenditoria esattamente il contrario in altre parole di ciò che il generale Eisenhower temeva negli anni della sua presidenza abbiamo assistito persino alla conversione al capitalismo di quella che era stata la maggiore roccaforte del comunismo asiatico vale a dire la repubblica popolare cinese che cosa dimostra tutto questo ma forse dimostra semplicemente che gli uomini politici anche quando hanno le migliori e le più nobili delle intenzioni non tengono qualche volta conto anzi non tengono spesso conto del fatto che la storia con i suoi disegni difficilmente indecifrabili finisce per produrre risultati completamente diversi da quelli che loro avevano immaginato buonasera ci sentiremo alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su radio 2 alle 8 della sera 13 gennaio 2000 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di sergio romano regia di giancarlo simoncelli a cura di angela zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano buonasera parleremo questa sera di un avvenimento del 1968 l'invasione sovietica della cecoslovacchia ma prima di parlare di questo avvenimento converrà a ricordare che cosa è stato il 1968 in Europa mi riferisco naturalmente al movimento studentesco mi riferisco a Parigi Berlino Milano Roma Torino alle città che furono caratterizzate da una forte agitazione studentesca e in quelle agitazioni era presente altresì una critica da sinistra al partito comunista ritroviamo nei movimenti studenteschi del 1968 quasi tutte le componenti della sinistra dissidente che per molti anni aveva manifestato riserve nei confronti dell'unione sovietica del regime comunista così come si era concretamente realizzato nei paesi dell'Europa centro-orientale dopo la fide della seconda guerra mondiale trotschismo terzomondismo maoismo autogestionismo anarchia ebbene una situazione del genere riscontriamo per molti aspetti anche in Czechoslovakia nel corso del 1968 ma che cosa era accaduto negli anni precedenti in Czechoslovakia nel 1948 lo sappiamo ne abbiamo parlato a suo tempo i comunisti avevano conquistato il potere e da allora avevano gradualmente pervaso la società occupando tutte le leve di maggiore responsabilità trasformando naturalmente il regime in un regime obbediente disciplinato obbediente agli ordini dell'Unione Sovietica ma la Czechoslovakia era altresì fra i paesi dell'Europa centrale uno di quelli in cui le tradizioni democratiche e le tradizioni sindacali erano particolarmente forti così forti in effetti che nel corso di quegli anni nel corso degli anni bui del regime satellite cecoslovacco questi fermenti erano pur sempre rimasti presenti nella società ed ecco che nel 1967 qualche cosa comincia ad agitarsi nelle acque della situazione cecoslovacca sono gli intellettuali i quali cominciano a chiedere per sé delle prerogative dei diritti dei privilegi sostengono che le cose andavano infinitamente meglio sotto i regimi borghesi che l'intelligenza poteva godere allora di immagini di autonomia di cui è stata progressivamente privata nel corso degli anni del regime sovietico ebbene gli intellettuali trovano all'interno del partito una certa rispondenza trovano una simpatia fra alcuni componenti del partito comunista cecoslovacco i quali vanno da tempo esaminando la situazione del paese e progettando riforme il segretario del partito è Novotny il quale fa qualche gesto di conciliazione nei confronti dell'intelligenza non tuttavia quanto basti per calmare le acque ed ecco che all'interno del partito si fa strada una fazione una corrente guidata da un membro del partito slovacco Alexander Tupcek un uomo intelligente bonario conciliante capace evidentemente di suscitare nonostante una certa debolezza dei sentimenti di simpatia nell'opinione pubblica e soprattutto fra i militanti del partito Alexander Tupcek diventa segretario del partito nel gennaio del 1968 il 3 gennaio 1968 da questo momento gli avvenimenti cecoslovacchi cominciano a diventare molto interessanti per tutta l'Europa promosso la direzione del partito nel gennaio del 1968 Dubcek lanciò immediatamente un programma di riforme particolarmente interessante voleva liberalizzare il partito comunista voleva liberalizzare la società cecoslovacca introducendo tra l'altro la possibilità della creazione di nuovi partiti una maggiore libertà di stampa e il diritto del cittadino cecoslovacco di spostarsi liberamente all'estero tutto questo faceva parte di un programma molto ambizioso che suscitò in quel momento straordinarie speranze ma anche naturalmente grandi preoccupazioni in tutti quegli elementi conservatori che pur continuavano ad esistere all'interno della società cecoslovacca Dubcek lo abbiamo detto era un uomo intelligente conciliante tollerante non privo di grande fascino ma anche per molti aspetti singolarmente poco attento e sensibile alla realtà della politica internazionale mi chiedo tra l'altro se Dubcek si fosse reso conto che la situazione in Unione Sovietica dagli anni di Khrushchev era andata progressivamente volgendo al peggio con una ripresa in mano della situazione da parte degli elementi più conservatori comunque Dubcek continuò sulla sua strada e nel corso dei primi mesi soprattutto fino alla primavera inoltrata avviò una serie di riforme che lasciarono certamente un segno nell'opinione pubblica ma nel frattempo cresceva la diffidenza la preoccupazione il timore dell'Unione Sovietica perché l'Unione Sovietica era tanto preoccupata da ciò che stava accadendo in quel momento in Cecoslovacchia era preoccupata soprattutto perché temeva che gli avvenimenti Cecoslovacchi facessero contagio a Mosca si sapeva perfettamente che la stabilità dei regimi satelliti era precaria che all'interno dei regimi satelliti esisteva molto malcontento così l'idea che qualcuno in Cecoslovacchia potesse creare un sistema nuovo di tipo liberale suscitava a Mosca il timore che di lì a poco anche altri avrebbero seguito lo stesso corso vi era per la verità un paese che si era andato progressivamente staccando da certi aspetti della politica sovietica nel corso degli anni precedenti ed era la Romania di Ceausesco ma la Romania di Ceausesco era all'interno un paese perfettamente comunista senza libertà di stampa senza libertà di opinione senza libertà di movimento quindi paradossalmente il regime nazional comunista romeno preoccupava l'Unione Sovietica meno di quanto non lo preoccupasse il regime nazional liberal comunista se così si può dire di Aleksandr Dubček in Cecoslovacchia questa preoccupazione della Unione Sovietica andò progressivamente crescendo fino a quando nel luglio del 1968 i sovietici cominciarono a pensare molto seriamente alla possibilità di un intervento militare e cominciarono ad accusare la nuova direzione politica cecoslovacca di un atteggiamento obiettivamente filo occidentale filo tedesco addirittura di essere manipolati e teleguidati da elementi occidentali fu questa la campagna di propaganda che precedente giustificò per così dire agli occhi della pubblica opinione la decisione sovietica di intervenire nell'agosto del 1968 l'Unione Sovietica non intervenne sola intervenne con le truppe di alcuni paesi del patto di Versavia Polonia Ungheria Germania orientale Bulgaria non fece parte della forza di intervento la Romania nel giro di pochi giorni l'intera cecoslovacchia fu sopraffatta dalle truppe del patto di Versavia ma quale fu la posizione dell'occidente e quella degli Stati Uniti noi tutti ricordiamo che nel 1956 quando l'Unione Sovietica aveva invaso la cecoslovacchia e represso i moti di Budapest la rivoluzione di Budapest l'occidente stette a guardare e probabilmente non poteva far altro che stare a guardare eravamo nel bel mezzo della guerra fredda un intervento dell'occidente avrebbe portato il mondo pericolosamente sull'orlo di un terzo conflitto mondiale ma nel 1968 qualcuno poteva sostenere che la situazione fosse diversa che vi fossero le condizioni per una posizione più ferma da parte dell'occidente ebbene l'occidente invece decise ancora una volta di stare a guardare e forse per capire le ragioni della posizione occidentale e della posizione degli Stati Uniti occorrerà ricordare che erano gli anni della guerra del Vietnam gli anni in cui gli stessi americani stavano faticosamente cercando di uscire dal conflitto vietnamita e si ponevano il problema per loro vitale di uscirne per così dire a testa alta senza forzare la situazione senza incorrere in altre gravi tensioni conflittuali in altre parole gli americani non erano certamente disposti in quel periodo ad assumere una posizione di grande fermezza anzi la tendenza dominante nella diplomazia americana e nella diplomazia europea di quegli anni era quella di trovare una forma di conciliazione di accordo con l'Unione Sovietica e con i paesi del patto di Varsavia accadrà più tardi con il patto di Helsinki del 1975 quindi vi furono naturalmente grandi proteste quando le truppe del patto di Varsavia invasero la Czechoslovakia ma molto al di là delle proteste non si andò le truppe del patto di Varsavia non si limitarono ad occupare la Czechoslovakia e a presidiarla i sovietici arrestarono Dubček e lo sottomisero ad una serie di fortissime pressioni volevano che cancellasse completamente le riforme passate nel corso dei mesi precedenti occorre riconoscere che una parte del partito una parte dell'opinione pubblica una parte dell'apparato sostennero Dubček e impedirono ai sovietici di realizzare il massimo delle loro aspirazioni addirittura in quello stesso periodo mentre si stava consumando l'occupazione sovietica della Czechoslovakia un congresso clandestino del partito comunista cecoslovacco tenuto in una grande fabbrica alla periferia di Praga affermò in qualche modo il principio che quella era la linea e che quella linea sarebbe stata seguita i sovietici dovettero quindi fare i conti con l'esistenza di Dubček con il seguito e la popolarità di cui lui godeva finirono per affermare sì la loro presenza in Czechoslovakia ma per accettare altresì che egli continuasse a dirigere il partito ma si trattò soltanto di una partita rinviata perché nell'aprile dell'anno successivo del 1969 si venne alla decisiva prova di forza si venne cioè alla totale eliminazione di quella che era stata chiamata la primavera di Praga il socialismo dal volto umano Gli avvenimenti dell'aprile del 1969 furono decisivi di quegli avvenimenti io ho un ricordo personale giunsi a Praga proprio qualche giorno prima allo scoppio della crisi e vi giunsi il giorno dopo una famosa partita di hockey sul ghiaccio nel corso della quale la squadra cecoslovacca aveva battuto l'Unione Sovietica quella partita di hockey sul ghiaccio aveva risvegliato il sentimento nazionale dei cecoslovacchi si leggevano scritte sui muri contro l'Unione Sovietica le vetrine dell'aeroflot la compagnia di bandiera sovietica erano state rotte addirittura su alcuni muri si leggeva a grandi lettere la parola Ussuri Ussuri è quel fiume siberiano sul quale nei giorni precedenti cinesi e sovietici si erano duramente battuti questo sentimento nazionale così profondamente risvegliato da un avvenimento sportivo dette il via alla repressione sovietica fu per così dire agli occhi di Mosca la goccia che faceva traboccare il vaso e infatti nel giro di pochi giorni i sovietici costrinsero il comitato centrale dell'Unione Sovietica a sbarazzarsi di Dubček il quale da allora fu prima accantonato e diventò presidente dell'assemblea nazionale e poi ambasciatore ad Ankara e poi infine addirittura responsabile dei giardini della città di Bratislava in Slovacchia della sua città questo fu il modo in cui ci si sbarazzò dello scomodo Dubček da quel momento la cecoslovacchia rientrò definitivamente nei ranghi del sistema sovietico divenne ancora una volta un satellite docile e obbediente e si dovrà aspettare qualche anno prima che cominci a riapparire in cecoslovacchia quel fenomeno di dissidenza che diventerà sempre più visibile durante gli anni 80 occorrerà aspettare il 1975 vale a dire la firma della carta di Helsinki e soprattutto nel 1977 la nascita di una nuova istituzione chiamata carta 77 questa nuova istituzione vedrà fra i suoi leader un uomo Vaclav Havel comediografo comediografo di successo molto rispettato e amato soprattutto dal pubblico dei piccoli teatri pragesi ma nessuno avrebbe detto di lui che aveva anche la stoffa di un uomo politico e di un leader e invece l'aveva i fatti dimostrarono che quell'intellettuale potrei meglio di altri mantenere per molti anni la bandiera del dissenso e della libertà gli avvenimenti ciocoslovacchi non ebbero importanza soltanto per la ciocoslovacchia per il blocco sovietico per i rapporti fra l'est e l'ovest ebbero anche una considerevole importanza per i partiti comunisti dell'Europa occidentale furono dopo i fatti ungheresi del 1956 lo scossone psicologico per così dire che i partiti comunisti subirono e dovettero progressivamente digerire nel corso degli anni successivi sia il partito comunista italiano sia il partito comunista francese criticarono l'unione sovietica la criticarono tuttavia come si constatò poi nel corso dei mesi successivi con una certa prudenza e cautela bene attenti a evitare una definitiva rottura con quella che era considerata la casa madre del socialismo dalla cecoslovacchia tuttavia uscirono un certo numero di esuli i quali divennero da quel momento per così dire la spina nel fianco dei partiti comunisti occidentali come quello italiano e quello francese forse un uomo di cui conviene ricordare il nome e rappresentò per quegli anni una delle bandiere della libertà cecoslovacca al di fuori dei confini e ieri Pelican che fu anche per un certo periodo parlamentare europeo eletto nelle liste del partito socialista italiano buonasera alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su radio 2 alle 8 della sera 14 gennaio 2000 alle 8 della sera l'italia negli anni della guerra fredda di sergio romano regia di giancarlo simoncelli a cura di angela zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it fabio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'italia negli anni della guerra fredda in studio sergio romano ci occuperemo questa sera di un avvenimento molto importante che ebbe luogo nel 1973 nel Medio Oriente Medio Oriente vale a dire conflitto arabo-israeliano questa era stata per così dire la causa di tanti tanti conflitti di guerre di scontri di guerriciole che si erano combattute dopo la fine della seconda guerra mondiale nella regione e questa era stata altresì la causa delle forti tensioni politiche diplomatiche economiche che si erano manifestate fra i paesi arabo-musulmani della regione e i paesi occidentali Europa e Stati Uniti l'ultima guerra arabo-israeliana era stata combattuta nel 1967 era durata sei giorni e si era conclusa con una straordinaria vittoria dello Stato israeliano il quale aveva tra l'altro e soprattutto occupato e Gerusalemme è fatto dell'intera Gerusalemme la capitale dello Stato in Egitto il presidente era Nasser lo stesso protagonista della vicenda che ebbero luogo nel 1956 all'epoca della nazionalizzazione del canale di Suez e della spedizione anglo-francese ma Nasser era morto nel 1970 e la sua successione era stata presa da Sadat un altro militare egiziano che con Nasser aveva appartenuto a quel gruppo di giovani ufficiali che sin dagli anni 40 si erano battuti per la decolonizzazione dell'Egitto per il recupero della sovranità nazionale Sadat apparve quindi il successore di Nasser per molti aspetti a qualcuno sembrò addirittura la copia conforme la copia in carta a carbone di Nasser e invece no Sadat si rivelò per molti aspetti una delle persone più interessanti del Medio Oriente in quegli anni anzitutto non appena giunto al potere o piuttosto pochi mesi dopo essere avere conquistato il potere modificò radicalmente i suoi rapporti con l'Unione Sovietica i rapporti che Nasser aveva stabilito con l'Unione Sovietica negli anni precedenti e liquidò circa 20.000 tecnici e soldati sovietici che il governo di Mosca aveva inviato in Egitto per addestrare le forze armate egiziane all'uso delle armi sovietiche questo gesto fu immediatamente interpretato in Occidente come una prova di grande indipendenza come un desiderio di forte autonomia e rese quindi Sadat molto più credibile agli occhi delle opinioni pubbliche dei governi occidentali di quanto non fosse stato il suo predecessore Sadat voleva apparire agli occhi degli occidentali come un partner affidabile ma non per questo naturalmente aveva rinunciato al suo obiettivo fondamentale che era quello di recuperare la dignità nazionale l'orgoglio nazionale ferito dalla sconfitta del 1967 ritornare in campo con un fatto d'arme che gli consentisse di rialzare la testa e dimostrare al mondo che l'Egitto poteva sedersi sì al tavolo dei negoziati il giorno in cui lo avesse desiderato ma sedersi con delle carte in mano e l'unica carta che poteva contare nei rapporti diplomatici e internazionali era quella di un fatto d'arme coronato da successo in altre parole una vittoria così nel momento stesso in cui Sadat si staccava dall'unione sovietica probabilmente cominciava a preparare un nuovo conflitto il conflitto che gli avrebbe dato la possibilità di procedere in modo più credibile verso la strada dei negoziati e della pace è così che nel primo pomeriggio del 6 ottobre 1973 scoppiò la guerra del Kipur la guerra fu definita del Kipur perché ebbe luogo nella giornata di Yom Kipur una delle più importanti giornate religiose ebraiche una giornata in cui tradizionalmente l'esercito non era sul chi vive in cui molti militari erano in congedo dispersi nel paese naturalmente di questo si servì Sadat per realizzare la sua prima vittoria nel primo pomeriggio del 6 ottobre le truppe egiziane che già nel corso della notte precedente avevano trasferito al di là del canale i loro materiali attraversarono rapidamente il canale e cominciarono ad avanzare e mentre gli egiziani avanzavano nel Sinai superando molto rapidamente le resistenze israeliane le prime linee israeliane lo stesso fecero i siriani agendo di concerto nelle alture del Golan Israele si trovò in grosse difficoltà per la prima volta dal 1948 dovete subire le sue prime sconfitte militari questa situazione di forte debolezza non durò che qualche giorno nel giro di qualche giorno l'esercito israeliano riuscì a riprendersi e a passare il contrattacco e il contrattacco fu decisivo in poche ore l'8 ottobre gli israeliani arrivarono a 35 km da Damasco e avanzavano contemporaneamente verso il canale di Suez badate che le guerre arabo-israeliane sono generalmente sempre durate molto poco sono durate molto poco per una serie di ragioni anzitutto perché i combattenti consumano molto materiale molte munizioni molte armi e nessuno di essi salvo forse un po' lo Stato di Israele era in condizione di rifornire il campo di battaglia con una industria attrezzata per guerre di lungo respiro d'altro canto la guerra era combattuta dalle due parti con armi fornite dalla Unione Sovietica dagli Stati Uniti o più generalmente dall'Occidente quindi se l'Unione Sovietica da un lato e gli Stati Uniti dall'altro desideravano la pace desideravano la tregua potevano naturalmente agire sul rubinetto delle armi e cercare in qualche modo di interrompere il conflitto ma quella del Kippur fu una guerra difficile proprio perché era cominciata con un successo egiziano e proprio perché gli israeliani avevano un forte interesse a raddrizzare le sorti del conflitto durò ben tre settimane e fu dal punto di vista politico e diplomatico una dei più complicati intricati imbrogliati avvenimenti della regione proprio perché le due grandi potenze gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica desideravano sì interrompere il conflitto ma non desideravano che il conflitto venisse interrotto fino a quando il loro protetto Israele per gli Stati Uniti l'Egitto per l'Unione Sovietica non avesse raggiunto quantomeno delle posizioni decorose ma a questo punto conviene chiedersi qualcuno potrebbe chiedersi ma perché l'Unione Sovietica continuava a considerare l'Egitto come il suo protetto anche se Sadat negli anni precedenti aveva cacciato 20.000 cooperanti e tecnici sovietici del suo paese ma perché l'Unione Sovietica aveva realisticamente digerito quell'umiliazione e continuava a considerare la sua presenza nel Medio Oriente molto più importante e continuava a offrire un'assistenza l'Egitto di cui in quel momento l'Egitto aveva certamente bisogno la tregua intervenne quando finalmente Unione Sovietica e Stati Uniti riuscirono a mettersi d'accordo e grazie all'intermediazione dell'ONU riuscirono a imporre alle parti di fermarsi a quel punto tuttavia Israele conviene ricordarlo aveva recuperato il terreno perduto e si era di nuovo affermato come una grande potenza militare della regione Sadat dal canto suo poteva tuttavia menare vanto dei successi militari che aveva conseguito nella prima parte del conflitto poteva accreditarsi di fronte all'opinione pubblica araba come l'uomo che aveva riscattato l'orgoglio arabo-musulmano che aveva finalmente regalato al suo paese e più generalmente al mondo arabo qualche vittoria si trattò quindi paradossalmente di una guerra da cui nessuno finì completamente sconfitto di una guerra da cui si potrebbe persino sostenere che tutte e due le parti uscirono parzialmente vincitrici accade tuttavia qualche cosa di assolutamente imprevisto che rese il quadro ancora più complicato intervenne un'arma nuova utilizzata da paesi terzi l'arma del petrolio forse conviene ricordare che cosa il petrolio aveva rappresentato per lo sviluppo economico dell'Europa e degli Stati Uniti nel corso degli anni precedenti ancora alla fine della seconda guerra mondiale gran parte della energia utilizzata per usi industriali e domestici era il carbone e progressivamente il carbone era declinato lasciando lo spazio al petrolio nel 1973 quando scoppiò il conflitto la guerra del Kipur il petrolio rappresentava ormai insieme al gas più del 60% dell'energia utilizzata dai paesi industriali ebbene questa energia era per buona parte collocata nel Medio Oriente non esclusivamente naturalmente pozzi di petrolio negli Stati Uniti nel Messico e poi nell'Europa del Nord e in Nigeria e in Africa tutti sappiamo quale sia oggi la mappa del petrolio però allora in quel particolare momento gran parte delle risorse petrolifere del pianeta era collocato nell'area medio orientale e i paesi dove erano i maggiori giacimenti di petrolio avevano progressivamente affermato il loro desiderio la loro ambizione di controllare la loro risorsa energetica di strapparla al controllo delle compagnie petrolifere e per ottenere meglio questo scopo si erano coalizzati all'interno di una associazione una specie di club una specie di confindustria internazionale del petrolio composta da tutti i paesi petroliferi ma ripeto ancora una volta soprattutto dai paesi arabi e valendosi di questa confindustria del petrolio erano riusciti naturalmente a strappare migliori concessioni ai paesi occidentali a rovesciare gradualmente la posizione antica secondo cui erano le compagnie occidentali proprietarie titolari dei diritti titolari delle possibilità di sfruttamento questa situazione ripeto si era andata progressivamente affermando nel corso del tempo ebbene nel 1973 i paesi petroliferi decisero di saltare per così dire a bordo del treno che stava passando il treno era il conflitto arabo-israeliano e di utilizzare questa vicenda internazionale per perseguire i loro obiettivi dettero alla loro politica naturalmente una connotazione filo-araba anti-israeliane e anti-occidentale ma ciò che veramente desideravano era perseguire un obiettivo nazionale l'utilizzo del petrolio il migliore utilizzo possibile del petrolio come leva economica destinata a strappare il miglior prezzo e quindi anche naturalmente i migliori introiti per i paesi produttori questo fu per così dire un conflitto diverso un conflitto parallelo il conflitto per il petrolio per il controllo del petrolio per il prezzo del petrolio nel corso degli ultimi mesi del 1973 il prezzo del petrolio sui mercati internazionali quadruplicò la guerra arabo-israeliana la guerra del Kipur intendo e il conflitto per il petrolio queste due guerre parallele che si combatterono in quel periodo nel Medio Oriente in Europa e negli Stati Uniti ebbero tutta una serie di conseguenze che influirono sugli assetti della regione ma anche sulla più vasta situazione economica del mondo anzitutto come ho detto Sadat pote considerarsi per certi aspetti vincitore e avendo in qualche modo riscattato le sconfitte subite negli anni precedenti dal mondo arabo e dello stesso Egitto poteva sedersi con maggiore credibilità al tavolo dei negoziati fu questa la grande intuizione di Henry Kissinger segretario di Stato del presidente Nixon Kissinger capì che a dispetto delle apparenze il conflitto arabo-israeliano offriva questa volta la possibilità di una vera e propria intesa si trasferì con una parte del dipartimento di Stato nel deserto del Sinai creò una specie di soccursale del dipartimento di Stato nel deserto e di lì cominciò ad andare avanti e indietro fra le capitali della regione ma soprattutto fra il Cairo e Tel Aviv per creare le condizioni di un accordo e l'accordo finalmente giunse nel 1975 seguito poi da un accordo nel settembre del 1978 un accordo scritto un accordo formale un vero e proprio trattato di pace a Camp David residenza del presidente degli Stati Uniti questa fu la straordinaria intuizione di Kissinger ma fu resa possibile naturalmente da Sadat il quale aveva lavorato nella stessa direzione e fu resa possibile anche dal buonsenso dall'intelligenza del gruppo dirigente israeliano non v'è dubbio che alcuni degli avvenimenti della seconda metà degli anni 70 per esempio il famoso viaggio di Sadat a Gerusalemme sono fra gli avvenimenti più positivi della seconda metà del secolo e non verranno certamente dimenticati facilmente né al Cairo né in Israele l'accordo prevedeva che Israele restituisse progressivamente all'Egitto i territori conquistati nel 1967 la restituzione del Sinai avvenne il 25 aprile del 1982 non senza naturalmente forti resistenze della destra radicale israeliana il quale vide in tutto questo un cedimento quanto alle conseguenze dell'altro conflitto dell'altro conflitto parallelo il conflitto per il petrolio ebbene tutti i paesi occidentali ne furono profondamente influenzati l'Italia in particolare l'Italia dipende dalle importazioni di petrolio e di gas vide improvvisamente la bolletta del petrolio salire andare alle stelle dovete cominciare a fare i conti con una inflazione galoppante che superò negli anni successivi il 20% dovete cominciare a preparare piani energetici che vennero rispettati soltanto parzialmente insomma comincia per l'Italia e non soltanto per l'Italia naturalmente con la guerra del Kipur una fase economica di grande turbolenza di grande difficoltà e poiché quegli anni erano anche caratterizzati come molti ascoltatori ricorderanno dal fenomeno terroristico crisi petrolifera fenomeno terroristico instabilità politica furono per l'Italia fattori di grande inquietudine di grande preoccupazione alcuni paesi uscirono dalla crisi petrolifera più rapidamente sono i paesi i quali cominciarono a costruire centrali nucleari in Italia vi fu un programma di costruzione di centrali nucleari ma reso molto più difficile dalla forte ostilità di una parte del mondo politico e della società italiana dalla crisi petrolifera del 1973 l'Italia uscirà soltanto nel corso degli anni 80 buonasera alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su radio 2 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano la guerra del petrolio nel 1973 aveva provocato un forte aumento dei prezzi e naturalmente aveva regalato grande ricchezza ai paesi produttori l'Unione Sovietica per esempio aveva visto moltiplicati i suoi introiti l'Unione Sovietica essendo naturalmente uno dei maggiori paesi produttori di petrolio uno dei paesi che aveva tratto grande beneficio da quell'aumento dei prezzi era l'Iran altro paese produttore l'Iran era una monarchia retta da Reza Palevi anzi piuttosto un impero Reza Palevi amava collegarsi alla grande tradizione persiana nel corso del suo regno aveva indetto grandi celebrazioni grandi feste per le ricorrenze che ricordavano al paese la loro discendenza dai persiani vera o supposta che fosse e comunque Reza Palevi era certamente un grande modernizzatore il quale si era proposto l'ambizione della creazione di un Iran moderno facendo leva su questa straordinaria risorsa che era per l'appunto il petrolio quando nel 1973 il prezzo del petrolio quadruplicò Reza Palevi come tutti coloro che producevano petrolio si trovò improvvisamente quattro volte più ricco e con questa maggiore ricchezza lanciò il paese ancora più decisamente sulla strada della grande modernizzazione le modernizzazioni soprattutto nei paesi arretrati comportano qualche volta delle conseguenze negative nascono le grandi città le persone vengono sradicate dalle campagne portate nelle fabbriche nelle fabbriche perdono quella tradizioni consuetudini abitudini che avevano fatto parte integrante della loro vita della loro esistenza non sempre reagiscono correttamente qualche volta cadono vittime anche di per esempio forme di criminalità organizzata insomma Teheran nel corso degli anni 70 cambiò radicalmente la sua immagine divenne una città sempre più invivibile e qualche cosa del genere accade anche nelle altre città del regno resa palivi lo Shah aveva di fronte a sé un nemico da sempre lui suo padre avevano sempre dovuto combattere il clero sciita un clero particolarmente intransigente una famiglia particolarmente radicale oggi si direbbe integralista o fondamentalista della grande religione musulmana e lo Shah aveva trattato il clero con grande durezza come con grande durezza aveva trattato d'altro canto tutti i suoi oppositori anzi una delle particolari caratteristiche del regime nel corso dei suoi ultimi anni fu l'uso spregiudicato che lo Shah fece dei servizi segreti e della polizia per sbarazzarsi dei suoi scomodi oppositori in particolare ripeto del clero sciita alla testa del clero sciita vi era da tempo un uomo l'ayatollah Khomeini che era stato costretto ad abbandonare il paese ed era ormai da molti anni esule a Parigi esule ma pur sempre fortemente presente nella vita politica iraniana perché i suoi messaggi registrati su cassette circolavano nel paese ed erano diventati per così dire una specie di sermone quotidiano a cui il clero sciita e i fedeli del clero sciita potevano fare riferimento insomma vi era un oppositore e questo oppositore rappresentava all'estero un'alternativa una possibile alternativa al regime dello Shah la prima crisi piuttosto i primi segnali di crisi cominciarono a manifestarsi in Iran con i moti della città santa di Koma all'inizio lo Shah dovette pensare che si trattava di un movimento governabile controllabile ma col passare del tempo esso cominciò ad estendersi attraverso il paese a diventare sempre di più generalizzato naturalmente il maggior pericolo lo Shah cominciò a correrlo quando i moti di dissidenza si manifestarono nella capitale a Teheran e soprattutto nel grande Suk nel bazar nel mercato di Teheran la sua prima tentazione fu quella di ricorrere come sempre era accaduto alla forza alla polizia ai servizi segreti e così fece per qualche mese ma ero ormai un uomo debole indebolito dagli anni e da una malattia che si stava manifestando proprio in quel periodo che lo condurrà dopo non molto alla morte e quindi dette prova probabilmente di minore energia di quanta non ne avrebbe potuto dar prova in altre circostanze fu così che a un certo punto alla fine del 1978 partì dal paese per quello che fu presentato come un breve soggiorno all'estero e che si rivelò poi essere definitivamente l'esilio e contemporaneamente alla partenza dello Shah si verificò il ritorno del grande oppositore della Yatollah Khomeini un uomo alto con una grande barba bianca fluente vestito di una palandrana nera una figura ieratica che suscitava nelle folle iraniane uno straordinario entusiasmo uomo che seppe mobilitare un nozzelo in quegli anni che ancora non cessa di sorprendere gli studiosi della situazione regionale e del mondo arabo-islamico gli iraniani sia detto per inciso non sono arabi ma sono pur sempre musulmani Khomeini divenne l'autorità del paese intorno a lui si crearono delle nuove istituzioni si crearono una specie di corpo armato di giacobini islamici definiti Pasdaran i quali cominciarono ad affermare con straordinaria violenza il primato della legge religiosa sulla legge civile le donne dovevano indossare lo shador vale a dire il fular nel viso non dovevano esporre se non il volto agli occhi degli uomini la segregazione fra uomini e donne nelle scuole e più generalmente nei luoghi di lavoro e fortissime pene per chiunque violasse i precetti della religione islamica forse il momento di maggiore tensione si verificò quando gli elementi radicali del regime decisero di indirizzare tutta la loro collera contro il paese che negli anni precedenti aveva maggiormente appoggiato resa palivi e che poteva essere quindi considerato dall'opinione pubblica iraniana come il complice e il corresponsabile della politica modernizzatrice filo occidentale dello Shah per Khomeini l'America era satana questa era la definizione che l'Ayatollah dava più frequentemente degli Stati Uniti e allora aizzati dalle parole dell'Ayatollah gli elementi più radicali più intransigenti dell'apparato teocratico iraniano decisero di passare all'assalto e con un gesto altamente simbolico di occupare l'ambasciata degli Stati Uniti un'ambasciata in cui in quel momento vi erano circa 70 persone la situazione divenne da quel momento estremamente attesa il presidente degli Stati Uniti era Carter Carter doveva naturalmente dare prova di fermezza ma Carter era anche al tempo stesso un uomo attento conciliante disposto a prendere in considerazione altre soluzioni prima di passare all'uso delle armi probabilmente quello che convince Carter ad adottare una reazione ferma dopo aver lungamente impazientato fu il fatto che si stava avvicinando la campagna elettorale che ormai la sua sorte e il suo destino politico dipendeva dal modo in cui lui avrebbe gestito la crisi iraniana fu così che con un'operazione di sorpresa gli americani cercarono a un certo punto di liberare gli ostaggi iraniani ma una flottiglia di elicotteri ebbe un grave incidente non lontano da Teheran due si scontrarono in volo e precipitarono in fiamme l'operazione fallì Carter dovette rinunciare a qualsiasi tentativo di liberazione degli ostaggi con la forza a partire da quel momento Carter non soltanto dovette rinunciarvi ma dovette anche inevitabilmente rinunciare alla sua rielezione alla presidenza degli Stati Uniti non significa però questo tuttavia che il regime dell'Ayatollah come i Ni fosse ben saldo sulle proprie gambe anzitutto trovava una forte opposizione all'interno non bisogna dimenticare che una parte della società iraniana era fortemente occidentalizzata quindi poco inclina a lasciarsi governare teocraticamente dai membri del clero sciita e poi una forte opposizione all'estero non soltanto negli americani o negli europei ma anche in quei paesi della regione del Medio Oriente allargato del mondo arabo islamico i quali avevano scelto la strada della modernizzazione laica che non desideravano certamente incoraggiare la nascita in Iran di un regime così radicalmente religioso lo Stato decise di cogliere questa occasione per affermare il proprio diritto a controllare il Golfo Persico fu l'Iraq il quale non soltanto era uno Stato laico ma era altresì uno Stato fortemente ambizioso guidato da Saddam Hussein scoppia così in tutta questa grave situazione che abbiamo cercato di riepilogare scoppia così anche un nuovo conflitto il conflitto fra l'Iran e l'Iraq il conflitto del 1980 un conflitto destinato a protrarsi per otto anni e a registrare alcuni fra gli episodi più sanguinosi e crudeli della lunga storia di guerre medio orientali dalla fine del secondo conflitto mondiale in poi quale fu per i paesi occidentali l'effetto la conseguenza degli avvenimenti iraniani prima di tutto un altro shock petrolifero l'Iran era uno dei maggiori paesi produttori di petrolio aveva completamente cambiato la sua politica aveva assunto una posizione fortemente ostrile nei confronti delle economie occidentali era inevitabile che si sarebbe servito dell'arma del petrolio per cercare di meglio piegare alla propria volontà quelli che considerava paesi nemici quindi allo shock petrolifero del 1973 si aggiunse un nuovo shock petrolifero nel 1979 che ebbe anche esso conseguenze particolarmente gravi sulla economia dei paesi occidentali e ancora una volta il paese che fu maggiormente colpito da quello shock petrolifero fu l'Italia l'Italia fu colpita in più modi anzitutto negli anni precedenti industrie italiane avevano fortemente collaborato all'espansione allo sviluppo economico dell'Iran di Reza Palevi alcune ditte avevano vinto gare per la costruzione di opere pubbliche importanti addirittura un intero porto in una città iraniana per grandi forniture militari tutti questi contratti erano praticamente saltati l'Italia vide improvvisamente la sua promettente posizione iraniana ridursi, declinare fino a quasi al nulla e poi in secondo luogo l'Italia fu colpita perché era particolarmente vulnerabile sul piano delle risorse energetiche e ancora una volta dovette subire un aumento di prezzi che si ripercossero sui costi delle produzioni industriali italiane sui prezzi al dettaglio ancora una volta l'inflazione divenne la grande minaccia dell'economia italiana questa fu una delle ragioni per cui l'Italia ancora alla fine degli anni 70 faceva così fatica ad uscire da una crisi da cui altri paesi invece stavano progressivamente uscendo con tutto ciò occorre ricordare che la politica italiana continuò ad avere anche negli anni seguenti un occhio di attenzione o un occhio di riguardo per il nuovo regime iraniano e non condivise mai completamente quelle posizioni di rifiuto di condanna che caratterizzarono invece gli Stati Uniti e altri paesi occidentali un uomo politico in particolare Giulio Andreotti continuò nonostante tutto anche negli anni seguenti a mantenere un canale aperto un rapporto di collaborazione con l'Iran e per questo naturalmente Giulio Andreotti fu molto criticato criticato sia in Europa e negli Stati Uniti che in Italia fu criticato tra l'altro perché fra le molte conseguenze della rivoluzione iraniana del 1979 abbiamo già parlato del petrolio abbiamo già parlato del conflitto fra l'Iran e l'Iraq vi fu anche quello della diffusione di una nuova forma di islamismo radicale attraverso il Medio Oriente in altre parole l'Iran fece scuola quella particolare forma di islamismo intransigente che aveva preso il potere in Iran cominciò a manifestarsi politicamente anche in altri paesi della regione il conflitto nel Libano per esempio fu fortemente alimentato dall'Iran direttamente e dal desiderio di elementi islamici locali di ispirarsi all'insegnamento della Yatollah Khomeini e poi più tardi troveremo forme di islamismo radicale anche in Algeria e naturalmente in Egitto badate l'islamismo radicale è sempre esistito vi è sempre stata un'ala fondamentalista dell'Islam come del resto vi è stata un'ala fondamentalista del cristianesimo e dell'ebraismo ma il fatto che si fosse costituito a Teheran uno stato fondamentalista teocratico guidato e governato da ecclesiastici perché tali sono per l'appunto gli Ayatollah dette a questa forma di islamismo un particolare impulso e questa forma di islamismo non esitò a ricorrere alle armi in alcune circostanze persino all'arma segreta e particolarmente insidiosa del terrorismo per questo tra l'altro Giulio Andreotti fu criticato ma su un piano più generale il fatto di mantenere aperto un canale di comunicazioni con l'Iran si rivelò più tardi come la soluzione più saggia occorrerà tuttavia aspettare ancora qualche anno perché l'Iran ridiventi una parte della comunità internazionale e con l'Iran si possa ricominciare a ragionare buonasera alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su Radio 2 alle 8 della sera 17 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano parleremo questa sera di ciò che accadde nell'Unione Sovietica nel corso degli anni 80 parleremo in altre parole di Gorbaciov della perestroica della Glasnost prima di farlo tuttavia conviene ricordare che l'Unione Sovietica era stata lungamente governata nel corso degli anni 70 parte degli anni 70 e 80 da Leonid Brezhnev un uomo politico conservatore certamente restauratore poco sensibile alle riforme addirittura una delle ragioni per cui Khrushchev era stato destituito era per l'appunto quella i suoi successori non avevano nessuna voglia di riformare il sistema sovietico ebbene questo sistema si era ormai per così dire sclerotizzato nel corso degli anni 70 l'Unione Sovietica aveva smesso di muoversi addirittura noi lo sappiamo oggi meglio di quanto non lo sapessimo allora aveva registrato sul piano economico un forte declino ma lo shock petrolifero del 1973 e del 1979 avevano regalato all'Unione Sovietica degli introiti particolarmente importanti quindi il paese aveva sopravvissuto con le proprie ricchezze e aveva mascherato grazie alle ricchezze petrolifere le proprie carenze i propri fallimenti economici e poi non bisogna dimenticare che in quegli anni gli anni 70 i sovietici potevano guardare verso l'Occidente e constatare che dopo tutto l'Occidente non stava meglio anche l'Occidente era travagliato da grandi problemi inflazione terrorismo dissidenze etniche in alcuni paesi in Irlanda nei paesi baschi nella Corsica insomma per tutte queste ragioni l'Unione Sovietica non si sentì particolarmente sollecitata ad autoriformarsi credete anzi che tutto sommato i suoi avversari stavano peggio e sarebbero morti caso mai prima di lei ma all'inizio degli anni 80 queste previsioni negative dell'Unione Sovietica sulla sorte dell'Occidente si erano rivelate clamorosamente sbagliate perché era ormai chiaro all'inizio degli anni 80 che l'Occidente aveva superato le sue grandi crisi era riuscito a debellare il terrorismo era riuscito a controllare l'inflazione era anche riuscito grazie alla politica nucleare di alcuni paesi europei a emanciparsi in parte almeno dalla sudditanza verso i paesi produttori di petrolio al punto tale che il prezzo del petrolio stava per l'appunto cominciando accennando a scendere per tutte queste ragioni un gruppo di giovani dirigenti del partito comunista dell'Unione Sovietica cominciò a pensare seriamente che così non si poteva più andare avanti fra questi uomini intelligenti giovani fra i 40 e i 50 anni venera uno di nome Mikhail Sergeyevich Gorbaciov che aveva fatto le sue prime armi a nord del Caucaso nella regione agricola in cui era nato che era stato poi scelto dalla nomenclatura cooptato all'interno del comitato centrale portato a Mosca gli era stato affidato un incarico di supervisione sui problemi agricoli del paese insomma si era andato progressivamente affermando come l'uomo che poteva riunire intorno a sé una parte della giovane dirigenza sovietica e offrire una promettente alternativa alla vecchia direzione vecchia in tutti i sensi vecchia politicamente vecchia anagraficamente che stava governando in quel momento il paese ma naturalmente il sistema era un sistema regolato da leggi di ferro in cui colpi di mano colpi di testa e colpi di palazzo in quella situazione erano assolutamente inimmaginabili Gorbachev dovette quindi aspettare pazientemente il suo turno lo fece con grande accortezza e con grande sapienza evitando di accreditarsi agli occhi dei suoi compagni di cordata come troppo ambizioso come avventurista in altre parole preparò nelle quinte la sua scalata al potere una prima occasione per Gorbachev giunse nel momento della morte di Brezhnev ma il posto di Brezhnev fu preso da un uomo che rappresentava agli occhi di molti in quel momento una soluzione possibile si chiamava Andropov era stato il presidente del KGB dei servizi segreti sovietici e come super spia dell'unione sovietica era tuttavia perfettamente al corrente dei guai del paese della sua stagnazione della sua paralisi politica morale psicologica Andropov era del resto un buon protettore di Gorbachev quindi quando Andropov andò al potere Gorbachev non fu affatto deluso vide anzi in questo una prospettiva per sé non poteva immaginare tuttavia che la prospettiva sarebbe stata così vicina Andropov morì dopo poco più di un anno alla guida del partito gli succedette con un ultimo tentativo di restaurazione conservatrice un vecchio malato di nome Konstantin Cernienko e con la morte di Cernienko nel 1985 la strada di Gorbachev fu finalmente aperta Gorbachev divenne segretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica a partire dall'aprile del 1985 e poiché già da molto tempo i suoi compagni di Cordata per così dire lo consideravano come l'uomo destinato ad assumere la guida del paese poté considerarsi sufficientemente forte per affermare fin dalle prime settimane fin dai primissimi mesi una sua deliberata evidente volontà riformatrice già alla fine del 1985 Gorbachev stava mettendo in cantiere quella che poi fu definita perestroica perestroica significa semplicemente ristrutturazione in altre parole Gorbachev non pensava che tutto dovesse essere cambiato radicalmente e modificato fondamentalmente riteneva che tutto dovesse essere rinnovato riformato ristrutturato questo era per l'appunto il senso della parola accanto a perestroica ristrutturazione Gorbachev mise come obiettivo della sua politica la glasnost glasnost è una parola russa che significa pubblicità vocalità e che noi abbiamo forse non correttamente tradotto generalmente come trasparenza quello che Gorbachev desiderava era che i gestori della politica sovietica gli amministratori gli uomini politici fossero responsabili delle loro azioni in altre parole dovessero in prima persona rispondere del modo in cui avevano gestito il potere in inglese si direbbe accountable responsabili rendicontabili dovevano poter rendere conto delle loro politiche questa fu la glasnost chi l'ha interpretata come una deliberata politica liberale destinata a creare le condizioni per la libertà di stampa e la libertà di opinione credo abbia in realtà commesso un errore la glasnost era molto meno tuttavia finì per realizzare proprio esattamente quello cioè libertà di stampa e di opinione perché a mano a mano che Gorbachev suscitava speranze cresceva all'interno dell'intelligenza il numero di coloro che desideravano rapidamente approfittare delle maggiori possibilità che la sua politica stava offrendo e così in quegli anni si assistette ad un progressivo fiorire di articoli di giornale inchieste opinione pubblica in cui il tono era ormai un tono infinitamente più libero di quanto non fosse stato negli anni precedenti perestroika e glasnost divennero gli ingredienti con cui Gorbachev si propose di riformare e modernizzare l'Unione Sovietica naturalmente le riforme di Gorbachev dovevano per funzionare dare buoni risultati economici sarebbero stati credibili soltanto il giorno in cui Gorbachev avesse potuto dimostrare che la produzione era aumentata che il livello di vita della popolazione era aumentato ebbene malauguratamente nel corso dei primi mesi delle riforme Gorbacheviane accadde esattamente il contrario in parte perché il sistema non era riformabile il sistema era profondamente malato e ormai incurabile in parte anche perché Gorbachev non ebbe fortuna agli inizi del 1986 il prezzo del petrolio cominciò a scendere e raggiunse livelli pari a quelli che aveva avuto nel 1973 prima del forte aumento provocato dalla guerra del Kipur in altre parole alle prese con un sistema difficilmente riformabile e improvvisamente privato di una larga parte delle risorse economico-finanziarie su cui l'Unione Sovietica aveva potuto contare negli anni precedenti Gorbachev vide le sue possibilità di riforma fortemente diminuite ma non desistete anzi ritenne che occorresse procedere ancora più decisamente sulla strada delle riforme e che accanto all'economia occorresse ormai riformare la politica riformare il sistema politico dell'Unione Sovietica fu così che nel 1988 lanciò una grande riforma costituzionale che fu realizzata nei mesi seguenti e che avrebbe permesso come effettivamente accade nel marzo del 1989 le prime elezioni plurime badate bene non elezioni con una pluralità di partiti ma elezioni con una pluralità di candidati che è per l'appunto quello che accadde alla fine di marzo del 1989 aveva Gorbachev previsto che le elezioni avrebbero messo in moto un meccanismo di disintegrazione dell'Unione Sovietica non lo credo ma è esattamente quello che accadde perché fra gli eletti del 1989 vi furono rappresentanti delle repubbliche sovietiche le quali aspiravano chiaramente ad una forma di fortissima autonomia se non addirittura di indipendenza comincia così a partire dal 1989 un progressiva disintegrazione della Unione Sovietica appaiono alcuni leader nuovi uomini intelligenti rappresentativi dell'opinione pubblica delle singole repubbliche appare all'interno della repubblica russa un uomo nuovo anche se in realtà lui stesso proveniente dai ranghi del partito comunista Baris Yeltsin il quale diventa a partire dal 1991 l'oppositore di Gorbaciov colui che offre una alternativa democratica o supposta democratica alle riforme più moderate più prudenti di Mikhail Gorbaciov il dissidio scoppia nel 1991 l'Unione Sovietica è ancora una repubblica federale all'interno della repubblica federale ogni repubblica ha i suoi leader Yeltsin riesce a farsi eleggere presidente della repubblica russa all'interno dell'Unione Sovietica vi è ormai una sorta di diarchia fra Gorbaciov presidente dell'Unione Sovietica e Baris Yeltsin presidente della repubblica russa questa diarchia viene ai ferri corti nell'agosto del 1991 quando un gruppo di rappresentanti dell'ala conservatrice del partito comunista tenta con un colpo di stato di azzerare la situazione e di costringere Yeltsin a ritirarsi non vi riesce Yeltsin vince la partita è lui che da questo momento conduce il gioco è lui che negli ultimi mesi dell'Unione Sovietica detta per così dire l'ordine del giorno delle riforme dell'evoluzione del paese gli avvenimenti precipitano fra l'agosto e il dicembre dopo la morte del partito comunista dell'Unione Sovietica decretata dallo stesso Yeltsin alla fine del colpo di stato fallito le singole componenti dell'Unione Sovietica proclamano la loro indipendenza e nel dicembre del 1991 le bandiere rosse vengono ammainate sulle guglie del Cremlino muore l'Unione Sovietica nasce al suo posto la Repubblica federativa russa qual è stato nel corso di questo periodo l'atteggiamento dell'Occidente e qual è stato in particolare l'atteggiamento dell'Italia in una prima fase l'Occidente meno l'Italia fu molto cauto molto prudente molto diffidente dopo tutto di altri tentativi riformatori si era vista alla fine non vi era ragione di investire troppe speranze sull'ennesimo tentativo di riformare l'Unione Sovietica col passare del tempo tuttavia le potenze occidentali lo stesso Presidente Reagan allora Presidente degli Stati Uniti cominciarono a rendersi conto che le intenzioni di Gorbaciov erano quantomeno si direbbe onorevoli Gorbaciov aveva effettivamente coscienza della debolezza del suo paese ed era effettivamente deciso a far qualche cosa probabilmente ciò che convince maggiormente il Presidente Reagan e gli altri leader occidentali furono i gesti di pace e di conciliazione che Gorbaciov cominciò a lanciare verso la fine del 1985 e nel corso del 1986 Gorbaciov voleva riformare l'Unione Sovietica per riformare l'Unione Sovietica aveva bisogno di un clima internazionale migliore era quindi disposto a fare sul piano della politica militare ciò che i suoi predecessori non avevano fatto mi riferisco in particolare al ritiro dei missili sovietici dal territorio occidentale dell'Unione Sovietica quando Reagan si accorse che su questi particolari punti Gorbaciov dava prova di una certa fermezza e di una indubbia serietà il clima cominciò a migliorare l'Italia aveva già dato prova per così dire di comprensione nei confronti di Gorbaciov prima di tutto perché il governo desiderava aspirava ad un migliore rapporto con l'Unione Sovietica desiderava soprattutto che il clima della guerra fredda fosse più disteso e perché molti uomini politici italiani pensavano che molto probabilmente una migliore situazione internazionale un più disteso clima nei rapporti est-ovest avrebbe avuto anche qualche benefico effetto sulla situazione politica italiana sarebbe stato più facile così pensavano per esempio alcuni democristiani allacciare migliori rapporti con il partito comunista italiano in altre parole Gorbaciov piacque a una parte dell'opinione pubblica italiana sia per ciò che stava facendo in Unione Sovietica sia per le eventuali ricadute positive che le sue riforme avrebbero potuto avere sulla situazione italiana questo dette a Gorbaciov uno straordinario credito internazionale pochi uomini politici hanno goduto in quegli anni del credito internazionale di cui ha goduto Gorbaciov l'unico aspetto paradossale dell'intera vicenda fu che mentre il credito di Gorbaciov saliva considerevolmente agli occhi dell'opinione pubblica internazionale scendeva in Unione Sovietica e in particolare in Russia quanto più Gorbaciov diventava importante all'estero tanto meno diventava importante in patria buonasera alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su radio 2 alle 8 della sera 18 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it Radio 2 alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Buonasera il crollo del muro di Berlino la fine del comunismo la disintegrazione dell'unione sovietica hanno avuto una serie di ricadute positive in Europa hanno restituito alla libertà paesi che della libertà erano stati privati dopo l'occupazione dell'armata rossa alla fine della seconda guerra mondiale naturalmente non sempre le conseguenze di un grande avvenimento storico possono essere positive fra i suoi tanti errori e vizi il comunismo aveva per esempio mantenuto insieme stati multinazionali aveva rappresentato il collante il cemento ideologico che aveva permesso la coesistenza di gruppi etnico religiosi diversi in Unione sovietica in Cecoslovacchia in Jugoslavia la Jugoslavia è un caso particolarmente interessante la Jugoslavia si era disintegrata nel corso della seconda guerra mondiale ma era stata ricostituita del maresciallo Tito alla fine della seconda guerra mondiale grazie anche all'ideologia dello stato jugoslavo vale a dire a questa particolare forma di nazionalcomunismo che Tito aveva imposto al paese e grazie al nazionalcomunismo di Tito i vari gruppi etnico-nazionali della Repubblica Jugoslava erano riusciti a convivere in modo tutto sommato decoroso la morte di Tito nel 1980 aveva dato il primo duro colpo alla unità Jugoslava occorre ricordare che alcune riforme economiche erano fallite e occorre ricordare soprattutto che con la fine della guerra fredda la Jugoslavia perdete anche un'altra delle sue caratteristiche importanti quella di essere una sorta di svizzera comunista di cuscinetto collocato all'interno dei due blocchi insomma verso la fine degli anni 80 è ormai evidente che morte del comunismo morte di Tito fine della guerra fredda significano inevitabilmente una crisi per la struttura per l'unità dello stato jugoslavo e allora è inevitabile in queste circostanze che ciascuna delle componenti etnico-religiose costitutive del paese ritrovi la propria identità il proprio orgoglio e soprattutto sia fortemente preoccupata dalla possibilità che un altro gruppo nazional religioso la faccia da padrone a partire dalla fine degli anni 80 cominciano ricominciano a manifestarsi all'interno della Repubblica Jugoslava quei dissidi etnici etnico-religiosi che avevano caratterizzato gran parte della storia del paese sloveni croati albanesi del Kosovo macedoni ungheresi della Voivodina e naturalmente il nemico di tutti questi è il gruppo etnico dominante il gruppo nazionale dominante il gruppo serbo il quale ha alla fine degli anni 80 un nuovo leader nella persona di Slobodan Milossi invece il quale per meglio affermare la propria autorità e l'autorità del gruppo serbo all'interno della Repubblica Jugoslava non trova di meglio che giocare la carta nazionalista e la gioca a guarda caso proprio nel Kosovo vale a dire in una provincia che appartiene alla Serbia ma è abitata per l'80 90% da albanesi prevalentemente di origine musulmana con un grande discorso per la celebrazione di una battaglia che si era combattuta 600 anni prima Slobodan Milosevic a Kosovo Polie nel Kosovo incita i serbi all'identità nazionale chiede loro di essere orgogliosamente il popolo che sono stati in passato o che ritengono di essere stati in passato in altre parole comincia una fase di acceso nazionalismo che è a riscontri del resto in altre parti della Repubblica Jugoslava e che costituisce per così dire il preludio alla guerra che si combatterà sul territorio della Repubblica durante buona parte degli anni 90 la crisi scoppia al nord allorché la Slovenia e la Croazia proclamano la loro indipendenza per la Slovenia non esistono grandi difficoltà è una Repubblica fondamentalmente omogenea sul piano etnico religioso Belgrado cerca di opporsi ma dopo un breve tentativo lascia alla Repubblica Slovena la sua indipendenza diversa la questione della Croazia anche perché in Croazia vivono alcune centinaia di migliaia di Serbi e quando la Croazia proclama la sua indipendenza la Jugoslavia o piuttosto l'esercito jugoslavo in cui la componente serba è particolarmente rilevante passa al contrattacco e scoppia così la guerra Jugoslava la prima guerra tra la Croazia e la Jugoslavia l'Europa in questo momento vorrebbe soprattutto conservare l'integrità territoriale Jugoslava perché sa perfettamente che se il paese si frantumasse nessuno potrebbe evitare una serie di conflitti a catena per di più l'Europa in quel particolare momento si sta rafforzando sul piano economico comincia a pensare a se stessa come una nuova entità politica vorrebbe quindi dare prova della sua esistenza manifestarsi dimostrare la propria efficienza è incoraggiata a farlo del resto dal presidente degli Stati Uniti Bush ed ecco quindi che l'Europa si impegna con una serie di mediatori per cercare di ricucire la tela strappata fra le varie repubbliche per proporre soluzioni mediazioni che permettono in qualche modo la ricostituzione del vecchio stato jugoslavo o comunque di un'accettabile forma di convivenza di coesistenza fra i gruppi nazional-religiosi ma purtroppo negli anni seguenti l'Europa è costretta ad assistere sempre più impotente agli avvenimenti jugoslavi in parte per sua colpa in parte perché non trova negli Stati Uniti quantomeno in una certa fase il sostegno su cui riteneva di poter far conto quindi la vicenda jugoslava non significa soltanto la disintegrazione della Jugoslavia le sofferenze per decine e decine di migliaia di persone bombardate o costrette ad abbandonare le loro case e i loro villaggi significa anche malauguratamente una umiliazione per l'Europa questo diventa particolarmente chiaro nel corso del 1995 quando l'Europa non riesce a far nulla per liberare Sarajevo assediata per interporsi tra i combattenti per evitare le stragi che caratterizzano la prima parte di quell'anno terribile ed è per questo che a un certo punto l'Europa non trova di meglio che affidarsi all'intervento degli Stati Uniti i quali Stati Uniti sono stati a guardare alla finestra prima con poca voglia di occuparsene ma poi in un secondo momento probabilmente con il desiderio di cogliere questa situazione per affermare l'indispensabilità del loro ruolo per dimostrare agli europei che il rapporto politico-militare con gli Stati Uniti è essenziale che soltanto gli Stati Uniti possono garantire all'Europa la sicurezza di cui i paesi dell'Unione Europea hanno bisogno e questo accade per l'appunto nel 1995 quando di fronte ad una serie di iniziative militari prima serbe e poi croate nel nord della penisola la Nato vale a dire l'organizzazione che è politicamente e militarmente diretta dagli Stati Uniti intervengono con una serie di bombardamenti dall'aria sulle postazioni serbe per rompere lo stallo politico-diplomatico che si era creato negli anni precedenti e il risultato è un indubbio successo militare e i serbi piuttosto ciò che rimane della vecchia Jugoslavia governata da Belgrado sono costretti a sedersi al tavolo dei negoziati dove viene pattuita una nuova carta geografica per la vecchia Jugoslavia la nuova carta geografica della vecchia Jugoslavia dà luogo alla creazione di una Slovenia indipendente di una Croazia indipendente da Jugoslavia ben inteso e una Bosnia con una struttura confederale di cui fanno parte una Repubblica serba e una entità musulmana una entità croata si tratta naturalmente di una soluzione ingegnosa come molte soluzioni diplomatiche ma di queste soluzioni diplomatiche occorre dire che sono buone soltanto se funzionano e finora purtroppo non sembra che quella situazione abbia funzionato al meglio anche se certamente occorre riconoscerlo ha fermato i massacri e ha per il momento restituito la pace alle popolazioni civili gli accordi furono conclusi a Dayton una base militare dell'aeronautica degli Stati Uniti nello stato dell'Ohio gli accordi di Dayton quelli con cui fu deciso il destino della Jugoslavia il destino e la creazione di una nuova Bosnia ignorarono completamente il problema del Kosovo il Kosovo è per l'appunto quella provincia della Serbia che era allora abitata da 80-90% di albanesi prevalentemente di religione musulmana una regola della diplomazia vuole che quando un problema nel corso di una grande conferenza internazionale viene completamente ignorato questo venga interpretato come una forma di disinteresse se di una cosa non si parla vuol dire che quella cosa non interessa a nessuno ed è così per l'appunto che lo interpretò Milosevic il quale alla fine degli accordi di Dayton dovette decidere che se l'Europa e l'America non gli avevano chiesto particolari condizioni per la provincia del Kosovo questo significava che del Kosovo lui avrebbe potuto occuparsi a suo piacimento che è esattamente quello che fece nel corso degli anni successivi quando riaffermò con maggior forza la sua autorità sulla provincia alla stessa interpretazione giunsero naturalmente i kosovari i quali desideravano l'indipendenza e dal silenzio di Dayton ricavarono l'impressione che non potevano più contare sugli sforzi della diplomazia a loro vantaggio e che la conquista dell'indipendenza severamente tale era il loro obiettivo era nelle loro mani comincia in altre parole dal 1975 e soprattutto nel 1976 e nel 77 una situazione di forte conflittualità sul terreno in Kosovo tra le forze jugoslave sempre più decise ad affermare il controllo della regione e le forze di una nascente organizzazione militare albanese l'esercito di liberazione albanese l'UCC ha sempre più deciso a reclamare l'indipendenza con forme di guerra di guerriglia in cui ambedue le parti non esitano a ricorrere se necessario a provocazioni reciproche la situazione peggiora a tal punto nel corso del 1987 e 88 che ancora una volta l'Europa ritiene di dover intervenire lo vuole fare per una serie di ragioni perché vuole manifestarsi vuole dimostrare che ha una sua autorità e una sua influenza nella regione lo vuole fare perché questo continuo conflitto rappresenta oltretutto un fattore di instabilità per le società occidentali non bisogna dimenticare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e della criminalità e del contrabbando di armi che sempre sorgono intorno a lunghe manifestazioni di guerra civile come per l'appunto quella del Kosovo negli anni 97 e 98 per queste ragioni l'Europa decide di intervenire ma l'Europa decide di intervenire questa volta con un elemento in più che la rende particolarmente decisa e il fatto di avere fallito nel 1995 non può tollerare di fallire una seconda volta intervenendo per la seconda volta l'Europa cerca di portare i contendenti al tavolo dei negoziati e di imporre la sua soluzione una forma di autonomia per il Kosovo un referendum tre anni dopo e nel frattempo le forze della Nato di presidio sul territorio per evitare che vi siano scontri di carattere militare per mantenere la pace Slobodan Milosevic rifiuta vede in questo la possibilità e più che la possibilità il rischio un rischio molto concreto di separazione del Kosovo dalla Repubblica Jugoslava ed è qualche cosa che l'opinione pubblica serba non soltanto Milosevic fa molta fatica a tollerare e a immaginare perché a dispetto della relativamente piccola popolazione serba presente nel Kosovo il Kosovo è percepito agli occhi della Serbia come parte integrante del patrimonio culturale e storico della nazione Livi è il luogo della battaglia combattuta 600 anni prima contro i turchi Livi sono i monasteri antichi della religione ortodossa Milosevic quindi rifiuta e di fronte al rifiuto di Milosevic l'Europa non può che ricorrere ancora una volta agli Stati Uniti è fortemente preoccupata dalla possibilità di un nuovo scacco di un nuovo fallimento agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e si passa così all'uso delle armi cominciano i bombardamenti dall'aria e i bombardamenti della Nato che si protrarranno per 79 giorni occorre forse ricordare che quei bombardamenti cominciarono anche nella presunzione che sarebbero durati relativamente poco perché nel giro di qualche settimana un paio di settimane si pensava allora Milosevic si sarebbe seduto al tavolo della pace questo non accadde Milosevic cercò anzi di approfittare della situazione per ripulire il Kosovo e costringere gran parte della popolazione albanese a fuggire verso la Macedonia e l'Albania questo fenomeno di pulizia etnica è quello naturalmente che suscitò la maggiore indignazione dell'opinione pubblica occidentale in quel momento da allora la guerra diventa per così dire una guerra recitata a soggetto improvvisata alla giornata nel corso della quale la Nato è costretta ad allargare sempre più la gamma dei suoi bersagli ed è costretta a alzare la febbre del conflitto alla fine riesce ad ottenere il risultato desiderato vale a dire l'abbandono delle forze jugoslave dal Kosovo e anzi nei giorni immediatamente successivi all'abbandono delle forze jugoslave dal Kosovo rientrano rapidamente nel Kosovo quelli rifugiati che avevano abbandonato la regione nelle settimane precedenti il problema quindi sembra risolto può dirsi veramente che sia risolto no il Kosovo occuperà probabilmente la nostra attenzione ancora per molti anni manca una soluzione politica al problema della sua struttura manca una soluzione economica al problema jugoslavo e al problema più generalmente della penisola balcanica l'Italia in questa vicenda ha avuto un ruolo particolarmente importante al di là di qualsiasi giudizio di merito sulla bontà dell'operazione kosovara occorre riconoscere una certa coerenza nella linea di condotta del governo italiano dall'Albania al Kosovo l'Italia è rientrata nei Balcani alla fine degli anni 90 del secolo con una dignità e una credibilità che aveva in parte perduto nel corso della seconda guerra mondiale fra tanti guai e inconvenienti forse questo è uno degli aspetti positivi che occorre per sempre registrare buonasera alla prossima trasmissione come sempre alle 8 della sera naturalmente su radio 2 alle 8 della sera alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda in studio Sergio Romano Nel 1989 l'Europa ripartì verso la sua integrazione e la tappa successiva la tappa importante fu l'unificazione monetaria dei paesi che si erano uniti nel processo di integrazione europea alla fine della seconda guerra mondiale questo accadde probabilmente perché gli avvenimenti politici del 1989 suggerirono un colpo di acceleratore quali furono gli avvenimenti politici del 1989 che suscitarono in alcuni paesi europei il desiderio l'esigenza di un passo avanti sulla strada dell'integrazione europea ma io credo che fu semplicemente il crollo del muro di Berlino il crollo del muro di Berlino aprì una grande prospettiva quella dell'unificazione tedesca la Germania si sarebbe certamente riunita fu chiaro già dal novembre del 1989 che questo processo era diventato ormai inarrestabile ma una Germania unita avrebbe significato un paese nuovo di 80 milioni di abitanti la più grande economia del continente una sorta di Reich tedesco riemerso dalle macerie della seconda guerra mondiale democratico certamente ma indubbiamente forte e capace di influire con la sua forza sull'intero continente occorre ricordare che nessuno in quel particolare momento nessun leader dell'Europa occidentale desiderava veramente l'unificazione tedesca non la desiderava il presidente francese François Mitron non la desiderava certamente la signora Thatcher che era allora primo ministro inglese e non la desiderava Giulio Andreotti che era in quel momento al vertice del governo italiano ma potevano opporsi all'unificazione tedesca potevano opporsi ad una legittima aspirazione di un popolo che era stato ingiustamente diviso per 50 anni della sua storia certamente no e allora decisero che l'unica risposta possibile al processo di unificazione tedesca fosse quello di collocare la Germania saldamente all'interno di un'Europa integrata imbrigliarla in altre parole costringerla ad accettare una disciplina comunitaria l'Euro fu anche proprio per molti aspetti il risultato del crollo del muro di Berlino e dell'unificazione tedesca tutti noi ricordiamo che in quell'anno e negli anni successivi molte persone furono preoccupati dalla possibilità che l'Euro diventasse in realtà un'altra versione del marco tedesco ma questa preoccupazione non era fondata quello che era molto importante era portare la Germania all'interno di un processo di integrazione monetaria forte costringerla ad accettare la disciplina dell'Europa certo la Germania sarebbe stata forte anche nell'Europa integrata ma non avrebbe potuto fissare e dettare lei le regole della gestione monetaria del continente la gestione monetaria del continente sarebbe stata affidata a una banca centrale e comunque a tutti i paesi che facevano parte dell'Europa naturalmente l'unificazione monetaria non fu soltanto il risultato dell'unificazione tedesca fu anche il risultato di un processo che era cominciato molti anni prima che era cominciato con la comunità europea per il carbone e per l'acciaio che aveva tentato la strada dell'unificazione politico-militare con la comunità europea di difesa e che dopo il fallimento della comunità europea di difesa aveva imboccato definitivamente la strada dell'integrazione economica con i trattati di Roma firmati in Campidoglio nel marzo del 1957 dal mercato comune ormai molta strada era stata fatta ma alcuni passi decisivi dovevano essere realizzati e questi passi decisivi occorrerà forse rievocarli brevemente per comprendere l'importanza dell'euro nella storia europea degli ultimi dieci anni riepiloghiamo dunque brevemente cerchiamo di ricordare che cosa era accaduto dalla costituzione della cieca e dalla firma del mercato comune era stato creato un mercato comune attraverso lo smantellamento delle barriere tarifarie e questo aveva avuto incidenze straordinarie grande progressi ne erano derivati per lo sviluppo economico dell'intera Europa era nata una politica agricola comune e anche questo certamente era stato importante erano stati istituiti fondi comuni per l'aiuto alle ragioni meno sviluppate del mercato comune ma molto rapidamente verso la fine degli anni 60 inizio degli anni 70 ci si era accorti che questa grande nuova entità economica europea stava commerciando in realtà con una moneta che non era la sua la moneta in cui tutta l'Europa commerciava era il dollaro in dollari erano espressi i grandi contratti in dollari per esempio erano e sono tuttora espressi i contratti per le forniture di petrolio e allora era giusto forse che una grande entità economica ambiziosa come l'entità economica europea continuasse a lavorare con una moneta che non era sua su cui non aveva nessuna influenza e che per di più era legata ai soprassalti dalla politica estera americana agli alti e bassi di ciò che accadeva negli Stati Uniti o addirittura in Vietnam e quando il dollaro si sganciò dall'oro fu chiaro che l'Europa avrebbe dovuto darsi una propria moneta non era semplice naturalmente il processo di integrazione monetaria del continente europeo cominciò all'inizio degli anni settanta e si sviluppò attraverso gli anni settanta e ottanta attraverso grandi difficoltà ma queste difficoltà vennero progressivamente sormontate attraverso una serie di adattamenti progressivi il cosiddetto serpente monetario il cosiddetto sistema monetario europeo le valute della comunità cominciarono a collegarsi l'uno all'altra sia pure con delle bande di oscillazione in altre parole potevano oscillare verso l'alto o verso il basso ma progressi ripeto ne furono fatti lenti ma si continuò a camminare nella giusta direzione quando il muro di Berlino cadde quando la Germania cominciò a riunificarsi quando fu chiaro che l'unico modo di controllare la Germania unificata era quello di collocarla saldamente all'interno dell'unione economico-monetaria gran parte del lavoro quantomeno teorico era già stato realizzato era stato realizzato a Bruxelles in un comitato di cui aveva fatto parte tra l'altro un rappresentante della Banca d'Italia uno dei nostri migliori esperti di finanza internazionale Tommaso Padoa Schioppa e allora si decise che quello era il momento di andare nella giusta direzione fu deciso che con un trattato a Maastricht nella fine del 1992 che il processo di integrazione monetaria europea sarebbe stato realizzato per tappe nel corso degli anni 90 in altre parole per tappe successive così come un treno che ha il suo orario e che ora si ferma una stazione e poi dopo mezz'ora prosegue per un'altra direzione questo è esattamente quello che dovevano fare i paesi ciascuno aveva un ordine del giorno fisso di fronte a sé e doveva cercare di raggiungere l'obiettivo obbedendo ad alcuni criteri quali erano questi criteri quali erano i criteri a cui tutti dovevano conformarsi per poter entrare nell'euro alla data prefissata questo è molto importante perché non soltanto ci spiega quale fu in realtà la difficoltà del processo di adattamento all'euro ma ci spiega in particolare quale fu la difficoltà nostra dell'Italia del paese che naturalmente maggiormente ci concerne i criteri per entrare nell'euro erano quelli delle convergenze fra le politiche di bilancio e monetarie dei paesi membri grosso modo tutti dovevano avere una stessa stabilità finanziaria e monetaria tutti dovevano avere un tasso di debito pubblico non superiore ad un certo livello tutti dovevano avere un disavanzo vale a dire un deficit di bilancio non superiore a un certo livello tutti dovevano avere un tasso di inflazione non superiore ad una certa percentuale il paese che maggiormente si discostava dai criteri di convergenza fissati dalla comunità europea per l'accesso all'unione economica monetaria era l'Italia non era il solo naturalmente anche il Belgio anche la Grecia si trovavano in una situazione difficile ma l'Italia indubbiamente presentava caratteristiche di particolari anomalie perché aveva un debito pubblico un deficit di bilancio e un tasso di inflazione molto superiori a quelli degli altri paesi in buona salute dell'Unione europea per l'Italia quindi si pose il problema del risanamento dei suoi conti finanziari un risanamento drastico che doveva a un certo punto inevitabilmente comportare la rinuncia ad alcune spese pubbliche che erano state decise nel corso degli anni precedenti e che doveva cercare di raggiungere molto più rapidamente di quanto non dovessero fare gli altri gli obiettivi prefissati per noi ricordo quelli furono anni difficili anche per molte altre ragioni eravamo nel pieno di tangentopoli nel pieno della crisi politica e istituzionale che ha investito la Repubblica Italiana a partire dagli anni 90 e forse tra quella crisi politico-istituzionale tra tangentopoli e le difficoltà che l'Italia stava sperimentando per entrare in Europa un certo rapporto di causa ed effetto probabilmente vi fu una delle ragioni per cui la crisi scoppiò fu probabilmente la consapevolezza che di quel passo spendendo soldi nel modo in cui li avevamo spesi sciupando le pubbliche risorse come era accaduto per tanti anni l'Italia si sarebbe tagliata fuori dal più promettente dei processi di integrazione europea ma era davvero così necessario entrare nell'unione economica monetaria era davvero così necessario abbandonare la lira per passare all'euro anche in Italia come in qualsiasi altro paese europeo cominciarono a sentirsi voci dissenzienti e qualcuno cominciò ad osservare che dopo tutto l'Italia se fosse rimasta fuori dall'euro avrebbe potuto fare valere meglio le sue capacità la sua ingegnosità e il suo dinamismo dinamismo che molto spesso consisteva nel ricorrere all'inflazione nei momenti in cui non si poteva più sostenere la concorrenza straniera in realtà entrare nell'euro era soprattutto per l'Italia particolarmente indispensabile il mercato unico significa che tutti possono liberamente commerciare vendere e comprare all'interno di un grande mercato costituito da 300 milioni 350 milioni di consumatori di qui a poco ma è inevitabile che questo mercato unico possa valere soltanto per coloro che si conformano alle regole del gioco per coloro che giocano con la stessa moneta e soprattutto che non svalutano la loro moneta all'ultimo momento pur di acquisire vantaggi indebiti vantaggi ingiustificati l'ingresso nell'euro era quindi per l'Italia una condizione fondamentale per la sua prosperità con l'unificazione tedesca con il processo che ha permesso la Germania di ritornare ad essere un paese di 80 milioni di abitanti la frontiera dell'Europa si è inevitabilmente spostata verso est e si è spostata verso est anche perché negli stessi anni crollò l'Unione Sovietica crollò il sistema sovietico in Europa centro-orientale e quei paesi che avevano precedentemente fatto parte dell'universo comunista ridivennero liberi quindi l'allargamento della Germania da un lato il ritorno alla libertà di paesi come la Polonia Ungheria e la Repubblica cieca pose all'ordine del giorno immediatamente il problema dell'allargamento dell'Unione Europea quei paesi lo desideravano ritornati alla libertà non avevano che una forte dominante ambizione che era quella di ritornare a far parte della grande famiglia delle democrazie europee e siccome la grande famiglia delle democrazie europee si era precedentemente costituita all'insegna dell'integrazione economico-monetaria del continente era per l'appunto nella comunità europea o Unione Europea così come ora si chiama che occorreva entrare ma entrare non era semplice perché ciascuno di quei paesi per entrare avrebbe dovuto fare un cammino infinitamente più difficoltoso più complicato di quello già laborioso che l'Italia per esempio dovete fare nel corso degli anni 90 occorreva privatizzare liberalizzare occorreva adottare leggi simili a quelle delle grandi democrazie economiche dell'Occidente introdurre nel codice civile e nel codice commerciale disposizioni conformi a quelle che la comunità europea Bruxelles aveva progressivamente prescritto negli anni per i paesi membri della comunità insomma fu un compito difficile che questi paesi si assunsero ma lo assunsero naturalmente con grande entusiasmo soprattutto la Polonia la Repubblica Ceca e l'Ungheria i quali immediatamente si misero per così dire in dirittura d'arrivo e l'Unione Europea? ma l'Unione Europea non poteva non desiderare il loro ingresso ma al tempo stesso non poteva non temerlo perché ogni qualvolta un'organizzazione si allarga considerevolmente le regole del gioco inevitabilmente cambiano il numero delle persone sedute intorno a un tavolo modifica i caratteri stessi dell'istituzione insomma vi era da temere che con l'arrivo di tanti nuovi membri la comunità europea sarebbe diventata un ente ingovernabile ingestibile e allora per alcuni anni il dibattito sia pure al di sotto della superficie fu per l'appunto sui tempi sui modi dell'allargamento dell'adesione di questi nuovi paesi membri e non vi è dubbio che da parte di alcuni si cercò di rinviare per quanto possibile questo processo di integrazione il rinvio fu determinato anche da circostanze obiettive anche i paesi che si dettero da fare con grande entusiasmo per entrare nell'unione economico-monetaria ebbero il loro da fare nel corso degli ultimi anni per mettere ordine nella loro casa per risanare i loro bilanci per adattare i loro codici e le loro leggi adesso cominciano a intravedersi dietro l'angolo anche tutti gli altri paesi dell'Europa centro-orientale che ambiscono a far parte dell'Unione Europea e allora l'Unione Europea potrà ancora vivere allo stesso modo con un numero di soci così elevato potrà risolvere i problemi con la stessa coesione con la stessa armonia con cui li ha risolto in passato non possiamo che chiudere questa trasmissione che con un punto interrogativo ci sentiremo alla prossima trasmissione alle 8 della sera come sempre su Radio 2 alle 8 della sera 20 gennaio 2000 alle 8 della sera l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti l'Italia negli anni della guerra fredda di Sergio Romano questa è l'ultima di una serie di trasmissioni dedicata agli anni della guerra fredda e alla parte che l'Italia ebbe in quelle vicende abbiamo parlato delle condizioni dell'Europa dopo la fine del conflitto del piano Marshall con cui gli americani dettero un contributo fondamentale alla ricostruzione dell'Europa occidentale abbiamo parlato di altri avvenimenti in altre aree del mondo la nascita dello Stato alleanza che firmata nel 1949 permise ai paesi dell'Europa occidentale agli Stati Uniti e al Canada di far fronte alla minaccia sovietica e mentre in Europa ci si organizzava in funzione di quella che sembrava essere in quel momento la più pericolosa delle minacce in Cina Mao Zedong il leader del partito comunista cinese entrava a Pechino e da Pechino proclamava la nascita di un grande nuovo Stato comunista era il 1949 nel 1950 un anno dopo scoppiò la guerra di Corea uno Stato comunista la Repubblica Coreana del Nord invase la Corea del Sud l'America le Nazioni Unite intervennero contro la Corea del Nord e il conflitto fu lì per espandersi sino alla Cina la quale intervenne con una sua corpo di spedizione insomma l'Asia sembrò per un istante essere sull'orlo della catastrofe e mentre l'Asia sembrava precipitare per l'appunto verso il conflitto in Europa cominciava quello straordinario processo di integrazione europea che si è poi realizzato compiuto in parte nel corso degli ultimi anni con la creazione dell'Unione Economica e Monetaria da prima la ceca vale a dire la comunità per il carbone e per l'acciaio poi la comunità europea di difesa che malauratamente non venne poi ratificata dal Parlamento francese ma negli anni immediatamente successivi il rilancio del processo di integrazione europea con la firma Roma dei trattati per il mercato comune il processo di decolonizzazione continuava abbiamo parlato della guerra di Algeria abbiamo parlato della guerra del Vietnam vale a dire di una guerra in cui gli americani furono coinvolti per molti anni da cui uscirono poi con una sorta di sconfitta abbiamo parlato della cecoslovacchia nel 1968 e dell'invasione sovietica della cecoslovacchia abbiamo parlato di ciò che accade in Iran verso la fine degli anni settanta quando il regime dello Shah fu travolto da una rivoluzione politico-religiosa in cui comincia a manifestarsi un fenomeno con cui faremo le spese più volte nel corso degli anni seguenti quello del fondamentalismo islamico abbiamo parlato anche del crollo del sistema sovietico alla fine degli anni ottanta le riforme fallite di Gorbaciov l'inutile tentativo di riformare economia e partito fino al collasso fra il 1989 e il 1991 finisce così la guerra fredda ma cominciano altre guerre e anche di questo abbiamo parlato la guerra cecena abbiamo parlato della prima guerra del golfo della liquefazione dell'Africa il continente africano si è dissolto per così dire la fine della guerra fredda ha avuto in Africa malauguratamente effetti e ripercussioni sfavorevoli terminò quella finanziamenti che provenivano dai due blocchi e l'Africa finì per precipitare nel disordine di tutto questo abbiamo parlato adesso cercheremo di parlare dei grandi protagonisti della scena mondiale alla fine degli anni 90 e agli inizi del 2000 vale a dire alla vigilia di un grande avvenimento che ha cambiato la storia l'11 settembre del 2001 parliamo dei grandi protagonisti della politica internazionale alla vigilia di quel grande avvenimento che sconvolse gli Stati Uniti e il mondo nel settembre del 2001 e parliamo anzitutto degli Stati Uniti alla fine della guerra fredda gli Stati Uniti erano e sono tuttora l'unica superpotenza mondiale questo era chiaro a tutti non sapevamo tuttavia quale uso l'America avrebbe fatto di questo straordinario potere la presidenza Clinton negli otto anni in cui Bill Clinton fu presidente degli Stati Uniti presentò caratteri abbastanza indecifrabili fu una presidenza prudente ambigua pragmatica Clinton era uomo di grandi risorse intellettuali forse intenzionalmente deciso a evitare che il suo paese prendesse delle decisioni ferme irrevocabili dette sempre qualcosa a tutti mai tutto ai grandi gruppi di pressione della società americana però noi negli anni 90 cominciamo a vedere che cose nuove stavano accadendo all'interno della società americana ci accorgemmo che nella società politica nel mondo accademico nella stampa nei circoli e nelle associazioni di studio e ricerca si stavano manifestando forze tendenze nuove apparivano soprattutto personaggi nuovi che vennero poi chiamati neoconservatori erano insofferenti di qualsiasi vincolo internazionale per gli Stati Uniti non amavano le Nazioni Unite ritenevano che anche la Nato per certi aspetti non fosse poi così utile erano comunque convinti che l'America non dovesse essere impacciata dal convincolo era forte potente aveva il diritto e il dovere di badare a se stessa con i suoi mezzi senza troppo occuparsi dei vincoli della società internazionale questa filosofia fu definita neo-isolazionismo oppure unilateralismo con la fine della presidenza Clinton il problema naturalmente è quello della successione e la successione la disputa per la successione è fra due uomini Al Gore e George Bush conoscevamo Al Gore era stato il vicepresidente all'epoca della presidenza Clinton si era praticamente adoperato per la politica ambientalista aveva un profilo politico di cui eravamo perfettamente consapevoli ma chi era George Bush chi è George Bush giovane governatore del Texas già senatore uomo passato attraverso esperienze di azienda lui stesso ama parlare della rigenerazione religiosa di cui fu protagonista nel corso della sua vita era dedito all'alcol si liberò dall'alcol e si considera un rinato un nuovo evangelico le elezioni andarono come forse ricorderete con una forte contestazione per il conteggio dei voti in Florida dopo alcune settimane di grande incertezza intervenne una decisione della Corte Suprema che interruppe il conteggio dei voti e detenta in tal modo la vittoria a Bush un fatto abbastanza inedito della storia degli Stati Uniti la proclamazione di un presidente per sentenza della Corte Suprema quando George Bush arrivò alla Casa Bianca noi vedemmo nel corteo del presidente molti di quei neoconservatori di cui avevamo letto gli articoli i saggi nel corso degli anni 90 e ci chiedemmo fino a che punto quei neoconservatori avrebbero avuto un'influenza decisiva sulla politica del nuovo presidente comunque ci accorgemmo che in questa nuova presidenza vi erano un impasto di pragmatismo di fondamentalismo religioso di aziendalismo aziendalismo perché molti dei suoi esponenti erano stati direttori amministratori delegati di grandi aziende l'eccezione sembrava essere rappresentata dal segretario di Stato il generale Powell insomma grande incertezza su quella che sarebbe stata la politica degli Stati Uniti sotto la presidenza Bush questa era l'America così come ci appariva alla vigilia dell'11 settembre parliamo ora dell'Europa dell'Unione Europea come ormai si chiamava nella seconda metà degli anni 90 noi sappiamo che alla fine degli anni 90 l'Unione Europea aveva realizzato obiettivi che mai aveva sognato di raggiungere negli anni precedenti un mercato unico una moneta unica una frontiera unica 12 paesi dell'Europa avevano nelle loro tasche la stessa moneta potevano viaggiare attraversare le frontiere spendere lo stesso denaro ovunque andassero eppure in quegli stessi anni in cui l'Europa realizzava obiettivi così straordinari e ambiziosi noi abbiamo constatato che qualche cosa stava accadendo che andava piuttosto nella direzione opposta nasceva cresceva si sviluppava all'interno delle società europee un sentimento anti-europeo minoritario ma certamente visibile e qualche volta anche particolarmente visibile partiti forze politiche uomini di governo uomini di opposizione sembravano ritenere che l'Europa anziché rappresentare una promessa come tutti noi avevamo pensato nel corso degli decenni precedenti potesse essere una minaccia perché questo nuovo tendenza che fu definita euroscettica oppure eurofobica molto probabilmente perché l'Europa fu percepita come come dire un fenomeno una componente di quel grande processo di globalizzazione che stava in quel momento suscitando forti opposizioni all'interno di alcune società europee in un certo senso è giusto l'Europa è la risposta degli europei al processo di modernizzazione e globalizzazione se noi affrontassimo in ordine sparso separatamente questa grande tendenza dell'economia mondiale verso la mondializzazione probabilmente saremmo tutti schiacciati dai grandi giganti dagli Stati Uniti dal Giappone dalla Cina dalla stessa Russia di domani comunque questa opposizione all'Europa che si andava manifestando all'interno della società europea pur minoritaria ebbe certamente un'influenza sui governi i quali dovettero tenere conto di queste reazioni non positive ai progressi che l'Europa andava facendo in quel momento e abbiamo quindi assistito tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo a un fenomeno comune in tutti i paesi dell'Unione Europea il tentativo da parte dei governi di recuperare una parte della sovranità nazionale che avevano perduta nel frattempo tuttavia l'orologio europeo continuava a ticchettare certe scadenze che erano state ormai previste da anni stavano avvicinandosi e una scadenza in particolare molto importante che era quella dell'allargamento alla fine della guerra fredda il collasso del sistema sovietico aveva gettato sulle porte dell'Europa un certo numero di orfani di orfanelli bisognosi di sicurezza e bisognosi di prosperità ed era evidente che di quegli orfanelli avremmo dovuto prima o dopo occuparci noi li abbiamo messi in sala d'aspetto abbiamo chiesto loro di attendere perché noi dovevamo nel frattempo realizzare l'euro ma passando il tempo era evidente che noi non potevamo più rinviare ulteriormente questa scadenza e a mano a mano che la scadenza si avvicinava cominciamo a fare i conti e constatammo che i paesi desiderosi di entrare maturi per entrare adatti all'adesione erano ormai dieci di cui otto appartenenti al vecchio blocco sovietico e due paesi mediterranei vale dire Cipro e Malta e non soltanto ma nel momento in cui cominciamo a parlare di quei dieci dovevamo porci il problema della Bulgaria della Romania della Turchia della Croazia della Serbia della Macedonia della Bosnia insomma sarebbe stata l'Europa a 25 a 30 a 32 a 33 governabile avremmo potuto così grandi realizzare gli obiettivi che ci eravamo proposti questa è l'Europa alla vigilia dell'11 settembre parliamo dei protagonisti della scena mondiale alla vigilia dell'11 settembre e parliamo più brevemente purtroppo di altri grandi stati la Russia la Cina il Giappone l'India l'Indonesia e il Brasile purtroppo pochi cenni soltanto la Russia esce dalla crisi finanziaria ed economica del 1998 male con grandi difficoltà ma riesce tuttavia nel 1999 ad avere finalmente un governo stabile è il governo di Vladimir Putin scelto da Boris Yeltsin alla fine del suo mandato presidenziale ma immediatamente dopo la presa del potere di Vladimir Putin come primo ministro scoppia una nuova guerra cecena ed ecco la Russia ancora una volta impegnata sul fronte del caucaso uno dei fronti che maggiormente ha segnato sanguinosamente la sua storia Putin da capo del governo diventa presidente della repubblica agli inizi del 2000 e si conferma come uomo di grande talento di grande energia ma chi è Vladimir Putin? è un ex colonnello del KGB vale a dire dei servizi segreti dell'Unione Sovietica che ha lavorato soprattutto nella Germania Orientale ma che si è dimostrato della fase immediatamente successiva alle riforme gorbacioviane come uomo di grande talento di grandi capacità organizzative stimato anche da persone di spirito democratico come il sindaco di Pietroburgo Vladimir Sobchak questa è la Russia di Putin alla vigilia dell'11 settembre la Cina nel frattempo conferma nonostante la crisi del 1998 il suo straordinario dinamismo economico il ricordo di Tiananmen ormai è lontano il paese comincia a dare segni di possibili riforme nella Costituzione nei codici comincia ad apparire sia pure con grande lentezza e con grande prudenza una Cina nuova diversa da quella che abbiamo conosciuto nel passato ma è anche una Cina che suscita nelle economie europee grandi preoccupazioni troppe contraffazioni troppe esportazioni cinesi prodotte a buon mercato con lavoro minorile o con lavoro mal retribuito insomma la Cina è al tempo stesso una grande promessa che viene tuttavia percepita da qualcuno come una minaccia il Giappone dopo una lunga stagnazione comincia a riprendersi l'India decolla l'Indonesia attraversa periodi difficili ma rimane pur sempre un grande paese con straordinarie risorse e il Brasile pur con alti e bassi rappresenta anch'esso una grande promessa e l'Italia? l'Italia ha l'euro lo ha perché ha fatto nel corso della seconda metà degli anni 90 i sacrifici necessari e li ha fatti con una notevole coerenza alla fine degli anni 90 si ha l'impressione che forse la lunga crisi del sistema politico sia terminata e infatti nel 2001 il centro-destra vince le elezioni prima le aveva vinte il centro-sinistra insomma si ha l'impressione che questo bipolarismo sia pure imperfetto cominci a funzionare e forse ma questa è una speranza al momento non ancora del tutto verificabile forse un paese che ha un migliore sistema politico avrà anche una migliore più forte presenza internazionale una più forte presenza europea ecco questi sono i maggiori protagonisti della storia alla vigilia dell'11 settembre abbiamo cercato di descriverli ciascuno con i suoi vizi e con le sue virtù ma vi sono altre forze importanti nella scena internazionale forze che non hanno un territorio non hanno uno stato non hanno un governo non hanno un presidente non hanno un capo indiscusso sono il movimento antiglobalizzatore il movimento per i diritti umani i grandi movimenti della pubblica opinione e il fondamentalismo islamico ecco i grandi protagonisti sulla scena ed ecco che l'11 settembre la scena mondiale dove tutti questi protagonisti sono per così dire allineati è improvvisamente illuminata dai vagliori di un evento a cui il mondo assiste in diretta Goethe alla battaglia di Valmidis e di aver visto la nascita di una nuova storia noi quel giorno l'11 settembre alla televisione abbiamo visto in diretta il primo episodio di una storia interamente nuova buonasera alle 8 della sera l'italia negli anni